Oggi iniziamo a parlare di Aristotele. Aristotele è senz'altro il filosofo antico più conosciuto insieme a Platone e a Socrate, quello che ha lasciato un'impronta decisiva nella storia del pensiero occidentale. Non solo nel mondo antico, il liceo fondato da Aristotele avrà una storia lunga e gloriosa, ma poi anche nel Medioevo, nel mondo cristiano, mondo cristiano che nel XIII secolo, a metà del XIII secolo, con San Tommaso d'Aquino, fa di Aristotele, come dirà Dante nella Divina Commedia, il maestro di color che sanno. Quindi alla filosofia di Aristotele, che ci apprestiamo a studiare, si ispirerà successivamente la filosofia cristiana che prenderà il nome di scolastica. La scolastica è, in parte, ancora oggi, la filosofia ufficiale della Chiesa Cattolica. Oggi si parla di neoscolastica. Pertanto il pensiero di Aristotele, cui si è poi ispirato il pensiero di San Tommaso d'Aquino, rappresenta la struttura fondamentale della visione del mondo, della filosofia cattolico-cristiana, per così dire. Quindi pensate quanta importanza ha avuto direttamente o indirettamente Aristotele per la formazione delle categorie di pensiero dell'Occidente. Considerate anche che la filosofia scolastica, nata, creata, per così dire, verso la metà del XIII secolo, giunge sostanzialmente fino al 600, al 700, sarà poi messa in discussione soltanto dalla successiva rivoluzione scientifica per quanto riguarda gli ambiti scientifici della natura, quindi la fisica, la chimica, la geologia, insomma dobbiamo aspettare la nascita della scienza moderna per immaginare il superamento delle categorie scientifiche fondate da Aristotele. Questo perché Aristotele, oltre a essere stato, dubbiamente, un grande filosofo, è stato anche un grande scienziato, il fondatore della scienza, delle scienze, dell'enciclopedia delle scienze, per così dire, nel mondo antico. È vero che utilizziamo i due termini filosofo e scienziato, filosofia e scienza, in maniera attuale, cioè noi oggi distinguiamo, in maniera piuttosto netta, tra la filosofia e la scienza. Nel mondo antico, evidentemente, secondo la visione di Platone e poi la visione di Aristotele, una distinzione netta tra questi due ambiti effettivamente non c'è, ovvero filosofia e scienza sono la stessa cosa. Le cosiddette scienze della natura o scienze positive, e quindi, ripeto, la fisica, piuttosto che la zoologia, la botanica, l'antropologia, la psicologia, queste ultime due scienze umane, ma pur sempre scienze, per Aristotele sono altrettante branche dell'unica conoscenza che lui chiama filosofia. Quindi ecco, attenzione a non confonderci nei nomi, perché i nomi, lo abbiamo già studiato, effettivamente si usano in maniera differente. Quindi filosofia, amore del sapere, con Aristotele, inizia ad assomigliare ad una ricerca che viene fatta in varie branche del sapere, quindi che si articolerà in altrettante opere dedicate ad altrettanti settori che noi oggi chiamiamo scientifici e sostanzialmente abbiamo reso autonomi nel corso del pensiero occidentale, si rendono autonomi dal 1700 in poi, nell'epoca dell'illuminismo in poi, e oggi corrispondono, grosso modo, ad altrettante facoltà universitarie. Quindi chi all'università studia fisica, evidentemente, si iscrive in quella determinata facoltà e fa quel corso di studi specifico, che ha una sua autonomia. Nel liceo di Aristotele qualcuno si sarebbe specializzato in fisica, ma l'appellativo con cui sarebbe stato chiamato sarebbe stato pur sempre filosofo, cioè amante della sapienza, quindi non esisteva una facoltà specifica per la filosofia. Dunque, Aristotele come padre, in qualche maniera, dell'enciclopedia delle scienze moderne, perché il liceo fondato da Aristotele sostanzialmente si occupa di tanti argomenti diversi. Ci sono giunte opere di Aristotele dedicate ad ogni settore della conoscenza, ripeto, dalle scienze naturali fino alle scienze umane, all'economia, alla politica, all'etica, alla retorica, opere dedicate alla zoologia. Dunque, veramente, gli interessi, la curiosità di questo grande pensatore sono stati enciclopedici a tutto tonno, a 360 gradi, per così dire. Vediamo un attimo, in due parole, il tempo di Aristotele, perché tra Aristotele e Platone c'è una generazione di differenza. Platone morirà nel 347 a.C., mentre Aristotele era nato nel 384, dunque, sostanzialmente, quando Platone muore, Aristotele è ancora piuttosto giovane, ma per vent'anni ha frequentato l'Accademia Platonica, è stato uno dei membri, forse uno dei protagonisti dell'Accademia Platonica, sicuramente uno dei discepoli più dotati, e quindi giunto all'età adulta, dopo la morte di Platone, si renderà in qualche maniera autonomo, ma fino all'età di 35-36 anni lui è, a tutti gli effetti, un discepolo di Platone. Ma che differenza c'è tra i due? Beh, Platone, indubbiamente, è un uomo che, vivendo nell'Atene, a cavallo tra il V e il IV secolo a.C., rimane profondamente attaccato al modello della polis. Platone ha vissuto le ultime fasi della guerra del Peloponniso, la tragedia del processo e della morte di Socrate, dopo la restaurazione del governo democratico, e poi ha vissuto la progressiva decadenza delle poleis greche, a cominciare dalla sua Atene. Il progetto filosofico di Platone, come abbiamo visto, è orientato fondamentalmente alla politica, ovvero il problema da cui parte la speculazione di Platone, che poi non è soltanto teoria, ma è anche prassi, ricordatevi i viaggi che Platone fa a Siracusa, i tentativi che lui mette in atto per tentare di dare corpo, di realizzare la sua visione politica. Ecco, tutta la filosofia di Platone, dal primo all'ultimo Platone, è orientata alla risoluzione del problema politico, alla questione politica. Quindi, diciamo, prende le mosse dall'esperienza del giovane Platone e dal dramma, dal trauma della morte di Socrate, del processo e della morte di Socrate. Platone è ancora ancorato alla vecchia concezione di polis, una polis che viene considerata indipendente, autonoma, e che sostanzialmente ha uno spazio che corrisponde nella mente dei cittadini alle mura della città, o si estende poco più in là delle mura della città, è vero, Atene è stata una polis imperialista, quindi ha creato, con la sua talassocrazia, ha creato uno spazio economico e politico decisamente più ampio, ma ecco, la mentalità dell'uomo greco continua ad essere ancorata ad una dimensione politico-territoriale decisamente limitata, un po' come quella dei comuni italiani nel Medioevo, tanto per intenderci. Aristotele già vive in un'epoca diversa, ormai la decadenza delle poleis si è decisamente consumata, Aristotele nasce a Stagira, Stagira è una colonia greca che si trova nella Calcidica, diciamo nell'antica Macedonia, grosso modo oggi fa parte della Grecia, sempre provincia della Macedonia, la regione della Macedonia oggi è divisa in parte tra la Grecia, in parte tra un stato ex iugoslavo che si chiama appunto Macedonia, che il termine Macedonia è un termine piuttosto conteso tra la Grecia, l'attuale Repubblica Ellenica e la Macedonia propriamente detta o impropriamente detta dipende dai punti di vista naturalmente. Quindi Aristotele nasce alla periferia del mondo greco e vive in un'epoca in cui sostanzialmente si va affermando il potere imperiale macedone, la supremazia macedone che porrà definitivamente termine all'autonomia politica delle varie poleis greche. Aristotele è noto per essere stato il laio, il maestro di Alessandro Magno, ovvero il maestro di colui che realizzerà non solo il progetto del padre Filippo di unificare sotto il controllo macedone l'intera Grecia, ma anche quello di esportare la cultura greca in Oriente dando vita a uno spazio imperiale che si estenderà al massimo della sua espansione dalla Grecia fino al fiume Indo, da una parte, quindi comprendendo la Persia, comprendendo l'Egitto, insomma tutto quell'Oriente culla delle civiltà con le quali i Greci si erano confrontati fino a quel momento che costituirà diciamo il bacino di quella cultura nota con il nome di ellenismo, quindi l'epoca in cui vive Aristotele è l'epoca effettivamente dell'ellenismo. Che cos'è l'ellenismo? Beh, l'ellenismo è la cultura che deriva dall'incontro tra quella tradizione greca di cui dicevo e le culture plurali, necessariamente plurali, del vicino Oriente, del vicino e del Medio Oriente. Quindi l'ellenismo è legato evidentemente al progetto imperiale di Alessandro Magno. E' Alessandro Magno il protagonista di questa temperie storica indubbiamente. E Aristotele ne è, insieme ad altri filosofi, ma insomma principalmente Aristotele ne è il principale protagonista dal punto di vista culturale, scientifico, filosofico, poi vedremo, lo studierete in separata sede, vedremo come l'ellenismo sarà ricco e prolifico non solo in ambito filosofico e scientifico, ma anche in ambito letterario. Ma insomma, in breve, la vita di Aristotele, abbiamo detto che nasce a Stagira nel 384 a.C., Cristo tra il 367 e il 347 si trasferisce ad Atene dove frequenta l'Accademia di Platone. Dopo la morte di Platone si reca ad Asso, una piccola città che si trova nella Troade, vicino a Troia, quindi sulle coste dell'odierna Turchia, dove costituisce una piccola comunità platonica. Insieme ad altri discepoli di Platone crea, per così dire, una succursale dell'Accademia che si trovava evidentemente ad Atene. Ad Asso, sempre ad Asso, ha l'avventura di sposare una tale, Pizia, sorella di Ermia, che è un personaggio piuttosto importante perché è il locale tiranno, quindi il capo politico, dunque Aristotele va ad imparentarsi con un personaggio piuttosto importante che probabilmente gli aprirà successivamente le porte della corte di Filippo II, il padre di Alessandro Magno. Infatti un paio d'anni dopo, nel 342, Aristotele viene invitato alla corte di Filippo per diventare precettore di Alessandro. C'era stato anche un precedente nella famiglia di Aristotele perché sappiamo che il padre Nicomaco era stato effettivamente medico 40 anni prima, molto tempo prima, era stato medico alla corte di Filippo II, ma probabilmente è stato Ermia, diciamo, a raccomandare Aristotele a Filippo. Ma insomma, per due anni si occupa di fare lezione, di fare la precettore ad Alessandro, dopodiché ritorna ad Atene nel 335 e ad Atene fonderà il famoso liceo a cui prende nome la scuola che noi frequentiamo, che voi frequentate, il liceo o noto anche come Peripato liceo viene dal fatto che questo portico dove si svolgevano le lezioni di Aristotele si trovava vicino al tempio di Apollo liceo, cioè della liscia. L'altro termine peripato da cui peripatetico quindi filosofo aristotelico è anche noto come filosofo peripatetico deriva invece dall'essere peripatetico significa l'andare camminando, l'andare passeggiando perché effettivamente le lezioni si svolgevano in parte all'aperto comunque sotto questi portici il maestro passeggiava dando lezione ai discepoli che è una modalità di fare lezione decisamente umana coinvolgente pensate che il modello peripatetico cioè quello dell'andare passeggiando sotto i portici o anche all'aria aperta sarà ripreso ma anche successivamente avrà una fortuna lunghissima nel tempo se pensate a come è fatto il cortile interno di un monastero per esempio con questi portici e poi con al centro un giardino in genere c'è un pozzo per l'acqua ma c'è poi un giardino in cui i monaci possono sostanzialmente ritrovarsi per parlare discutere pregare meditare e quando gli elementi meteorologici non lo permettono possono sempre ritirarsi sotto il portico ma in ambe i due casi c'è questo elemento della fisicità cioè del gymnasium come luogo in cui ci si esercita anima e corpo per così dire che nel mondo greco non sono affatto separati cioè esercitare il corpo quindi andare camminando respirare aria pura all'aria aperta è sostanzialmente un elemento fondamentale dello sviluppo della personalità anche della personalità intellettuale nel 323 Alessandro Magno muore giovanissimo a 33 anni e Aristotele deve allontanarsi precipitosamente da Atene e rifugiarsi a Calcide nell'Eubea deve fuggire da Atene perché dopo la morte di Alessandro Atene insorge contro i macedoni e i filo macedoni Aristotele naturalmente è nella lista di proscrizione in quanto filo macedone è associato ad Alessandro Magno essendone stato il maestro e dunque è costretto a fuggire l'anno dopo morirà in esilio Aristotele pensatore abbiamo detto assolutamente poliedrico è uno dei più importanti indubbiamente della tradizione antica nonché uno dei più importanti per lo sviluppo del pensiero occidentale in generale questo perché perché di Aristotele grazie a una serie anche di peripezie di casualità ci sono giunte moltissime opere così come nel caso di Platone quindi è interessante studiare cercare anche di capire studiare la trasmissione delle opere e cercare anche di capire con quali modalità per quali motivi ci sono giunte le opere di Aristotele beh evidentemente non ci sarebbero giunte le opere di Aristotele se non fossero state adatte o adattabili al pensiero cristiano ovvero come vi dicevo il nostro manuale è decisamente corposo per quanto riguarda i capitoli dedicati a Platone e Aristotele perché di Platone e Aristotele possediamo le opere è decisamente meno corposo nei capitoli poi vedremo dedicati altri filosofi ellenistici grandi filosofi come per esempio Zenone di Scizio o Epicuro a maggior ragione Epicuro ebbene di questi ultimi filosofi ci sono pervenuti solo frammenti alcune lettere nel caso tre lettere nel caso di Epicuro e alcune massime ma sappiamo che anche loro sono stati pensatori assolutamente prolifici evidentemente le loro opere e il loro pensiero sono state poi successivamente sottoposte ad amnazio memorie ovvero quelle opere non si sono trasmesse non sono state conservate non sono state ricopiate nel corso del Medioevo perché ritenute non in linea con il pensiero cristiano non adattabili al pensiero cristiano o anzi decisamente in opposizione al pensiero cristiano questo è il motivo per cui sostanzialmente di Aristotele e Platone ci sono giunte un numero di opere significativo che ci consente di ricostruire in maniera puntuale il loro pensiero mentre di questi altri pensatori ci sono giunte soltanto opere frammentarie soltanto pochi frammenti quindi probabilmente se la storia della trasmissione successiva fosse andata in maniera diversa anche il nostro manuale sarebbe organizzato evidentemente in maniera diversa è interessante ecco due parole sulla trasmissione delle opere di di Aristotele le opere di Aristotele vengono rimangono diciamo dopo la fine dell'impero romano dopo la separazione tra l'impero romano d'oriente e l'impero romano d'occidente rimangono in oriente anche perché sono giustamente scritte in greco quindi se ne perderà la memoria in occidente Aristotele si è conosciuto il nome di Aristotele è conosciuto sono conosciute alcune delle sue opere delle opere che lui ha destinato alla pubblicazione ma ben poca cosa mentre diciamo l'opera omnia di Aristotele giungerà in occidente attraverso la penisola iberica attraverso la mediazione dei filosofi arabi in particolare Averroè giungerà in occidente a metà del tredicesimo secolo come vi avevo già preannunziato e sarà per così dire tradotta quindi è tradotta dal greco all'arabo poi dall'arabo tradotta in latino ed è attraverso questa versione che sostanzialmente giunge e si diffonde in occidente il grande supervisore colui che ha sdoganato per così dire la filosofia di Aristotele trasformandola nella scolastica è per l'appunto San Tommaso d'Aquino ma su quali opere hanno messo le mani questi pensatori successivi questi pensatori del medioevo fondamentalmente le opere di Aristotele si dividono in due in due modalità di opera ecco di trasmissione che sono le stesse che abbiamo trovato in Platone ovvero abbiamo le opere esoteriche o acroamatiche e le opere esoteriche che differenza c'è le opere esoteriche o acroamatiche sono le opere scritte durante le lezioni tenute a voce acromatico significa questo che vengono ascoltate quindi basate sulla viva voce dell'insegnante quindi erano i canovacci di appunti stesi non sappiamo se direttamente dallo stesso Aristotele o presi dai suoi discepoli poi successivamente riorganizzati comunque erano i canovacci quindi gli appunti delle lezioni che Aristotele da buon maestro all'interno del suo liceo teneva in prima persona o attraverso l'intermediazione di altri discepoli il corpo docente del liceo era decisamente ampio decisamente vasto anche qui è interessante aprire una piccola parentesi questo vale per Aristotele forse vale anche per Platone per tanti altri pensatori antichi soprattutto per i cosiddetti capi scuola ovvero tendenzialmente si attribuisce si fa passare sotto il nome del capo dell'apripista del capo scuola tutto il lavoro intellettuale tutta la produzione realizzata all'interno della scuola magari anche opere che vengono prodotte successivamente sono sempre attribuite al capo scuola però va da sé che dietro queste opere c'è un lavoro collettivo che noi non siamo in grado di distinguere i greci non hanno la fissazione che abbiamo noi moderni per il cosiddetto copyright quindi distinguendo in maniera netta lo scritto di Tizio dallo scritto di Caio e riconoscendo a Tizio piuttosto che a Caio i suoi meriti che poi si traducono evidentemente in entrate economiche che il copyright serve a garantire questo ecco gli antichi non hanno questa visione dunque dietro Aristotele senza altro lui è l'apripirista lui è il fondatore della scuola ma dietro Aristotele dovete immaginare una comunità di scienziati ecco dediti effettivamente alla ricerca scientifica più o meno vasta i cui nomi parte risultano sconosciuti sono andati persi in altra in minima parte alcuni di questi nomi li conosciamo ma non siamo in grado di stabilire che cosa compete a Tizio piuttosto che cosa compete a Caio quindi in breve diciamo che le opere di Aristotele quelle acroamatico esoteriche ci sono giunte nella loro quasi totale interezza mentre le opere esoteriche cioè quelle che Aristotele aveva destinato alla pubblicazione per la cerchia allargata dei suoi discepoli quindi l'equivalente dei dialoghi platonici per capirci ci sono giunte in maniera solamente frammentaria in gran parte sono andate perse quindi abbiamo una situazione che è in un certo senso opposta a quella di Platone se vi ricordate per quanto riguarda le dottrine non scritte ovvero le opere esoteriche di Platone ci rimangono solo alcuni frammenti utili indubbiamente ma non ci consentono di tracciare un quadro preciso delle dottrine cosiddette dottrine non scritte mentre invece i dialoghi cioè quelli destinati alla pubblicazione quindi le opere esoteriche ex fuori quindi destinate a circolare fuori dalla cerchia ristretta dei discepoli quelle ci sono giunte nella loro interezza per Aristotele abbiamo una situazione contraria le opere esoteriche ci sono giunte le opere esoteriche invece sono andate perse in gran parte sono andate perse le opere esoteriche hanno avuto anche qui una storia abbastanza interessante Strabone storico vissuto tra primo secolo avanti Cristo e primo secolo dopo Cristo riferisce che gli scritti esoterici di Aristotele sarebbero stati ritrovati in maniera assolutamente fortunosa nella cantina dei discendenti di tale Neleo figlio di Corisco che era stato un filosofo dell'accademia platonica insomma in maniera avventurosa le opere esoteriche di Aristotele vengono tirate fuori e diciamo ripulite e poi pubblicate nel primo secolo avanti Cristo da tale Andronico Carodi in quanto fortunatamente ritrovate ripulendo una cantina ecco questa linea piuttosto avventuroso piuttosto casuale quindi pensate insomma quanto sarebbe cambiata poi la storia del pensiero occidentale se non ci fosse stata questa se non ci fosse stato questo fortunoso ritrovamento in questi appunti che compongono sostanzialmente le opere esoteriche di Aristotele abbiamo un pensiero più o meno sistematico e compiuto anche qui non dobbiamo confonderci leggendo questi libri di Aristotele abbiamo l'impressione entro certi limiti abbiamo l'impressione di un pensiero più o meno organizzato che possiamo tradurre in schemi in pagine di manuali come se effettivamente il pensiero fosse nato il pensiero di Aristotele fosse nato già compiuto perfettamente realizzato non è così il pensiero è sempre in fieri quindi dietro un'affermazione apparentemente di senso compiuto c'è un lavoro che non siamo in grado di ricostruire appieno ma c'è un lavoro di confronto di scambio di ripensamento c'è tutta la storia la biografia intellettuale di uno o più pensatori come abbiamo detto quindi ecco la prospettiva con cui abbiamo a che fare noi è una prospettiva che va presa un attimo con le molle e per quanto riguarda gli scritti ecco vi dicevo gli argomenti gli argomenti spaziano diciamo dalla logica il cosiddetto organon organo cioè strumento Aristotele è l'inventore il sistematore per così dire della logica occidentale ne abbiamo parlato a proposito di Parmelide anche Parmelide non si era effettivamente occupato direttamente di logica ma aveva semplicemente tracciato gli elementi fondamentali dell'ontologia Aristotele invece è colui il quale codifica in maniera scientifica in maniera significativa la logica e la logica di Aristotele in qualche maniera già la conoscete già la conosciamo la conoscete perché quella analisi logica che studiate sin dalle elementari effettivamente la dobbiamo nelle sue linee essenziali nelle sue categorie essenziali la dobbiamo proprio ad Aristotele attraverso una lunga tradizione non direttamente ad Aristotele ma insomma quindi opere come sull'interpretazione i analitici primi e secondi i topici gli elenchi sofistici sono le opere che Aristotele dedica alla logica o meglio gli appunti sistematizzati poi successivamente da Andronico da Rodi che riguardano l'argomento della logica poi abbiamo la metafisica metafisica opera fondamentale di Aristotele articolata in ben 14 libri che appartengono sicuramente appartengono a fasi diverse dell'evoluzione del pensiero di Aristotele il termine metafisica è un termine di nuovo conio in realtà non lo dobbiamo ad Aristotele non lo attribuiamo ad Aristotele ma proprio a chi ha sistematizzato l'opera successiva di Aristotele quindi metafisica probabilmente deriva da diciamo da una da una parola che ha un valore editoriale ovvero metatafisica dopo le cose della fisica dopo le cose della fisica ta forse si riferisce a Biblia i libri ovvero quella parte dell'opera di Aristotele seguiva era collocata nella pubblicazione dopo i libri dedicati ta fisica a Biblia dedicati allo studio della natura questa potrebbe essere una chiave di lettura di fatto la metafisica metà dopo si occupa effettivamente di quelle cose di quelle entità che esistono al di sopra al di là delle cose naturali quindi parlare di metafisica vuol dire parlare di un livello di realtà superiore ulteriore rispetto a quello della fisica ovvero a un livello di realtà che ha a che vedere con il divino infatti metafisica ha un valore anche come sinonimo anche valore di teologia e in effetti nei libri della metafisica in particolare nel dodicesimo libro Aristotele parla di teologia famoso motore immobile che è l'idea della divinità che ci viene fornita da Aristotele nella metafisica si parla altresì di ontologia cioè di scienza dell'essere in quanto tale nonché della cosiddetta dottrina delle cause cioè la metafisica si occupa della causa prima cioè della causa più significativa quella che mette in moto per così dire tutto il mondo ma di questo poi diremo gli altri argomenti trattati negli scritti esoterici di Aristotele sono indubbiamente la fisica la fisica per esempio sulla generazione corruzione sul cielo sulle meteore ma anche libri di storia naturale di zoologia per esempio sulle parti degli animali la storia degli animali dunque libri dedicati ad argomenti molto specifici ma lui si occupa anche di matematica di psicologia e poi in ultimo anche di quelle che oggi definiremmo scienze umane ovvero di politica la politica di Aristotele articolata in ben otto libri di etica l'etica la famosa etica nicomachea etica nicomaco forse il figlio di Aristotele una delle opere più lette più studiate poi abbiamo la grande etica l'etica eumea dunque l'etica eudegna scusate quindi varie opere dedicate all'etica due libri dedicati all'argomento dell'economia tre libri dedicati alla retorica dunque capite cosa significa un genio a tutto tondo un sapere di tipo enciclopedico per quanto riguarda invece i cosiddetti scritti esoterici quelli destinati alla pubblicazione di cui ci rimangono effettivamente pochi frammenti questi sono organizzati alla maniera di Platone quindi hanno una forma dialogica mentre gli altri hanno una forma diciamo sistematica prosastica hanno l'apparenza di trattati scientifici sono in effetti dei trattati scientifici invece le opere esoteriche sono scritte in forma dialogica quindi hanno anche un certo pregio letterario sono più vivaci più dinamiche per così dire come le opere di Platone e mostrano indubbiamente anche i mutamenti del pensiero aristotelico così come le opere di Platone abbiamo visto testimoniano un lento progredire un lento formarsi della visione platonica quindi non è diciamo preconfezionata sistematizzata sin dall'inizio ma che si evolve o passerà del tempo lo stesso possiamo dire di Aristotele le opere che ci sono rimaste in termini frammentari sono poi anche da questo punto di vista hanno dei titoli simili a quelli di a quelle di Platone ovvero il simposio un politico un sofista un'opera intitolata grillo che assomiglia molto al gorgia di Platone o l'eudemo che assomiglia dove si parla di immortalità dell'anima che assomiglia al fedone di Platone l'opera ecco forse più interessante più interessante perché è una vera e propria esortazione a fare filosofia come l'eudemo di Platone si intitola protrettico nel protrettico Aristotele formula un ragionamento che è rimasto celebre ovvero chi pensa sia necessario filosofare deve filosofare e chi pensa non si debba filosofare deve filosofare per dimostrare che non si deve filosofare dunque si deve filosofare in ogni caso o andarsene di qui dando l'addio alla vita poiché tutte le cose tutte le altre cose sembrano essere solo chiacchiere vaniloqui è come dire la filosofia è assolutamente imprescindibile la filosofia intesa come scelta conoscitiva associata alla vita associata all'esistenza quello di Aristotele è un bios theoreticos cioè una vita destinata alla conoscenza come qualcosa di fine a se stesso una vita dedicata alla conoscenza come missione conoscitiva ricerca pura diremmo noi oggi vedete che l'orientamento è diverso decisamente diverso rispetto a quello di Platone in cui sostanzialmente la conoscenza era sì per alcuni versi spendibile fine a se stessa ma per altri versi era associata al progetto politico era comunque subordinata al progetto politico quindi conoscere valeva la pena ma valeva la pena in funzione politica in funzione della costruzione della polis dell'organizzazione della polis invece per Aristotele che vive in epoca ellenistica la scienza diventa fine a se stessa scienza della scienza dunque filosofare significa questo anche chi volesse dimostrare che la filosofia non serve a niente che non si deve comunque filosofare deve comunque argomentare filosoficamente questo è un pochino il paradoso e in un altro passo Aristotele a proposito sempre della filosofia del valore della filosofia dice non dobbiamo perciò preoccuparci se la filosofia non si dimostra utile o vantaggiosa perché non affermiamo innanzitutto che sia vantaggiosa ma piuttosto che buona e che lo si debba scegliere la si debba scegliere non per qualcos'altro ma per se stessa cioè è assolutamente fine a se stessa infatti come noi andiamo ad Olimpia per lo spettacolo dei giochi in sé anche senza averne alcun altro vantaggio perché lo spettacolo vale in sé più di molto denaro e come non guardiamo le rappresentazioni drammatiche delle feste Dionisie in base al calcolo di ricevere qualcosa dagli attori anzi siamo proprio noi a pagare e come valutiamo molti altri spettacoli più di una gran somma di denaro così anche valuteremo la contemplazione dell'universo più che non tutte quelle cose che ci si dia molta pena per andare a vedere delle persone e che sulla scena si presentano come donne e schiavi oppure lottano o gareggiano in corse ad Olimpia e d'altra parte si consideri che non si debba contemplare senza un compenso la natura delle cose e della verità dunque la filosofia intesa come contemplazione dell'essere della natura vale molto di più di quelle forme di contemplazione che noi giudichiamo valide e fine a se stesse i giochi ad Olimpia le opere teatrali vale molto di più di quelle che noi già giudichiamo valide e fine a se stesse ecco perché va perseguita ad ogni costo va perseguita ripeto non perché sia utile economicamente utile non perché mi dia del denaro ma perché soddisfa quello che è il bisogno quella che è la virtù che è la tendenza fondamentale dell'essere umano cioè la contemplazione questo significa bios theoreticos cioè la conoscenza fine a se stessa ovvero tutte le altre attività che si svolgono nel corso della vita sono necessariamente subordinate secondo Aristotele all'attività fondamentale che è l'uso dell'intelligenza l'uomo è animale razionale è logigonzon ovvero la sua virtù fondamentale la sua caratteristica fondamentale è rappresentata dall'intelligenza e quindi dall'uso dell'intelligenza si determina per così dire la realizzazione piena della natura umana ecco perché la scienza quindi la conoscenza è assolutamente fine a se stessa la filosofia è assolutamente fine a se stessa e se avessimo il denaro lo dovremmo utilizzare lo utilizzeremmo proprio a tal fine cioè al fine al fine della conoscenza al fine del bios theoreticos bene oggi ci fermiamo qui la prossima volta iniziamo a parlare della differenza tra Platone ed Aristotele separare Platone da Aristotele è una è una sola generazione quindi non sono molti anni tuttavia la differenza di età è decisamente cruciale perché Platone lo abbiamo detto la scorsa volta vive ancora nell'epoca della polis anche se si tratta dell'epoca della decadenza della polis tuttavia la sua visione del mondo è fortemente orientata in senso politico col termine politico qui intendiamo esattamente la polis e in particolare la polis ateniese del quinto secolo e centrale nella vicenda autobiografica di Platone e nel pensiero di Platone come sappiamo è stata l'esperienza di Socrate in particolare il processo e la morte di Socrate Aristotele è più giovane ma è proiettato anche per motivi autobiografici lui non è ateniese abbiamo visto è legato alla corte macedone il padre era medico di Filippo il padre di Alessandro Magno dunque la visione di Aristotele che a sua volta sarà maestro di Alessandro è legata ad un mondo decisamente più vasto il mondo che prenderà poi forma con l'ellenismo il termine ellenismo è un termine iconio successivo ma indica esattamente quest'epoca l'epoca in cui con la spedizione di Alessandro Magno la Grecia la cultura greca che è sottomissa dal punto di vista politico dalla Macedonia la Macedonia è comunque un paese di lingua greca di cultura greca ma rispetto alla Grecia centrale è assolutamente barbarico assolutamente periferico eppure la guida politica la Macedonia diventa in questo periodo assolutamente fondamentale e le prospettive culturali si ampliano dalla Grecia propriamente detta e dal bacino del Mediterraneo orientale fino all'Indo quindi fino alla lontana penisola indiana attraverso quel territorio vastissimo che arrivava per i greci ai confini del mondo che era l'impero persiano i cui confini sostanzialmente andavano dall'Europa dalla Grecia dalle coste dell'odierna Turchia dalle coste dell'odierna Turchia fino appunto all'India e al nord alle repubbliche oggi repubbliche ex sovietiche Turkmenistan Uzbekistan o all'Afghanistan poi fino alla penisola arabica e all'Egitto dunque un mondo assolutamente enorme spropositato rispetto alle piccole realtà politiche greche pure potenti e significative quindi vedete come in una generazione la prospettiva dell'uomo di scienza del filosofo cambia in maniera clamorosa dalla visione politica di Platone si passa alla visione cosmopolitica di Aristotele in qualche maniera e di tutti i filosofi poi dell'ellenismo i quali iniziano a ragionare secondo criteri decisamente più ampli un'altra cosa interessante è notare come dal punto di vista della ricerca scientifica della ricerca filosofica mentre Platone ancora cerca di organizzare il sapere intorno al sistema della polis quindi intorno al sistema politico per Platone la filosofia ha essenzialmente una finalità politica e il ruolo del filosofo che è un uomo di scienza indubbiamente è orientato alla legge è orientato al governo della polis finché i filosofi non diventeranno uomini politici o i governanti non diventeranno filosofi le cose per la polis non miglioreranno vi ricordate questo celebre ditto ecco il filosofo dunque il filosofo platonico si propone come legislatore e la sua è una funzione eminentemente politico educativa per Aristotele invece l'uomo di scienza ha una visione decisamente più ampia dal punto di vista politico e dal punto di vista geografico il suo interesse per la scienza è un interesse fine a se stesso quindi il filosofo aristotelico è dedito come dicevamo al cosiddetto bios theoreticos cioè la vita intesa come esperienza contemplativa come vita dedicata alla scienza per la scienza quindi non alla scienza intesa come mezzo per raggiungere determinate finalità politico educative ma la scienza come esperienza fine a se stessa il gusto della scienza per la scienza e dunque il filosofo aristotelico si configura da questo punto di vista come in un certo senso come il moderno scienziato che dedica la vita o meglio che dovrebbe dedicare la vita alla ricerca in sé per sé senza altre finalità oggi in realtà spesso e volentieri la ricerca scientifica è finalizzata a ragioni di tipo economico guidata da una logica di mercato oppure tecnologico invece per Aristotele per la visione antica la scienza è assolutamente fine a se stessa e dunque quali altre differenze possiamo ravvisare tra la visione platonica e quella aristotelica affermano restando che Aristotele è discepolo di Platone quindi dubbiamente le differenze che stiamo marcando che stiamo notando tra i due pensatori sono infinitamente inferiori per così dire del tutto marginali rispetto invece alle differenze che marcano diciamo un confine netto tra la visione platonica aristotelica è quella di altri filosofi per esempio di democrito o di altri filosofi ellenisti che sono invece orientati verso concezioni del mondo per esempio di tipo mategalistico o meccanicistico quindi le ragioni che accumulano la filosofia di Platone con quella di Aristotele sono decisamente più marcate rispetto alle differenze con altri sistemi filosofici che studieremo in un secondo momento ma per il momento ora ci interessa capire quindi rimarcare invece le differenze che ci sono tra il maestro Platone e il discepolo Aristotele tutti quanti avete presente la scuola di Atene in cui praticamente Platone è rappresentato al centro della scena insieme ad Aristotele Platone che punta il dito verso l'altro mentre Aristotele più giovane più giovanile rappresentato puntando il dito verso il basso è una differenza simbolica significativa cioè mentre Platone si orienta verso l'alto cioè verso il mondo delle idee e le idee sono la struttura stessa della realtà gli interessi di Aristotele invece sono più orientati al mondo terrestre per così dire dunque sono interessi di tipo empirico ne ho visto come l'enciclopedia delle scienze di Aristotele spazia dalla biologia alla botanica alla zoologia alla geologia sostanzialmente quindi interessi decisamente più empirici più terrestri per così dire mentre gli interessi di Platone sono interessi di tipo ideale questa è una differenza molto grossolana così molto generale in particolare l'idea platonica poi lo vedremo meglio l'idea platonica che è il cuore il centro il fulcro della filosofia di Platone è trasformata concettualmente da Aristotele nella cosiddetta forma e la forma di Aristotele ha più o meno le stesse qualità dell'idea di Platone tuttavia è immanente ecco dunque due concezioni diverse quella di Platone prevede che le idee che sono i modelli stessi della realtà le forme pure della realtà cioè ciò che ha le caratteristiche formali delle cose concrete ciò che fa essere le cose concrete quello che sono ecco il modello l'idea è trascendente cioè appartiene a un altro ordine della realtà e a questo ordine della realtà questo ordine superiore si arriva in termini psichici in termini ascensionali ci si arriva con l'intelletto puro con l'anima che in sé per sé è elemento che collega l'uomo che collega l'umanità a questo mondo ulteriore che Platone chiama iper-uranio cioè mondo sovraceleste in Aristotele invece la forma cioè la matrice ciò che dà forma alle cose le fa essere quello che sono le causa per quello che sono è immanente cioè è dentro è nelle cose non è esterno rispetto alle cose non è trascendente rispetto alle cose allora vediamo i due termini trascendente vuol dire che è oltre che va oltre mentre immanente dal latino in maneo vuol dire che sta dentro in maneo che è presente nelle cose dunque in Aristotele l'idea platonica quella che lui chiama forma morfè causa della sostanza è dentro agisce dall'interno cioè fa essere le cose quello che sono ma dall'interno assomiglia vedremo poi a una sorta di codice genetico in fin dei conti oggi sappiamo accettiamo dal punto di vista biologico che ciò che fa essere gli esseri viventi per esempio quello che sono ciò che fa essere quel cane quello che è quella pianta quello che è quell'uomo quell'essere umano quello che è è una ragione causale interna che dipende dal codice genetico il codice genetico umano il DNA umano produce un organismo che ha una determinata forma ha determinate caratteristiche e funziona in una certa maniera la causa è interna in manio significa questo e lo stesso digasi per le altre forme di vita per tutto ciò che esiste ecco questa è la concezione sostanzialmente in poche parole di Aristotele quindi capite che il principio è sempre lo stesso è un principio di tipo formale quello di Platone invece l'idea agisce per così dire dall'esterno da un'altra dimensione da un altro piano di realtà creando quella situazione dualistica che poi Platone si sforza in tutte le maniere soprattutto l'ultimo Platone di giustificare di ricuscire ecco di diminuire la distanza tra il mondo iperuraneo e il mondo terrestre per esempio l'abbiamo visto nel Timeo scogitando la figura mitica del denurgo il quale con gli occhi fissi alle idee nel mondo iperuraneo assorbe i modelli che poi trasforma in cose concrete attraverso le mani che invece agiscono sul mondo materiale cioè sul mondo in cui ci troviamo anche noi esseri umani per così dire ma tra i due mondi quello iperuraneo e quello suburaneo per così dire quello sovraceleste e quello terrestre rimane c'è bisogno comunque di questa mediazione rimane questo salto di livello invece nella visione di Aristotele questo salto di livello sostanzialmente è annullato perché le forme pure agiscono dall'interno della materia sono calate per così dire nella materia ecco questa è la differenza fondamentale tra i due pensatori ma ripeto è una differenza tutto sommato poco significativa se la paragoniamo per esempio al sistema di Democrito quello di Epicuro quello del materialismo cioè degli atomi la realtà fatta di atomi che cozzando tra di loro aggregandosi tra di loro lo abbiamo studiato danno vita generano tutte le cose che noi conosciamo ma le generano non secondo finalità formali ben precise ma secondo linee meccaniche di tipo casuale di tipo casuale cioè i mondi e le cose nascono in un certo senso per caso o comunque in base ad una causalità cioè una forma di causa effetto puramente meccanica senza alcuna finalità di tipo formale quindi è una visione assolutamente estranea lontana da quella aristotelico-platolica oggi sostanzialmente la scienza si muove secondo linee di tendenza diverse ma in parte dal 600 700 in poi ritorna in auge quel meccanicismo quella fisica meccanicistica pensate che ne so la fisica lintoniana quindi quella basata sul rapporto causa-effetto in senso democriteo piuttosto che quella aristotelico-platonica anche se la visione aristotelico-platonica per moltissimi secoli quindi fino al 1600 o al 1700 fino alla nascita del metodo scientifico moderno ha rappresentato il punto di riferimento delle scienze occidentali nel modo di fare scienza occidentale ecco perché Platone e Aristotele sono indubbiamente due pensatori fondamentali per comprendere la cultura occidentale fondamentali al loro tempo ma resi ancora di più fondamentali in quanto ripresi rivisitati e lo abbiamo già detto accolti a pieno titolo nella visione del mondo cristiana Platone e Aristotele giustificano non loro in prima persona ma la loro filosofia rivisitata riadattata da Agostino e da Sant'Ommaso in qualche maniera giustificano sono atti a giustificare sono utilizzati per giustificare la visione del mondo della filosofia cristiana dunque vediamo adesso in breve l'enciclopedia aristotelica abbiamo detto che Aristotele a maggior ragione rispetto a Platone è un filosofo sistematico almeno questa è la visione che ci è giunta attraverso le sue opere che come vi dicevo si occupano un po' di tutto la visione di Platone è una visione apparentemente aperta aperta perché abbiamo visto come i dialoghi sostanzialmente ci danno un'immagine di una filosofia in movimento che si evolve dalle opere giovanili quelle socratiche che sono per lo più aporetiche quindi che non si concludono con delle conclusioni scientificamente valide ma la ricerca rimane per così dire appesa sono filosofiche nel senso socratico poi ci sono quelle della maturità la repubblica l'abbiamo visto e poi quelle della vecchiaia in cui Platone sostanzialmente diventa un po' più dottrinare però il sistema è complessivamente un sistema aperto è l'esperienza di ricerca che dura tutta la vita lo stesso si può dire per Aristotele indubbiamente le cose devono configurarsi in la stessa maniera anche per Aristotele però ecco le opere di Aristotele l'abbiamo visto essendo sostanzialmente appunti di lezioni tenute all'interno del liceo e poi in qualche maniera sistemate rivisitate appaiono appaiono al lettore contemporaneo un po' più sistematiche un po' più concluse ecco il suo sistema appare un po' più chiuso quindi meno filosofico nel senso socratico rispetto a quello platonico anche se veramente si tratta di un errore di prospettiva grossomodo c'è da dire però indubbiamente che poi la scuola aristotelica dà la vita a una vera e propria università ecco immaginiamocelo in questa maniera l'università l'università odierna deriva dalle università medievali il termine università universitas indica proprio una conoscenza di tipo universale quindi il più ampia possibile e poi le università l'università si divide in tante facoltà è il termine che utilizziamo e questo facoltà cioè capacità e ogni facoltà ha un suo preciso orientamento disciplinare quindi insomma facoltà di biologia studia la biologia piuttosto che altre discipline poi ci sono discipline di confine ci sono collegamenti con altre discipline ma insomma la facoltà di biologia riporta la laurea in biologia quella di geologia la laurea in geologia quella di filosofia o quella di lettere alle lauree rispettive lauree in filosofia e in lettere quindi che significa? significa che la concezione delle scienze contemporanee che per alcuni versi assomiglia a quella aristotelica è una concezione delle scienze decisamente specializzata molto più specializzata molto più specialistica rispetto a quella platonica e poi c'è un'altra differenza piuttosto marcata Platone lo abbiamo visto riprende indubbiamente la tradizione pitagorica e soprattutto l'ultimo Platone si concentra sulle entità numeriche quindi sulle matematiche dal resto in greco matesis significa proprio conoscenza in senso generale e questo è molto vero per Pitagora e per Platone invece Aristotele ha maturato un interesse decisamente riuspiccato per le scienze naturali con un approccio di tipo empirico cioè lui e i suoi discepoli sono veramente curiosi di studiare tutti gli aspetti del reale e di studiare in senso empirico in senso osservativo mentre la figura poi del filosofo platonico confina per alcuni versi con quella del mistico che contempla le idee che tende a una realtà soprannaturale la visione invece del filosofo aristotelico è quella dello scienziato impegnato sul campo impegnato in osservazioni fitte precise puntuali pensate al titolo in opera celebre di Aristotele che è le parti degli animali quindi evidentemente anche lui o i suoi discepoli si operano sezionando i corpi degli animali sono una sorta di manuali di anatomia per così dire quindi capite che la differenza come approccio in questo senso è piuttosto marcata e questo approccio questo interesse per le scienze di Aristotele in qualche maniera è condiviso anche dagli altri filosofi ellenisti che vedremo ecco tutte le scienze aristoteliche si ruotano intorno alla cosiddetta metafisica ecco mentre le scienze platoniche l'incendibilità delle scienze platoniche è organizzata in senso spiccatamente piramidale verticale che poi la verticalità dell'organizzazione delle scienze platoniche corrisponde alla verticalità della sua concezione del mondo in alto le idee in basso le cose materiali e c'è tutta una scala come c'è la scala in termini erotici che abbiamo studiato nel simposio quindi dall'attrazione dell'amore per il bel corpo si passa all'idea all'amore per l'idea del corpo alla fisicità pura e poi alla bella anima e su salendo diciamo lungo questa scala fino ad arrivare all'idea stessa di bene di bellezza quindi c'è una gerarchia nell'eros nel rosso platonico c'è una gerarchia nelle modalità di conoscere lo abbiamo visto nel mito della caverna dalle ombre sensibili che sono rappresentate nel mito della caverna dalle queste ombre che guizzano sul fondo mosse dal fuoco alimentate dal fuoco che sta alle spalle dei prigionieri che vanno guizzando sul fondo della caverna fino ad arrivare alla contemplazione delle cose naturali che si trovano al di fuori della caverna fino al sole è propriamente detto c'è un cammino quindi di tipo gerarchico orientato e invece in Aristotele abbiamo una visione decisamente più orizzontale più democratica ecco tra virgolette se mi passate questo termine no? al centro indubbiamente c'è la metafisica quindi un gradino sopra o meglio più che un gradino sopra si tratta di una funzione centrale ecco al centro dell'organizzazione immaginatevi le scienze quindi le varie facoltà universitarie organizzate in termini in maniera circolare intorno a un varicentro che è rappresentato dalla facoltà delle facoltà chiamiamola così che è la metafisica o scienza prima perché è scienza delle cause prime quella che studia l'essere in quanto in quanto tale allora studiare l'essere in quanto tale vuol dire occuparsi del concetto principe ecco perché la metafisica è la regina delle scienze per così dire ha una funzione centrale di varicentro perché studiare l'essere significa studiare ciò che è comune poi a tutte le altre scienze perché tutte le altre scienze studiano sostanzialmente un aspetto particolare dell'essere mentre la metafisica ovvero l'ontologia detta in altri termini ovvero la scienza delle cause prime la filosofia nel senso più proprio della parola studia l'essere in quanto tale l'essere in quanto tale confina con corrisponde con il discorso intorno al divino quindi la metafisica è anche una forma di teologia perché la causa prima in ultima istanza è quella divina ma questo lo vedremo in un secondo momento dunque concludo anche qui notando un'altra corrispondenza alla fine come la visione platonica organizzata su base verticale su base piramidale assomiglia a quella che è la repubblica platonica che è una repubblica un modello di stato verticale classista aristocratica lo abbiamo visto alla stessa maniera l'enciclopedia aristotelica in un certo senso è più aperta più democratica anche se abbiamo detto Aristotele alla fine si disinteressa di politica si occupa prevalentemente di scienza però anche questo è un segno dei tempi l'enciclopedia delle scienze di aristotele si divide in tre generi principali le scienze cosiddette teoretiche quelle pratiche quelle poi etiche cominciamo col definire che cosa si intende per scienze teoretiche teoretikos è l'aggettivo che deriva dal verbo greco feoreo io contemplo io guardo io studio da cui anche il sostantivo teoria che vuol dire appunto osservazione il termine lo abbiamo detto rimanda alla contemplazione delle cose divine teos in greco per l'appunto vuol dire dio il termine la radice la troviamo in altri termini di uso comune per esempio theatron teatro ma di che cosa si occupano le scienze teoretiche beh l'approccio delle scienze teoretiche è un approccio di tipo descrittivo ovvero studiano partendo dalle cause prime studiano la realtà in quanto tale a cominciare dalla metafisica che ha come oggetto l'essere in quanto tale ovvero la categoria più ampia più universale che ci sia poi troviamo la fisica la fisica ovvero la scienza che studia le cose della natura e le cose della natura sono contraddistinte per Aristotele dal movimento ovvero dalla generazione della corruzione movimento inteso sia in senso spaziale sia in senso temporale quindi movimento inteso come cambiamento gli oggetti cambiano luogo quindi si spostano nello spazio ma gli oggetti cambiano anche qualità cambiano caratteristiche mutano nel tempo per esempio le persone invecchiano poi troviamo la matematica matematicos in greco significa scienza in senso lato ma la matematica in particolare studia l'essere come quantità inteso come quantità ovvero come numero tutte le scienze teoretiche producono una conoscenza assolutamente disinteressata della realtà quindi si tratta di scienze fini a se stesse che producono una visione descrittiva analitica della realtà e sono delle scienze di tipo dimostrativo ovvero si parte da principi generali universali e attraverso la deduzione deduco il termine viene dal latino condurre giù da dedurre cioè da principi universali verso elementi particolari quindi attraverso la deduzione le scienze teoretiche producono una visione teoria della realtà in quanto tale visione generale la metafisica e poi la fisica e la matematica ma anche visioni poi settoriali per esempio la biologia logos discorso intorno bios alla vita ovvero studia descrive un aspetto specifico dell'essere ovvero le cose animate le cose che hanno vita oppure per esempio la sociologia che studia la società umana in quanto tale questa è una scienza moderna evidentemente non fa parte dell'encecopedia delle scienze di Aristotele ma l'impronta generale è quella che ha dato Aristotele ancora oggi quando ci muoviamo all'interno dell'encecopedia delle scienze o per esempio delle facoltà universali senza saperlo stiamo utilizzando comunque una classificazione generale che risale da Aristotele tutte le scienze teoretiche dunque studiano il necessario ciò che non può essere diverso da come è la natura è considerata assolutamente immutabile si riproduce ciclicamente e in moto ma le forme attraverso cui si riproduce quindi a cui dà vita sono sempre identiche a se stesse sono immutabili ovvero corrispondono sostanzialmente nella visione di Aristotele a quelle che erano le idee di Platone di cui dicevamo nella scorsa lezione troviamo poi le scienze pratiche e le scienze poietiche unite dal fatto che non studiano l'essere in quanto tale cioè non studiano il necessale o la realtà in sé ma studiano ciò che è possibile ovvero che può essere diverso da come è che cosa significa significa che le scienze pratiche l'etica e la politica studiano l'agire umano agire umano che può andare in una direzione ma può anche andare in un'altra direzione è appunto possibile si tratta di un tipo di scienza prescrittiva non descrittiva mi prescrive di adottare un determinato comportamento di fare una determinata cosa evidentemente me lo prescrive ma poi spetta a me soggetto umano produrre quel determinato comportamento o produrre quella determinata cosa se parliamo di scienze poietiche ovvero quelle che si occupano delle belle arti dell'arte in generale oppure delle tecniche in greco il termine arte e il termine tecnica tendono a coincidere per l'appunto tecne tecne è l'arte cioè dell'artigiano non solo la bella arte quella del pittore anche l'arte dell'artigiano del fabbro del falegname e la tecnica è per l'appunto il prodotto del lavoro di questo di quel tecnico del fabbro del falegname e così via poi alcune arti sono belle arti hanno lo scopo cioè di intrattenere o di stimolare la sensibilità degli esseri umani per esempio il teatro o la poesia propriamente detta o la musica e così via quindi creano un immediato impiego di tipo strumentale ma sono comunque frutto frutto dell'agire umano quindi possono essere in una determinata maniera ma possono essere anche in un'altra maniera possono essere migliori o peggiori secondo determinati standard determinati criteri di bellezza o di utilità di praticità di utilità torniamo alle cosiddette scienze pratiche pratico l'aggettivo pratico viene dal verbo greco prasso pratto da cui prassi in italiano prasso vuol dire io agisco faccio nel senso di produrre un determinato comportamento agire ecco che la scienza dell'agire che è per l'appunto una scienza prescrittiva che mi dà delle indicazioni ma che si mantiene nella sfera del possibile dunque non può essere dedotta in termini puramente dimostrativi come una scienza teoretica è una scienza che mi indica cosa fare ebbene le scienze pratiche sono sostanzialmente l'etica ethos in greco significa costume abito abitudine l'etica si occupa del comportamento dal punto di vista del singolo individuo quindi sono delle prescrizioni che riguardano il comportamento dell'uomo visto singolarmente i buoni costumi le buone abitudini e quelle che noi deniamo buona educazione sostanzialmente si producono nel tempo si conquistano nel tempo si fortificano nel tempo a produrre un buon comportamento è in greco la cosiddetta paideia cioè la conduzione la corretta conduzione del paes del panciullo del ragazzo cioè la buona educazione diremmo in italiano che non è affatto scontata è possibile tant'è vero che esistono moltissime persone ben educate ma anche molte persone male educate il termine educazione è l'equivalente di provenienza latina del termine greco paideia come sappiamo poi c'è la politica politikos tecne l'arte politica è una scienza pratica che studia il comportamento dell'uomo visto come polites cioè come cittadino cioè come membro di una collettività quindi la scienza politica si occupa di prescrivere il corretto comportamento dell'uomo dal punto di vista della polis cioè come membro di una comunità le scienze poetiche invece le belle arti e le tecniche come dicevo prima producono degli oggetti ulteriori danno vita degli oggetti ulteriori rispetto al soggetto agente mentre le scienze pratiche producono dei comportamenti degli atteggiamenti quindi si riferiscono a ciò che è bene a ciò che è male in termini individuali e termini collettivi etica e politica bene le scienze poetiche invece producono oggetti ulteriori altri rispetto al soggetto che li produce per esempio un oggetto tecnico una ruota la ruota di un carro oppure un ferro di cavallo se parliamo della produzione di un artigiano una produzione tecnica cioè del maniscalco oppure un poema un poema avete notato la comune radice con poietico il poema è produzione del poeta ma il poema prima che il poeta lo creasse non esisteva se non forse nella mente di qualche dio allora poietico viene dal verbo greco poieo che vuol dire sempre fare ma in un'altra accezione cioè produrre dare vita creare quindi non agire ma creare produrre il poema è appunto una produzione una creazione prima non c'era poi inizia ad essere lo stesso dicasi per il ferro di cavallo che in natura evidentemente non esiste ma è una produzione umana bene quello che in particolare ci interessa adesso è la principale tra le scienze la scienza delle scienze ovvero la metafisica o anche filosofia prima questo è il termine che usa effettivamente Aristotele perché la metafisica perché la metafisica si occupa del più universale dei concetti quindi del più universale tra i punti di vista scientifici vi dicevo io la realtà la posso dividere in settori e posso studiare ciascun settore limitandone per così dire l'ambito quello della biologia e quello della vita ma lascia fuori altri settori del reale ovvero i settori di quelle componenti della realtà che non sono vive per esempio le rocce e allora il geologo studierà evidentemente le rocce e il comportamento del gay della terra per esempio i terremoti la metafisica ovvero la ontologia poi vediamo il significato delle singole parole studia invece l'essere in quanto tale cioè la categoria più universale che ci sia perché tutte le cose prima di essere questo o quello animate o inanimate vegetali o animali piante o rocce eccetera eccetera debbono in primo luogo essere ben inteso il termine metafisica che è un termine fondamentale nella storia della filosofia non è d'iconio aristotelico non l'ha creato Aristotele non lo troviamo nelle opere aristoteliche risale invece un filosofo operante nel primo secolo a.C. tale Andronico di Rodi che rimettendo a posto ripubblicando le opere di Aristotele riordinandole per pubblicarle pose i libri di filosofia prima dopo quelli di fisica da qui la dizione metà ta fisica metafisica metà dopo ta fisica sottointeso biblia dopo i libri della fisica cioè dopo i libri che si occupavano della fisica ovvero degli oggetti in movimento l'ambito specifico della metafisica dicevo prima che non è specifico è il più generale che ci sia è quello delle cause prime o dei principi primi e infatti Aristotele usa proprio questo termine filosofia prima ovvero scienza che si occupa delle cause prime delle cause più generali e allora vediamo i vari termini aitiologia logos logia il termine è sempre lo stesso discorso intorno discorso scientifico intorno aitiai le cause allora dal punto di vista aitiologico è una brutta parola ma me la consentite la metafisica studia la causa prima il principio primo in questo caso non è plurale ma è sostanzialmente singolare il principio primo corrisponde lo vedremo successivamente al divino al dio cosiddetto motore immobile quello che mette in moto e da qui dipende il movimento dell'universo tutto della realtà tutta quindi la causa prima e la scienza in effetti è scienza delle cause per aristotele i medievali riprendendo aristotele dicevano scire per causas conoscere attraverso le cause conoscere per mezzo delle cause detto in termini medici fare la diagnosi diagnosis diagignosco conosco la causa e se conosco la causa comprendo il senso del fenomeno e posso intervenire sul fenomeno nel caso del medico facendo la corretta diagnosi può intervenire poi nella giusta prescrizione nella cura adeguata a quel determinato male perché ne ha colto la causa ma è anche la metafisica è anche ontologia cioè scienza dell'essere in quanto tale ontologia il significato della parola lo conosciamo on usa on è il participio presente del verbo eni del verbo esser quindi l'essere in quanto tale ma è anche usiologia usia sostanza essenza essenza tradotto alla lettera è un termine un vocabolo che deriva sempre dal verbo essere verbo greco essere eni quindi discorso intorno alla sostanza e la sostanza è uno dei concetti fondamentali della filosofia della metafisica aristotelica che poi studieremo successivamente e in ultimo la metafisica si può anche declinare come teologia in quanto si occupa dell'appunto della causa prima cioè di dio ovvero della cosiddetta sostanza immobile quindi la fisica studia le cose che si muovono che quindi in quanto tali sono soggetti al divenire sono transiunti cambiano nel tempo e nello spazio invece la metafisica studia le sostanze immobili o meglio la sostanza immobile ovvero dio adesso vediamo le parole di aristotele che sono decisamente più chiare delle mie evidentemente leggiamo due passi della metafisica il primo la scienza teoretica per eccellenza se d'altra parte esiste qualcosa di eterno e di immobile e di separabile dalla materia è evidente che la conoscenza di ciò è pertinenza di una scienza teoretica ma non certo della fisica già che questa si occupa solo di alcuni enti mobili né della matematica ma di un'altra scienza che ha la precedenza su entrambe quindi per Aristotele la metafisica ha la precedenza sia sulla matematica sia sulla fisica perché non si occupa degli enti mobili cioè di quelli soggetti al divenire ma si occupa di qualcosa di ciò che è eterno ed immobile e in quanto tale separato e separabile dalla materia cioè dal mondo in cui ci troviamo noi qui permane comunque la visione platonica che già conosciamo infatti la fisica si occupa di enti che esistono separatamente ma non sono immobili e dal canto suo la matematica si occupa di enti che sono sì immobili ma che forse non esistono separatamente e sono come presenti in una materia invece la scienza prima cioè la metafisica si occupa di cose che esistono separatamente che sono immobili allora la fisica si occupa di cose che esistono realmente ce le abbiamo sotto gli occhi ma che sono infieri sono in movimento dunque sono soggetti al divenire per esempio una nuvola che attraversa il cielo e che noi possiamo vedere dalla finestra quello è un oggetto in movimento esiste realmente in movimento la matematica si occupa di entità che sono di per sé immobili sono di per sé immobili i numeri stanno lì i numeri sono delle idee ma possiamo dire che i numeri esistono separatamente dal nostro pensarli? questa è la diciamo vexata questio che contrappone Aristotele a Platone e che rappresenta sostanzialmente il punto di passaggio il punto di svolta da Platone ad Aristotele ovvero le idee i concetti generali hanno esistenza propria esistono indipendentemente dal fatto che noi li pensiamo ed esistono in un mondo altro quello iperoramico per capirci oppure sono fondamentalmente entità di ragione cioè esistono nella nostra mente sono chiavi di lettura importanti che ci consentono di catalogare la realtà di comprendere la realtà ma esistono anche in quanto entità reali dotate di una loro realtà indipendente e indipendentemente di questo Aristotele dubita notare il forze la filosofia di Aristotele è infieri ve l'ho detto sostanzialmente quel forze indica proprio questo Aristotele sta facendo un percorso un percorso che alla fine lo porterà allontanarsi da Platone ma lì il forze è estremamente pesante ci sto lavorando forse la matematica si riferisce a oggetti che stanno solo nella mente teoretica dell'uomo ma che non esistono indipendentemente o forse hanno una loro qualche tipologia di esistenza ma insomma andiamo avanti la scienza prima massimo sapere teoretico si occupa di oggetti immobili indipendenti e assolutamente primi quindi incausati primi significa questo che non vengono dopo nessun'altra cosa ovvero hanno quella caratteristica di archè archomai ricordate il verbo archomai io principio io inizio e siccome inizio comando guido così via da cui archonte che è la suprema magistratura ad Atene quindi sono archè la scienza prima si occupa dell'inizio del principio primo assolto e incausato cioè dell'essere in quanto tale o di dio motore immobile e se tutte le cause sono necessariamente eterne a maggior ragione lo sono quelle di cui si occupa questa scienza giacché esse sono cause di quelle cose divine che si manifestano ai sensi nostri ecco qui il termine divino dunque la metafisica è anche fondamentalmente teologia quelle cose divine che si manifestano ai sensi nostri sono quelle che derivano dalla causa prima la causa prima è divina ma anche le cause seconde terze quarte e così via nonché i fenomeni derivati derivano dalla causa prima cioè dal divino e quindi sono manifestazioni indirette del divino quindi ci saranno tre specie di filosofie teoretiche cioè la matematica la fisica e la teologia essendo abbastanza chiaro che se la divinità è presente in qualche luogo essa è presente in una natura siffatta ed è indispensabile che la scienza più veneranda si occupi del genere più venerando e però se le scienze contemplative sono preferibili alle altre questa è preferibile alle altre scienze contemplative qui però significa perciò perciò se le scienze contemplative sono preferibili alle altre sono più importanti delle altre perché perché parlano ci descrivono la realtà per quello che è ciò che non può non essere quello che è non può non può non manifestarsi nel modo in cui si manifesta ebbene la metafisica tra le varie scienze teoretiche cioè matematica e fisica è quella preferibile quella suprema quella che sta più in alto ovvero è la scienza più veneranda perché da venerare perché veneranda perché parla delle cause ultime cioè parla di Dio è la scienza suprema vediamo il secondo passo la metafisica ovvero nella definizione che abbiamo dato prima la scienza dell'essere in quanto essere dell'essere in quanto tale c'è una scienza che studia l'essere in quanto essere e le proprietà che gli sono inerenti per la sua stessa natura questa scienza non si identifica con nessuna delle cosiddette scienze particolari già che nessuna delle altre ha come suo universale universale oggetto di indagine l'essere in quanto essere ma ciascuna di esse ritaglia per proprio conto una qualche parte di essere e ne studia gli attributi come fanno ad esempio le scienze matematiche quindi l'unica scienza universale veramente universale è la metafisica in quanto studia il più universale abbiamo già detto dei concetti l'essere in quanto essere le altre scienze invece si ritagliano in qualche maniera degli ambiti dei settori e poiché noi stiamo cercando i principi e le cause supreme non vi è dubbio che questi principi e queste cause sono propri di una certa realtà in virtù della sua stessa natura se pertanto proprio su questi principi avessero spinto la loro indagine quei filosofi che si diedero a ricercare gli elementi delle cose esistenti allora anche gli elementi di cui essi hanno parlato sarebbero stati proprio propri dell'essere in quanto essere e non dell'essere per accidente ecco perché anche noi dobbiamo riuscire a comprendere quali sono le cause prime dell'essere in quanto essere chi sono questi altri filosofi beh sono i filosofi che hanno preceduto Aristotele nell'indagine intorno alla realtà intorno alle cause prime cioè i presocratici ma anche gli stessi platonici se vogliamo allora se i filosofi che mi hanno preceduto eh vi ho già detto che nel primo libro della metafisica questo brano è tratto dal quarto ma nel primo libro della metafisica Aristotele aveva tracciato una breve storia della filosofia a partire dai presocratici ad arrivare fino a lui e che cosa aveva delineato in questa storia della filosofia che evidentemente lui è il termine lui è il punto d'arrivo quindi anche una sorta di autocelebrazione della filosofia aristotelica beh che i primi filosofi presocratici si erano principalmente occupati non della causa prima dell'essere in quanto tale ma delle cause materiali i presocratici in particolare cioè avevano scambiato confuso la fisica con la metafisica talepe l'acqua o l'aria di Arassimene e il primo a essersi occupato aver posto il problema dell'essere in quanto tale è naturalmente Parmenide e la scuola eleatica e poi Platone va naturalmente in quella direzione che lo abbiamo studiato ecco se i filosofi a quel tempo già dal primo momento si fossero dati a ricercare gli elementi propri delle cose esistenti allora sarebbero giunti anche loro all'autologia cioè all'essere in quanto essere piuttosto che all'essere per accidente che cosa è l'essere per accidente l'essere in quanto essere è l'essere della sostanza ciò per cui le cose sono effettivamente quello che sono cioè l'equivalente dell'idea platonica in un certo senso che cos'è l'essere per accidente beh tutto ciò che invece è possibile ma non è necessario tutto ciò che può accido in latino vuol dire accadimento accadere accido accado allora tutto ciò che può accadere ma può anche non accadere la sostanza per esempio il dato sostanziale dell'essere umano è il fatto di essere bipede in plume queste sono definizioni che dà Aristotele politicon zone animale politico logicon zone animale che ha il linguaggio che è il dono della favella nonché del del raziocinio logos queste sono definizioni essenziali cioè se una creatura ha queste caratteristiche è un essere umano il fatto che sia calvo o non calvo che abbia capelli biondi piuttosto che neri invece è una caratteristica che descrive l'essere naturalmente ma che descrive l'essere per accidente cioè assolutamente accidentale marginale rientra nella sfera del possibile può avere i capelli neri può avere i capelli biondi rimane il fatto che si tratta di un essere umano per altri motivi che sono quelli sostanziali quindi l'essere in quanto essere studia l'essenza fondamentale della realtà ovvero le cause prime nell'ultima lezione abbiamo visto che cosa intenda Aristotele con il termine metafisica e quale sia il contenuto della sua opera più importante la metafisica abbiamo detto che si occupa dell'essere in quanto essere ma che cosa significa essere in quanto essere ecco in questa lezione definiremo il concetto di essere in quanto essere che vedremo declinato in diverse maniere definiremo sia il suo aspetto logico principio di contraddizione sia il suo aspetto ontologico il concetto di sostanza e poi il rapporto tra il termine sostanza e il termine accidente quindi sarà diciamo una lezione dedicata a una serie di definizioni e ad apprendere un lessico specifico che non solo tornerà utile per comprendere appieno la visione di Aristotele ma anche diciamo per gettare le basi di quello che è il linguaggio filosofico che troveremo successivamente anche nella filosofia medievale nella filosofia rinascimentale e così via cioè questi termini aristotelici sono effettivamente imprescindibili per poter parlare le parole della filosofia e comprendere appieno il linguaggio della filosofia se considerate che la filosofia aristotelica è divenuta nel corso del XIII secolo filosofia scolastica ovvero la diciamo la rielaborazione conforme alla dottrina cristiana che effettua San Tommaso d'Aquino ecco considerate che il linguaggio della filosofia scolastica durerà sostanzialmente fino ai giorni nostri ecco quindi quei termini lì che si voglia ragionare seguendo Aristotele secondo l'Aristotele pagano o l'Aristotele riformulato rivisitato in senso cristiano oppure che si voglia contestare la filosofia aristoterica cioè il punto di vista di Aristotele comunque sia occorre parlare la lingua di Aristotele e detto tra noi la lingua di Aristotele la parliamo quotidianamente per tutta una serie di motivi che adesso vi mostrerò sostanzialmente allora la la scoperta di Aristotele sostanzialmente va sulla stessa linea di quella che abbiamo visto nell'ultimo platone insomma nell'ultimo l'ultimo platone in particolare il platone del sofista il platone dei dialoghi della vecchiaia aveva sciolto il problema parmenideo quello del sostanzialmente della negazione assoluta del non essere l'aveva sciolto in una polisemanticità di significati ovvero avevamo visto che l'essere si dice in tante maniere diverse e anche il non essere in un certo senso si dice in tante maniere diverse fondamentalmente in due maniere il non essere inteso in termini assoluti per cui una cosa o è o non è e il non essere inteso in termini relativi che poi è la differenza che c'è tra il verbo essere utilizzato in termini esistenziali per cui una cosa o è o non è presente qui dinanzi a me oppure l'essere inteso in termini predicativi cioè l'essere copulativo che unisce un attributo ad un soggetto nell'esempio che ho utilizzato nelle scorse lezioni la rosa è rossa piuttosto che la rosa è gialla oppure la rosa non è rossa indica non il fatto che la rosa in sé non esista ma semplicemente che questa rosa qui in particolare non è di colore rosso allora l'essere già l'ultimo Platone aveva dimostrato che è possibilità e quindi è polisemantico si dice in tante maniere ma non si dice a casaccio naturalmente ed è la dialettica scienza suprema dell'essere che studia indaga e definisce le varie possibilità dell'essere seguendo un percorso diciamo di collegamento tra le varie idee la dialettica sostanzialmente è lo studio dei collegamenti possibili tra le idee Aristotele in questo senso è pienamente platonico meglio riprende il cammino di Platone con un'attenzione però fondamentale non al mondo delle idee inteso separatamente di questo l'abbiamo già detto di questo abbiamo già parlato ne abbiamo parlato nella prima lezione ma l'essere inteso come qualcosa di assolutamente presente quindi qualcosa di immanente non qualcosa di trascendente cioè collocato su un altro piano della realtà e quindi difficilmente in comunicazione con questa realtà qui questa materiale quindi la visione dualistica di Platone è superata da una visione integrata organica per così dire di Aristotele fatta questa dovuta premessa anzi ricordata questa premessa andiamo a vedere in che senso l'essere si dice in tante maniere diverse l'espressione che usa Aristotele in greco è polakos leghetai ton ton l'essere leghetai si dice polakos in tante maniere diverse vediamo per esempio i quattro grandi significati sono quelli che vedete categorie accidente vero verità atto e potenza per il momento ci soffermiamo sul concetto di categoria che vuol dire categoria categoria viene dal verbo greco categoreo che significa semplicemente io esprimo un giudizio io dico qualcosa di qualche altra cosa o di qualcuno io esprimo un giudizio esprimere un giudizio vuol dire formulare una proposizione in cui c'è un soggetto un predicato e un oggetto un complemento un attributo quindi c'è un collegamento tra una parola A che è il soggetto e una parola B che è il predicato di quel soggetto questa è la frase più semplice poi ci sono frasi decisamente più complesse e così via quindi categoria categoria da categoreo significa io esprimo un giudizio quante diverse categorie ci sono cioè quante possibilità di collegamento categoriale quindi di giudizio esistono beh secondo Aristotele ecco Aristotele individua otto categorie che poi in un secondo tempo diventano dieci sostanzialmente la categoria principale è quella della sostanza vedremo poi sul termine sostanza ci soffermeremo in un secondo momento sostanza indica l'essere nella sua peculiarità fondamentale l'essere in quanto tale poi c'è la categoria della qualità della quantità relazione agire subire luogo tempo avere giacere giacere qui inteso trovarsi in una determinata situazione quindi non semplicemente giacere nel senso di stare stesi su un letto ma trovarsi in una determinata situazione avere invece avere che ne so avere in mano una pipa ecco questo è un esempio di avere la sostanza categoria fondamentale che ha sia un aspetto diciamo logico che un aspetto ontologico tutte le categorie in realtà hanno un aspetto logico e un aspetto ontologico che cosa vuol dire vuol dire che il linguaggio che è sostanzialmente l'espressione del logos cioè del pensiero nella visione di Aristotele che è una visione realistica come quella della gran parte dei filosofi antichi fotografa per così dire la realtà quindi c'è una coincidenza una sorta di coincidenza che va spiegata va mediata tra la sfera ontologica cioè la sfera dell'essere in quanto tale la sfera delle cose che esistono in sé per sé quindi che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni per così dire non gli enti immaginari ma le cose in carne ed ossa per così dire quando Aristotele parla di sostanza parla dell'essere di questa persona qui il termine che usa è todeti questa persona qui Antonio Giovanna oppure quest'albero qui oppure questo cane qui cioè parliamo quindi di cose concrete che hanno un aspetto evidentemente formale ma hanno fondamentalmente un aspetto materiale le posso toccare con mano quindi non parliamo di idee nel senso platonico del termine allora con sostanza io intendo dal punto di vista ontologico cioè dal punto di vista dell'essere in quanto tale intendo le cose che sono che posso diciamo toccare con mano posso vedere posso studiare ce le ho davanti agli occhi ce le ho ben presenti gli altri termini ecco dal punto di vista invece lingui logico linguistico cioè del pensiero e del linguaggio il concetto di sostanza corrisponde al soggetto di una frase ovvero sto per rivelarvi questa cosa che non è affatto un segreto di stato voi Aristotele lo conoscete noi Aristotele lo conosciamo perché lo pratichiamo tutti i giorni sin dalle elementari abbiamo studiato con risultati diciamo alterni risultati abbiamo studiato l'analisi logica l'analisi logica è lo studio del linguaggio che utilizziamo che dovremmo utilizzare correttamente tutti i giorni per farci capire ecco allora in una in una frase naturalmente parliamo di analisi logica in una frase la componente fondamentale è il soggetto dobbiamo individuare il soggetto anche quando traduciamo una versione di greco o di latino il primo compito è di individuare il soggetto e poi subito dopo di individuare il verbo o prima il verbo e poi il soggetto cambia poco perché il verbo è collegato al soggetto che sono ovvero le parti fondamentali del discorso dopodiché andiamo a cercare tutte le altre parole che sono complementari cioè i famosi complementi cioè tutto ciò che si collega al soggetto attraverso il predicato che può essere verbale o nominale poi si dice in tante maniere diverse iniziare a capire il motivo per cui l'essere si dice in tante maniere diverse allora la categoria fondamentale ripeto dal punto di vista ontologico e dal punto di vista logico linguistico è quella della sostanza dal punto di vista ontologico la sostanza è la cosa in sé quella che ho davanti agli occhi questa persona qui questo albero qui e così via dal punto di vista logico linguistico è il soggetto di una frase va bene le altre categorie qualità quantità relazione azione passione agire subire significano questo cioè azione attiva e azione passiva azione che io subisco il luogo il tempo l'avere e il trovarsi in un'eterniata situazione sono diciamo delle categorie complementari cioè indicano dei modi di essere della sostanza allora io ad una sostanza ad un soggetto posso aggiungere tanti complementi diversi cioè posso dire che questa persona per esempio si trova in camera sua a studiare si trova in camera sua e in camera sua sto collegando al soggetto X to de t questa persona qui Maria sto collegando uno stato in luogo per così via cioè sto dicendo che quella persona si trova in quella determinata situazione in quel determinato luogo sta studiando in camera sua cioè ho espresso un giudizio logico linguistico che fotografa una situazione concreta quindi ha un valore ontologico quindi esempio poi ne possiamo fare tantissimi per esempio la categoria della qualità della qualità possiamo dire che l'elaborato prodotto da Pinco Pallino è qualitativamente molto buono molto più che dignitoso dunque lo lo catalogo lo etichetto con la votazione numerica di 8 supponiamo beh che cosa ho espresso ho espresso un giudizio di tipo qualitativo il collegamento badate bene non è tra il soggetto tizio e il voto 8 ma tra l'elaborato di tizio e il voto 8 quindi lì la relazione è tra l'elaborato e la qualità dello stesso elaborato e così via sostanzialmente queste categorie noi le utilizziamo quotidianamente per formulare le frasi più comuni per così dire cioè che cosa facciamo quotidianamente se vogliamo parlare in maniera corretta utilizziamo il pensiero e il linguaggio per fotografare letteralmente fotografare delle situazioni concrete ontologicamente date sotto i nostri occhi e quindi in quanto tale in quanto tali pensabili quindi ecco come avevo annunciato le categorie e la sostanza si dicono dal punto di vista ontologico cioè indicano i modi fondamentali in cui la realtà si presenta e dal punto di vista gnoseologico gnoseologico indica la teoria della conoscenza gignosco gnosis io conosco conoscenza quindi il discorso gnoseologico indica il funzionamento della conoscenza cioè comprende sia l'aspetto propriamente logico quello del pensiero sia quello linguistico cioè quello della parola detta o della parola scritta per così dire quindi punto di vista gnoseologico ovvero i vari modi in cui l'essere si predica si dice delle cose i grandi insiemi che contengono o in cui si collocano tutti gli altri predicati possibili ovvero le categorie che dicevamo prima la qualità la quantità lo spazio il tempo cioè tutte le frasi che io posso formulare tutte le proposizioni che posso esprimere io soggetto conoscente io soggetto pensante si riducono ad una combinazione tra la categoria fondamentale quella della sostanza ovvero in termini anesi logica il soggetto e tutta un'altra serie di giudizi di tipo complementare che indicano degli aspetti dell'essere delle modalità secondo cui l'essere è quello che è l'essere è fondamentalmente essere però poi il suo il suo semplicemente darsi come essere come ente si esplica in tante maniere diverse cioè sarà collocato in un determinato spazio sarà collegato in un determinato tempo avrà determinate qualità si presenterà secondo una determinata quantità sarà attivo nello svolgere un'azione piuttosto che passivo eccetera eccetera e la sostanza è sostanzialmente scusate il gioco di parole ma noi usiamo il termine l'avverbio sostanzialmente proprio quando ci riferiamo a qualcosa di fondamentale ovvero la sostanza ora sostanza piccola precisazione diciamo etimologica viene dal latino deriva in italiano dal latino substanzia che è sostanzialmente la traduzione latina quella poi medievale quella della scolastica del termine greco quello che troviamo nei libri di aristotele ipo keimenon ipo keimenon ipo keimai in greco vuol dire che giace sotto che sta sotto e infatti in latino è substantis substanzia ciò che sta sotto in italiano sostanza il significato è quello o anche sostrato che vuol dire ciò che sta sotto beh ciò che è assolutamente fondamentale è l'essere in quanto tale ovvero tutte le altre cose tutti gli altri attributi si predicano si dicono dell'essere ma se non abbiamo l'essere in quanto tale cioè se non abbiamo la sostanza tutte le altre modalità di correlazione con la sostanza risulteranno assolutamente se io ad una frase tolgo il soggetto posso predicare la quantità posso predicare la qualità posso predicare quello che diavolo mi pare ma la frase non avrà alcun senso salvo i casi particolari di proposizioni in cui il soggetto è impersonale per esempio piove ma se dico è bello e non so a che cosa mi sto riferendo la frase non ha significato se dico è rosso ma non sto dicendo a che cosa si riferisce la qualità del colore rosso io non sto dicendo nulla di sensato e nulla di comprensibile dunque la sostanza in questo senso è il centro unificatore cioè il punto di riferimento non solo ontologico ma anche logico linguistico ovvero gnoseologico della metafisica del mio dire del mio pensare e la realtà allora guardate bene qui troviamo tre diversi significati univoco l'essere non è univoco come lo era in parmenide univoco vuol dire che ha un solo significato in parmenide lo abbiamo visto ma parmenide era stato già per così dire messo da parte superato dall'ultimo platone se vi ricordate nel sofista allora parmenide utilizzava il verbo essere con un significato univoco da qui tutta una serie di problemi che in qualche modo abbiamo risolto ovvero l'essere era inteso soltanto in termini esistenziali mentre l'essere abbiamo visto anche significato predicativo copulativo dunque serve a collegare un sostantivo ad un predicato poi c'è un altro significato che è quello dell'essere in termini equivoci della predicazione in termini equivoci che potremmo dire è rapportabile alla visione dei sofisti allora il linguaggio non ha un significato univoco come pretendeva parmenide ha un significato ha significati equivoci insomma posso dire tutto di tutto sostanzialmente e posso vi ricordate gorgia e posso sostanzialmente dire tutto il contrario di tutto cioè posso anche negare che l'essere sia il famoso peritumeontos il discorso intorno al non essere ovvero posso in tribunale posso ribaltare una causa vedi il caso di Elena per esempio sto parlando sempre di gorgia posso dimostrare che Elena è la donna migliore al mondo anziché sostanzialmente lei non è colpevole di alcun crimine ma è vittima di Eros vittima dei pregiudizi umani insomma posso fare discorsi equivoci quindi dare significati diversi alle parole ai miei discorsi producendo sostanzialmente una serie di sofismi utili per la retorica utili in fase diciamo in fase di discussione nei tribunali utili per si fa per dire per produrre opinioni doxai per controbattere questa o quella tesi calcistica per esempio a me piace più questa squadra a lui piace più quell'altra squadra ma con significati equivoci delle parole non costruiamo alcuna forma di scienza cioè la differenza tra un discorso scientifico che ha valore di scienza e un discorso comune banale per così dire equivoco sta proprio nel fatto che i termini in una disciplina scientifica non possono essere utilizzati in maniera equivoca cioè debbano avere un significato chiaro e distinto un significato netto altrimenti non producono discorsi scientifici questo è il motivo per cui ci alleniamo a scrivere saggi brevi in materie in discipline diverse perché ogni disciplina ha un suo lessico quindi ci sono dei collegamenti tra le parole che hanno un valore significativo scientifico chiaro e distinto e altri collegamenti presi per esempio dal linguaggio quotidiano che non hanno nessun valore scientifico quindi che risultano equivoci ma allora nelle scienze potrò parlare potrò dire una cosa sola questo è il discorso dell'univocità del dire perché se le cose stanno così non posso dire altro che quello che sostanzialmente andava affermando Parmenide che l'essere è e non essere non è manco per niente ovvero l'essere si collega gli attributi si collegano alla sostanza in maniera diversa secondo possibilità diverse cioè hanno significati diversi significati diversi che però non sono equivoci cioè non sono messi a casaccio ma sono analogici quindi ci sono significati diversi ma uniti dal comune riferimento alla sostanza questo è il significato del termine analogico che vuol dire proporzionato equilibrato dunque posso dire per esempio che per analogia un determinato attributo si collega ad una determinata sostanza ma non posso dire tutto è il contrario di tutto ecco questo è il motivo per cui l'essere e la sostanza sostanzialmente si identificano cioè corrispondono sono la stessa cosa sia dal punto di vista ontologico che dal punto di vista gnosiologico secondo possibilità diverse facciamo un esempio così forse ci capiamo meglio chiaramente ci sono degli animali che volano gli uccelli e dunque il volare avere la caratteristica la proprietà del volare è proprio di alcuni animali ma se io dico che l'asino vola sto formulando una proposizione assolutamente equivoca cioè sto stabilendo un collegamento tra il concetto di asino che è una sostanza l'asino quello in carne ed ossa che tutti quanti abbiamo presente è una caratteristica in questo caso una qualità una potenzialità dell'animale cioè quella di volare evidentemente il collegamento tra il termine asino e l'atto del volare è un collegamento equivoco quindi non è analogico cioè non è proporzionato ovvero non è coerente alla realtà avete mai visto un asino volare beh evidentemente no ecco passiamo poi alla formulazione del principio di non contraddizione formulazione assolutamente fondamentale Aristotele getta le basi della logica della logica antica che poi diventerà anche moderna e contemporanea da questo punto di vista Aristotele è assolutamente inaggirabile il principio di contraddizione è il principio fondamentale quello che serve sostanzialmente per formulare proposizioni proposizioni non contraddittorie cioè proposizioni sensate poi una proposizione può essere non contraddittoria ma non necessariamente vera magari va verificata ma in primo luogo deve essere assolutamente coerente quindi la prima formulazione da varie diverse formulazioni del principio di contraddizione la prima è è impossibile che la stessa cosa insieme inerisca e non inerisca alla medesima cosa e secondo il medesimo rispetto secondo il medesimo punto di vista secondo il medesimo significato che cosa significa è impossibile che la stessa cosa insieme inerisca o non inerisca la medesima cosa secondo il medesimo rispetto allora è impossibile che si possa collegare allo stesso soggetto un determinato attributo e nello stesso tempo non collegarlo secondo il medesimo significato cioè se io dico che Pinco Pallino in questo preciso momento si trova a casa e in questo preciso momento si trova a scuola questa seconda ipotesi è naturalmente impossibile ma comunque sia nel senso che non possiamo andare a scuola ma comunque sia è impossibile che contemporaneamente contemporaneamente si possa dire che quella determinata persona si trovi a casa e contemporaneamente si trovi in altro luogo delle due una proposizione è vera e l'altra è falsa cioè l'una esclude necessariamente l'altra o si trova a casa o non si trova a casa e il secondo significato quindi questo riguarda questa prima definizione del principio di contraddizione o di non contraddizione riguarda la possibilità di collegare un determinato predicato ad un determinato soggetto secondo un determinato tempo secondo una determinata circostanza cioè in questo momento qui e dando a quella parola il medesimo significato perché le parole hanno significati diversi quindi per esempio trovarsi a casa il verbo trovarsi trovare trovarsi il riflessivo a casa ha un determinato significato trovarsi in possesso di un oggetto e te lo ritrovi il libro di filosofia a portata di mano ha un altro significato quindi fermo restando che io sto utilizzando lo stesso verbo secondo il medesimo rispetto cioè dandogli lo stesso significato ebbene nello stesso tempo perché naturalmente le cose possono cambiare adesso mi trovo a casa ma fra un'ora esco di casa a gettare la mondezza questo al massimo posso fare dunque ora sto a casa dopo non sto più a casa le due affermazioni non sono necessariamente contraddittorie perché tra l'azione A il trovarsi a casa e l'azione B uscire a gettare la mondezza è in percorso un'ora di tempo le cose evidentemente cambiano quindi è possibile che quella sostanza uomo si carichi della mondezza e dopo aver lasciato i suoi studi vada a gettarla nei contenitori vicino al palazzo allora quindi il tempo deve essere lo stesso nel medesimo istante nel medesimo momento e utilizzando il termine nella stessa maniera trovarsi utilizzato nella stessa maniera è impossibile affermare e nello stesso tempo negare una determinata cosa una determinata qualità un determinato stato eccetera eccetera del medesimo soggetto va bene la seconda definizione invece riguarda l'essere in generale quindi è compatibile con la formulazione dell'essere che abbiamo già trovato in parmenide cioè è impossibile che la stessa cosa sia e nello stesso tempo non sia o è o non è terzium non datur non si dà la stessa possibilità una terza possibilità ed è il concetto del vero falso che significa significa che se è vera la proposizione ha la proposizione che afferma non ha non sarà vera delle due l'una è il sistema binario quello che si utilizza per esempio nelle prove a crocette vero falso se una proposizione è vera non può nello stesso tempo essere falsa e viceversa pena per l'appunto la contraddizione e qui troviamo le altre formulazioni sostanzialmente la spiegazione che ho già dato cioè è impossibile che la stessa cosa insieme inerisca e non inerisca la medesima cosa è secondo il medesimo principio secondo il medesimo rispetto ovvero l'impossibilità logica di affermare e negare nello stesso tempo uno stesso praticato e uno stesso soggetto il soggetto è il sottoscritto che si trova in covallino si trova a casa è un dato locale quindi sto esprimendo una una formulazione sto esprimendo una predicazione locativa cioè sto indicando che quel soggetto si trova in quel determinato luogo nello stesso tempo cioè alle ore dieci supponiamo e il termine trovarsi lo sto intendendo in ambe i due casi in senso locativo cioè l'essere presente in una determinata in un determinato luogo in un determinato in una determinata stanza della casa allora non posso dire e nello stesso tempo negare la medesima cosa per il medesimo rispetto è impossibile quindi che la stessa cosa sia nello stesso tempo non sia l'impossibilità ontologica in linea con il pensiero di permenide che dicevo prima dunque ogni essere ha una natura assolutamente determinata che è impossibile negare ovvero ha delle caratteristiche assolutamente necessarie allora parlando più in generale quindi facendo discorsi di tipo scientifico perché discorsi che facciamo prima il fatto di trovarsi o non trovarsi in una stanza ha naturalmente un significato logico pena la contraddizione ma riguarda una constatazione empirica riguarda la vita di tutti i giorni non ha un valore scientifico un valore scientifico invece potrebbe avercelo la classificazione degli animali supponiamo se io dico appunto che l'uomo fa parte degli ominidi dunque insieme ai primati è un ominide ma l'uomo in particolare fa parte degli ominini è un genere diverso gli ominini sono insieme ai primati ominidi i primati sono i nostri cugini in senso evolutivo cioè i gorilla gli scimpanze gli urangutang e così via sto qui sto parlando diciamo di zoologia evoluzionistica cioè sto dando delle definizioni specifiche sto dicendo che la caratteristica fondamentale supponiamo la caratteristica fondamentale dell'essere umano in linea con il pensiero di Aristotele è il fatto di essere un animale dotato di un linguaggio più o meno evoluto e di determinate capacità tecniche per così dire allora se io dico che l'essere umano è un logicon zone cioè un animale razionale sto utilizzando sto utilizzando una un'attribuzione un attributo che non posso negare quindi assolutamente necessario lo sto collegando al termine uomo che vuol dire che l'uomo per sua natura quindi questo si tratta di un attributo sostanziale non può che essere un animale razionale un animale logico altrimenti non è un uomo altrimenti supponiamo un cane piuttosto che uno scimpanse se i scimpanse hanno un linguaggio non è così evoluto come quello degli uomini ma insomma ci siamo capiti allora animale dotato di linguaggio quindi l'essere dotato di linguaggio è un attributo che dal punto di vista scientifico si può collegare necessariamente all'idea al concetto ovvero alla sostanza uomo parliamo dell'uomo in carne ed ossa naturalmente allora questa definizione qua è una definizione necessaria quindi riguarda l'essere in quanto tale cioè la sostanza in questo caso la natura dell'uomo e questa è un'affermazione che ha un valore scientifico ecco perché la sostanza ci parla dell'essere in quanto tale dell'essere 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 scusate il gioco di parole ma spero di essere stato chiaro quindi la definizione una definizione scientifica è quella che va a definire che va a studiare le caratteristiche peculiari necessarie e incontrovertibili delle cose che sono studiandone evidenziandone una natura per così dire immutabile eterna cioè gli uomini in carne ed ossa cambiano gli uomini sono di per sé mortali ma la loro umanità la caratteristica che li rende le caratteristiche che li rendono uomini beh quelle conformemente no all'idea platonica beh quelle sono immutabili quelle si trasmettono per così dire di generazione in generazione oggi utilizzeremo senz'altro il linguaggio della genetica allora possiamo dire che il genoma umano per dirla con aristotele contiene le caratteristiche fondamentali cioè le caratteristiche sostanziali dunque necessarie che definiscono un uomo in quanto tale non è che lo definiscono soltanto dal punto di vista logico-linguistico ma lo fanno anche essere ontologicamente cioè un uomo umano un ovulo umano fecondato da uno spermatozoo umano genererà un essere umano a tutto tondo che ha determinate caratteristiche bipede in plume eccetera eccetera logico politico e così via che cos'è la sostanza perché poi alla fin fine la domanda intorno all'essere si traduce in termini di sostanza quindi che cos'è l'essere lo possiamo dire lo possiamo esprimere in che cos'è la sostanza la domanda che cos'è l'essere corrisponde alla domanda che cos'è la sostanza la sostanza è in primo luogo lo abbiamo detto l'individuo concreto cioè questa persona qui questo albero qui questo animale qui questo essere umano qui e così via il termine che usa Aristotele è todeti proprio questo qui è l'ente autonomo dotato di vita propria quindi questa è la differenza marcata con Platone è proprio questa non abbiamo un'idea staccata dalla materia è provvisoriamente collegata alla materia ma abbiamo un tutto organico un tutto organico infatti vedremo poi quando parleremo della psicologia che un'altra delle definizioni che dà Aristotele di essere umano è sinolo sinolon cioè tutt'uno sinolon significa questo un tutt'uno di psiche e soma di anima e corpo ovvero di forma l'anima materia il corpo ma un tutt'uno cioè non esiste in maniera separata e infatti quindi il termine sinolo la sostanza è l'essere dell'essenza la cosa esistente definiamo adesso questi termini altrimenti corriamo il rischio di fraintendere capite perché il lessico qui è assolutamente fondamentale allora la sostanza è l'essere dell'essenza significa la cosa esistenza cos'è l'essere che cos'è l'essenza con essere intendiamo il fatto che quella determinata cosa lì esista sia presente e quindi che riguarda per esempio nel campo della nostra percezione sensibile avvertiamo la presenza di quella cosa lì cioè esiste concretamente si dà nella realtà che cos'è l'essenza l'essenza invece è la forma ci sono le caratteristiche peculiari che rendono quella cosa quella determinata cosa e non un'altra cosa allora quella forma quelle caratteristiche quell'insieme di qualità che fanno essere un uomo un uomo e non uno scimpanzè quindi io ho due creature vado allo zoo vedo uno che sta fuori dalla gabbia uno che sta dentro la gabbia e quello che sta dentro la gabbia purtroppo è lo scimpanzè forse siamo noi uomini dipende dai punti di vista insomma allora dirò che quella cosa lì che esiste allora sono due cose che esistono quindi sono due sostanze lo scimpanzè è lì è presente esiste ontologicamente dato l'uomo ontologicamente dato e lì in piedi esiste perché quello lo chiamo uomo e quello lo chiamo scimpanzè perché la creatura ha quella che chiamo uomo ha determinate caratteristiche ha una posizione retta parla un linguaggio per me comprensibile visto che sono un altro uomo non è dotato di pelliccia eccetera eccetera perché quell'altro lo chiamo scimpanzè beh ha una conformazione del corpo diverso ha un comportamento diverso è un quadrumane non è un bipede ha la pelliccia eccetera eccetera allora l'essere indica la presenza dell'uomo e della scimmia e dello scimpanzè l'essenza consiste nell'insieme delle caratteristiche delle qualità necessarie non diciamo accidentali non casuali non relative ma necessarie per definire quello un essere umano e quell'altro uno scimpanzè va bene che vuol dire caratteristiche essenziali cioè necessarie beh per esempio posso dire che l'uomo ci sono due uomini un uomo in quel momento sta guardando lo scimpanzè ma è in piedi l'altro uomo invece è seduto su una panchina allora in ambe i due casi si tratta di uomini sono indubbiamente degli esseri umani anche quello seduto è un bipede in questo momento è seduto il fatto che sia seduto il personaggio A mentre il personaggio B sia in piedi è un fatto accidentale cioè io posso produrre una proposizione di questo genere il signor A è seduto il signor B è in piedi ciò non toglie che sia A sia B siano degli esseri umani allora l'essenza dell'essere umano è salva dunque l'essenza dell'essere umano è un predicato di tipo sostanziale cioè esprime qualcosa di necessario rispetto alla natura di A e di B in ambe i due casi esseri umani invece il fatto di trovarsi seduti o in piedi esprime un fatto una circostanza quella che Aristotele chiama accidente accidentale casuale poteva capitare così poteva capitare in un'altra maniera l'essere umano può essere seduto può essere in piedi può stare camminando può essere sdraiato cioè non toglie che è un essere umano quindi io posso predicare l'essere umano tante cose che sono per così dire relative accidentali incidentali cioè non vanno ad intaccare la sua natura umana ma fungono da corollari della sua natura umana esprimono delle possibilità della natura umana lo stare seduto lo stare sdraiato e così via per esempio un quadrupede difficilmente riesce a stare sdraiato sulla schiena un essere umano invece accidentalmente può stare sdraiato sulla schiena è un accidente che però riguarda la sostanza specifica essere umano quello che Aristotele definisce un accidente eterno poi ci sono degli accidenti diciamo puramente casuali d'accordo quindi gli accidenti sono sempre delle attribuzioni secondarie che non mettono in discussione le caratteristiche fondamentali di questa o di quella sostanza ci sono degli accidenti che possono capitare soltanto a quella determinata forma cioè a quella determinata sostanza per esempio lo stare sdraiato sulla schiena per quanto riguarda l'uomo e ci sono poi degli accidenti che evidentemente possono capitare tanto alla sostanza X quanto alla sostanza Y per esempio se io dico che in questo momento l'essere umano A sta mangiando un gelato e l'essere umano e l'essere scimmia scimpanzè B sta mangiando un un cocomero per così dire in ambito i casi sto facendo una predicazione accidentale simile analogica cioè quello sta mangiando A sta mangiando B sta mangiando tutte e due le creature diventi mangiano e quindi però non sto dicendo qualche cosa che mette in discussione la natura dello scimpanzè piuttosto che la natura dell'uomo da qui non posso dedurre che lo scimpanzè è uguale all'uomo perché il fatto di mangiare in questo momento qui è puramente accidentale dunque spero di essere stato chiaro capite che la materia è piuttosto complessa abbiamo detto quindi che cos'è la sostanza in primo luogo è il sinolo dunque l'unione di materia e di forma quindi è la la persona in carne ed ossa il to de ti dicevamo che cos'è la materia beh la materia è ciò di cui una determinata cosa è fatta cioè l'elemento ricettivo la materia è la mia materia organica la materia organica è quella che fa quel corpo umano ma l'essere umano è indubbiamente corpo cioè senza la sua corporeità senza la sua materialità non lo posso definire umano che cos'è la forma la forma invece è l'essenza dell'essere cioè l'elemento formale il gioco di parole qui le parole cambiano l'essere dell'essenza è il sinolo cioè la sostanza in sé per sé la forma è l'essenza dell'essere cos'è l'essenza l'essenza sono tutte le caratteristiche necessarie fondamentali caratteristiche formali che rendono quella determinata cosa x piuttosto che y un uomo piuttosto che uno scimpanseo quindi se voglio capire quali sono le caratteristiche fondamentali della sostanza beh mi debbo rivolgere debbo studiare debbo capire l'aspetto formale cioè il suo aspetto essenziale la materia in questo modo diciamo non è superflua perché la materia è fondamentale per farmi definire la sostanza senza materia non c'è sostanza ma le caratteristiche che io posso dire e pensare di una sostanza le trovo nella forma per così dire quindi la forma è l'elemento attivo la sostanza poi si distingue dall'accidente come dicevamo cioè da quelle qualità che invece che non sono necessarie ma sono semplicemente possibili era l'esempio che facevo prima cioè è possibile che un essere umano sia seduto piuttosto che stia in piedi a guardare lo scimpanseo nella sua gabbia ciò non toglie che sempre umano sia quindi si tratta di caratteristiche casuali fortuite eccetera eccetera quindi capite qual è la distinzione tra una predicazione che collega un soggetto un sostantivo ad una caratteristica peculiare specifica essenziale di quel determinato soggetto per esempio l'uomo è un animale razionale se non fosse razionale non sarebbe un uomo sarebbe qualche altra cosa e invece la predicazione per accidente collega a quella sostanza una caratteristica che non è necessaria ma è solo possibile cioè che non sminuisce che non mette in discussione il fatto che quella cosa lì sia un essere umano quel to de ti sia un essere umano ma gli collega una caratteristica secondaria soltanto possibile quindi che si può verificare in questo momento ma può non verificarsi nel momento successivo ecco per oggi ci fermiamo qui nella prossima lezione studieremo la dottrina delle quattro cause come funziona la scienza ebbene l'abbiamo detto e ci siamo basati per l'appunto su Aristotele che la scienza si basa sulla cognizione delle cause cioè un discorso che vuole essere minimamente scientifico e che dunque si distingue da un discorso che lascia il tempo che trovo a un discorso puramente retorico un discorso basato sull'opinabile ecco un discorso scientifico è caratterizzato dall'esame delle cause che producono determinati fenomeni dalla ricognizione dalla individuazione delle cause ovvero comprendere un fenomeno così come si usa fare in medicina è produrre una diagnosi dello stesso fenomeno cioè un riconoscimento di a della causa no di a più accusativo in greco indica il complemento di causa conoscere la causa che produce un determinato fenomeno significa coglierne l'essenza coglierne il perché ed ecco che la scienza occidentale da Aristotele in poi sarà fondamentalmente intesa come conoscenza delle cause filosofi scolastici nel medioevo dicevano per l'appunto scire per causas conoscere attraverso le cause per Aristotele si danno fondamentalmente quattro cause la causa formale la causa materiale la causa efficiente e la causa finale ricorro ad un esempio che fa anche Aristotele quello della statua se ci mettiamo di fronte ad una statua per esempio alla statua della Venere di Milo conservata nell'uuvre di Parigi ebbene chiameremo causa formale di quella statua la forma stessa l'aspetto della statua la forma stessa della statua che gli è impresso evidentemente l'autore lo scultore dunque una delle cause che ci serve per comprendere il perché il che l'essenza della statua è la sua forma le sue caratteristiche peculiari chiamiamo quella statua venere di Milo perché ha una configurazione assolutamente unica peculiare irripetibile e inconfondibile in questo caso che è poi caratteristica specifica dell'opera d'arte evidentemente causa materiale beh non basta evidentemente soltanto la causa formale cioè la forma le caratteristiche ci vuole anche la causa materiale altrimenti la statua che per sé non esisterebbe la causa materiale è il granito la pietra con cui è fatta quella statua che è stata lavorata dall'artista che a suo tempo l'ha scolpita dunque causa materiale della venere di Milo di quella statua è la materia una volta grezza adesso modellata quindi materia che ha ricevuto una forma e allora causa formale la prima causa materiale concreta tattile per così dire la seconda ma non bastano queste due cause c'è la causa efficiente la causa efficiente come dice anche il complemento la formula che utilizziamo anche per indicare il complemento la causa efficiente è quella che produce una determinata cosa un determinato fenomeno un determinato evento e cronologicamente si dà prima di quell'evento questo è il senso della causa efficiente la causa efficiente termini logica proposizionale è una proposizione causale poiché è accaduto il fatto x allora di conseguenza accadrà il fatto y che cos'è la causa efficiente della venere di Mino di quella statua evidentemente la causa efficiente è lo scultore stesso senza il lavoro dello scultore senza l'attività dello scultore senza la sua abilità senza la forza del suo braccio senza l'uso dello scalpello del martello usato per battere sullo scalpello la venere di Mino semplicemente non ci sarebbe non come la conosciamo noi in ultimo la causa finale che cos'è la causa finale che qui la causa finale non precede ma segue un determinato evento nella fattispecie la venere di Mino in questo caso la causa finale è il progetto l'immagine presente nella mente dell'artista che ha guidato la manifattura la realizzazione di quell'opera nonché l'intento ultimo la voleva far dono a questo o a quell'uomo potente la voleva forgiare per rendere omaggio al divino a quella divinità lì aveva in mente qualche obiettivo qualche fine un punto d'arrivo ecco il significato della causa finale allora vedete come nella creazione di quella statua abbiamo il concorso di quattro cause diverse di tutte e quattro le cause la causa formale la forma le caratteristiche specifiche peculiari di quella statua cioè tutto l'insieme delle caratteristiche che fanno essere quella cosa lì quella determinata cosa e non un'altra d'accordo? la causa formale dell'essere umano se abbiamo fatto l'esempio di un essere inanimato una statua possiamo fare anche un esempio tratto dal mondo dei viventi quindi dal mondo della biologia la causa formale dell'essere umano sono tutte quelle caratteristiche che il fatto di essere bipede di essere in plume di essere un animale politico un animale dotato di linguaggio dotato di raziocinio eccetera eccetera cioè tutte quelle caratteristiche formali che prese insieme armonicamente ci fanno dire che quella creatura lì è un essere umano e non uno scimpanzé la causa materiale dal punto di vista biologico è la corporeità quindi la materia organica ecco che compone il corpo di questa o di quella creatura ma tutte le cose che esistono tutte le sostanze che esistono il termine sostanze l'abbiamo studiato nella scorsa lezione tutte le sostanze che esistono sono forma e materia cioè hanno delle caratteristiche formali ma sono corporee sono materiali sono date sensibilmente date e il rapporto tra la forma ovvero quello che diciamo che era l'idea platonica e la materia è un rapporto diretto la forma agisce per così dire dall'interno è immanente la stessa poi ci sono la causa efficiente e la causa finale beh nella produzione per così dire di un essere umano se stiamo continuando a fare ad esempio dell'essere umano la causa efficiente saranno evidentemente i genitori la causa generativa cioè senza la presenza e senza l'azione dei due genitori x e y non avremmo la creatura z semplicemente potrebbe essere in questo caso la causa efficiente potrebbe essere l'atto sessuale e poi la causa finale ovvero il fine che il fine che quella creatura deve realizzare ciascuno di noi in potenza la nascita una serie di caratteristiche che per passare degli anni col progredire delle proprie capacità con lo svilupparsi le proprie capacità tende a realizzare deve realizzare il bambino piccolo per esempio ha ancora da realizzare in pieno la postura bipede cioè deve alzarsi in piedi il bambino piccolo gattona a quattro zampe per così dire assomiglia a un quadrumane a una sorta di scimpanse la natura bipede è caratteristica specifica caratteristica formale della specie uomo ma non è data immediatamente deve realizzarsi quindi è un fine a cui tendere dalla posizione a quattro zampe gattonando alla posizione bipede e alla posizione retta questo è un esempio di tipo diciamo biologico evolutivo all'interno della vita del singolo soggetto evidentemente in termini più astratti la causa finale potrebbe essere sempre in termini autobiografici il progetto di vita che ciascuno di noi si dà ognuno di noi matura un'idea del mondo un progetto di vita si pone degli scopi da realizzare nel corso della vita dunque la sua vita pian piano prende quelle quella forma assume quelle caratteristiche in base al punto d'arrivo al progetto allo scopo che si vuole realizzare se lo si vuole realizzare in maniera consapevole o altrimenti in maniera inconsapevole è il fine a cui tende l'azione biologica di questo o di quell'organismo abbiamo già visto la critica che Aristotele muove a Platone in particolare la critica mossa a Platone consiste nella separatezza delle idee rispetto alla materia separatezza delle idee rispetto alla materia causa di quel dualismo che abbiamo visto Platone si è sforzato di riconciliare di ridimensionare senza mai riuscirci in maniera in maniera convincente per così per Aristotele il problema lo si risolve in questa maniera cioè il principio delle cose deve stare dentro le cose stesse deve agire dall'interno ecco perché usa il termine syn olon un tutt'uno la forma e la materia agiscono come un tutt'uno un'altra volta ho fatto l'esempio che possiamo tranquillamente riproporre del DNA il DNA è l'aspetto formale intelligente per così dire che la materia organica ha installato per così dire nella sua origine stessa nel cuore della cellula i geni i filamenti i DNA animano danno forma e potenziale di sviluppo un potenziale di sviluppo che tende a qualcosa di formato di definito dal punto di vista formale dall'interno e sin dall'origine cioè sin dal momento della fecondazione dell'ovulo da parte dello spermatozoro l'organismo che così viene alla luce che così nasce dall'unione delle due cellule i due gameti per così dire ha in sé la ragione del suo essere che agisce dall'interno ecco il senso del principio delle cose che deve stare dentro le cose stesse si assiste dunque ad una moltiplicazione delle idee accanto alle cose questo è il problema che crea il dualismo platonico cioè che per conciliare l'idea con la materia l'idea della cosa con la cosa in sé con la cosa realmente esistente occorre inserire altre idee che fungano da voci intermedie vox media che sostanzialmente produrrebbero come in un gioco di specchi prospettico una superfetazione cioè una creazione illimitata e inutile di entità intermedie i numeri per esempio sono un'entità intermedia che Platone colloca tra le idee pure tra le idee più elevate e la realtà in sé per sé quella di cui si serve il demiurgo del timeo per plasmare le cose materiali e poi c'è un altro problema di fondo in cui Aristotele darà una soluzione ha già fornito una soluzione cioè il rapporto tra la caratteristica specifica precipua dell'idea cioè il suo essere simile all'essere di Parmenide vero eterna immutabile sempre identica a se stessa e gli oggetti corporei che invece sono evidentemente soggetti al divenire nel senso eratliteo del termine cambiano in continuazione nascono muoiono ma insomma come conciliare in una sostanza che è cosa unica sinolo per l'appunto il divenire con l'essere ecco se le due cose le manteniamo separate questa conciliazione evidentemente non si dà o si dà soltanto in termini astratti questa è la critica che il discepolo muove al maestro e la sua filosofia l'abbiamo già detto nasce sostanzialmente dal tentativo di conciliare la visione ideale platonica con vabbè con l'osservazione della natura l'osservazione della natura che l'abbiamo visto Aristotele compiere un po' in tutti gli ambiti in tutta l'universitas delle scienze in tutti i campi possibili e immaginabili dalla botanica alla zoologia alla geologia e così via e dunque bisogna dar conto del divenire di questo passaggio che è un dato di fatto un dato fattuale il divenire è un'evidenza primaria è un'evidenza originaria delle idee possiamo discutere del funzionamento della conoscenza umana possiamo discutere tanto più possiamo discutere intorno all'immortalità dell'anima ma indubbiamente il divenire è qualcosa che si dà come elemento costitutivo della realtà stessa è innegabile il fatto che ci si trasformi che si cresca o che si invecchia che ci si ammali che le cose cambiano cambiano intorno a noi cambiano dentro di noi noi cambiamo con le cose è un dato di fatto ma allora come dobbiamo pensare questo divenire come dobbiamo conciliare il divenire con le idee con l'essere delle idee platoniche per così dire delle forme in senso aristotelico ovvero il problema è quello che abbiamo già posto a suo tempo se le cose mutano e mutano continuamente e mutano a casaccio non secondo delle cause ben precise secondo degli standard logos ben preciso ebbene le cose non le potremmo mai conoscere diventerebbero assolutamente sfuggenti tutto sarebbe per così dire relativizzato labile dunque si dà scienza del reale si dà scienza della physis quindi scienza della natura o meglio fisica e insieme alla fisica tutte le altre scienze tutte le altre discipline nella misura in cui si è in grado di cogliere l'essenza formale quella sì immutabile cioè il logos ciò che permane immutabile quindi tutte le cose cambiano evidentemente ma non cambiano mai a casaccio cambiano secondo regole precise regole precise che in quanto tali per Platone per Aristotele per i greci sono per così dire immutabili quindi come conciliare la mutevolezza evidente delle cose che ci circondano con l'immutabilità delle leggi e delle forme che di volta in volta di generazione in generazione si ripresentano sempre identiche e che sono per così dire la causa originaria del fatto di poter conoscere la realtà perché io conosco la realtà soltanto conosco le cose soltanto che sono in grado di individuarne l'aspetto formale cioè la causa formale cioè sono in grado di farne la diagnosi per tutti allora per Parmenide abbiamo visto come il divenire è semplicemente impensabile si può parlare solo di essere e del non essere cioè del passaggio tra l'essere e il non essere quindi del non essere non si può dire nulla per Aristotele invece che cosa significa che significato ha il divenire beh il divenire è passaggio mutamento da un certo tipo di essere a un altro tipo di essere ecco il modo in cui si concilia l'essere con il divenire abbiamo detto già che per Aristotele l'essere si dice in tante maniere diverse l'essere si dice in tanti modi e altri due modi in cui si dice l'essere che quindi spiegano il cambiamento spiegano il divenire sono essere in atto ed essere in potenza dunque il divenire è passaggio dalla potenza all'atto la potenza è intesa come punto di partenza quindi l'essere in potenza è per esempio quella dell'esempio che fa Aristotele troviamo in tutti i libri evidentemente è quello del pulcino ancora prima dell'uovo che cos'è l'uovo l'uovo in atto formalmente lo riconosciamo in quanto tale è uovo evidentemente da uovo diventa pulcino può far generare il pulcino cioè il suo essere è duplice è in atto uovo per cui tu lo dici uovo lo chiami uovo indubbiamente ha tutte le caratteristiche formali e materiali dell'uovo ma in sé induce a in potenza la possibilità di diventare altro di svilupparsi verso una determinata direzione che è quella del pulcino una direzione che si può scientificamente determinare scientificamente studiare ecco perché si parla di passaggio da uno stato dell'essere ad un altro stato dell'essere se l'uovo diventasse a casaccio dunque fosse assolutamente imprevedibile ho davanti un uovo e quell'uovo non è un uovo è un uovo x può diventare gallina può diventare coccodrillo può diventare gabbiano eccetera eccetera ebbene non si darebbe scienza di queste cose naturali si da scienza delle cose naturali soltanto quando si riesce a identificare un essere in atto che nello stesso tempo è un essere in potenza è un collegamento preciso tra i due stati dell'essere dunque l'essere in atto dell'uovo di gallina significa essere in potenza del pulcino l'essere in atto del pulcino significa l'essere in potenza della gallina quindi il punto di partenza è la potenza sono le potenzialità il punto d'arrivo è l'attualità ciò che è possibile ciò che è potenziale diventa attuale cioè si realizza cioè prende forma ecco che i due termini collegati sono materia e forma la potenza pura la potenzialità pura per Aristotele è rappresentata dalla materia brutta più è brutta la materia cioè meno è formata la materia meno caratteristica la materia più essa è potenzialmente ricca è pur sempre un modo di essere in potenza dunque facciamo un esempio se io prendo del granito poi spetterà la capacità di questo di quello scultore il granito in sé per sé può diventare qualsiasi tipo di forma può diventare la venere di vino ma può anche diventare il discobolo può anche diventare il lottatore può diventare un satiro beh dipende dalla capacità immaginativa e dal modello formale che sceglie questo scultore dunque la materia è la materia bruta è ciò che ha massimo grado la potenza la potenzialità man mano che la potenza si trasforma in atto la capacità di cambiare di divenire di quella determinata cosa di quella determinata sostanza inevitabilmente va scemando va diminuendo cioè per così dire l'energia potenziale man mano che si trasforma in atto perde la sua capacità di produrre cose in divenire no? è quella che Aristotele chiama energeia energeia cioè la capacità tutta potenziale di svolgere un ergon lavoro capacità che è en è dentro quella cosa lì l'entelechia altro concetto aristotelico è invece il telos telos en telos che è presente all'interno di quella determinata sostanza il telos che cos'è? è la causa finale la causa finale in questo caso qui è il formale è la forma ovvero l'uovo della gallina per tornare all'esempio precedente ha in sé la capacità energeia di trasformarsi e di realizzare una determinata forma che è quella della gallina questo telos questa causa finale ce l'ha per così dire implicita e la trasformazione da uovo a pulcino a gallina è cioè il divenire da uovo a pulcino a gallina è il passaggio da un determinato stato dell'essere in potenza a successivi stati di maggiore o minore attualità attualizzazione lo stadio intermedio quello del pulcino evidentemente sarà più attuale avrà più caratteristiche formali dell'uovo ma è tanto vero che io prendo un uovo e non sono in grado così a priori di dire che si tratti di un uovo di gallina o che produrrà un pulcino bianco piuttosto che giallo piuttosto che nero e così via d'accordo cioè un uovo è più formalmente generico di un pulcino già il pulcino ha delle caratteristiche formali più spiccate ma ancora più spiccate saranno le caratteristiche della gallina in cui la quantità per così dire le caratteristiche formali quindi l'attualità su essersi realizzata in quanto gallina sarà predominante rispetto all'opportunità e questo schema dell'atto e della potenza lo possiamo utilizzare evidentemente in molti altri settori anche in quello pratico esistenziale in quello etico un essere umano un giovane un neonato per esempio è in se per sé come l'uovo è un potenzialità pura cioè un essere umano appena nato ha delle caratteristiche potenziali scritte nel suo DNA e che poi svilupperà e perfezionerà attraverso la sua crescita culturale attraverso l'educazione quindi c'è una componente biologica e poi c'è una componente per così dire culturale ebbene quelle potenzialità quelle attitudini quelle facoltà diventeranno attuali cioè si attualizzeranno nella misura in cui quelle facoltà verranno messe in atto verranno praticate verranno irrobustite questo vale per le conoscenze per le competenze a scuola vale per le attività fisiche l'apparato muscolare va tenuto in allenamento e diventerà atto dalla potenza da tutti noi abbiamo un corpo più o meno formato soprattutto da giovani e ce l'abbiamo in potenza poi col passare del tempo lo formiamo ma lo formiamo nella misura in cui pratichiamo questo o quello sport questa o quell'attività fisica lo stesso vale anche per le attività morali per i progetti esistenziali per i progetti di vita quindi ciascuno di voi ha un carico di potenzialità più o meno elevato che riuscirà o meno a tradurre immaginiamo di sì speriamo di sì a tradurre in attualità in fatti concreti nella misura in cui lavorerà a dare forma formare informare formare vedete come il termine forma ritorna a più riprese quelle che sono le proprie plasmare quelle che sono le proprie attività l'atto è prioritario in che senso rispetto alla potenza dal punto di vista cronologico i due elementi la potenza e l'atto sembrano in realtà invertiti prima viene la potenza poi viene l'atto prima viene l'uovo poi viene il cucino e dopo ancora viene la gallina ma in che senso è prioritario l'atto l'atto è ciò a cui tende la potenzialità quindi è prioritario perché il punto d'arrivo è la causa finale è come dire la omega il telos il fine quello che spiega il funzionamento del divenire cioè il divenire va dall'alfa alla omega va dalla causa dal meno formale dal meno formato dal più materiale dalla potenzialità pura all'attualità della forma ed è l'attualità della forma che spinge il divenire cioè il divenire ha per così dire il divenire di Aristotele ha una trazione anteriore non è spinto da dietro non è una trazione posteriore non è spinto tanto dalla causa efficiente che pure è importante la causa efficiente è rappresentata principalmente dalla causa materiale ma tende a realizzarsi in quanto tende a realizzare un telos ecco il termine telechia cosa significa cioè un progetto cioè un fine cioè realizzare qualcosa di formalmente definito e questo ha un valore evidentemente sia in termini ignoseologici cioè conosco la potenza solo se conosco l'atto sia cronologici l'atto precede la potenza nel tempo questo ha un'osservazione empirica sembrerebbe falso in realtà se ci pensate il mondo così come lo presenta Aristotele poi lo studieremo quando studieremo la fisica ha origine da un atto puro che poi è il concetto del divino il famoso motore immobile pensiero di pensiero ovvero è il divino che è atto puro perfetto non ha bisogno di nulla il divino è immutabile quindi eterno ha le caratteristiche dell'essere parmenideo è perfetto è perfettamente realizzato è forma pura è atto puro ed è l'atto puro che giustifica per così dire la realtà e il mondo fisico così come noi lo conosciamo è la causa ontologica cioè la causa fondamentale il senso della potenzialità la potenza ha senso non ha nessuno in cui tende all'acqua dunque in un certo senso la gallina per così dire viene prima dell'uovo ecco la causa la causa efficiente è collegata appunto alla potenzialità quindi è collegata alla materia quindi ricordatevi questa analogia questo passaggio il massimo della potenzialità coincide col massimo della materialità e ciò che dai là al divenire ciò che da inizio al divenire è per l'appunto la causa efficiente mentre l'atto ovvero la causa finale ovvero ciò a cui tende il divenire è collegato con la forma con il divenire qualcosa di ben definito quindi causa efficiente da una parte e causa materiale insieme e dall'altra questi sono i due poli del divenire l'altra abbiamo la causa finale ciò a cui tende il movimento che a suo tempo ha anche causa formale forma c'è qualcosa di definito quindi il divenire è un passaggio molto a che vedere col mondo greco dal caos dall'indefinito da ciò che è meno organizzato da ciò che è meno strutturato a ciò che è più organizzato che è più formalmente definito il passaggio dal caotico all'organizzato al cosmos in principio come si dice la cosmogonia greca in principio era il caos baratro disorganizzato che tutto ingoia il caos è scuro tenebroso ed è potenzialità pura in principio è il caos ma poi il caos generazione dopo generazione di divinità si organizza si definisce diventa luce diventa cosmos tutto armonico tutto definito dunque ecco il funzionamento poi in realtà è un funzionamento ciclico la cosiddetta catena del divenire quindi all'inizio abbiamo pura potenza materia prima per così dire che corrisponde alla cora del mito del teneo il mito del demiurgo presente nel teneo di platone materia pura materia pura che riceve una forma e quindi diventa in parte atto continuando ad essere come forza propulsiva materia forza propulsiva del divenire atto ulteriore atto ulteriore atto ulteriore atto fino a tendere all'atto puro che è appunto Dio questo è il motivo per cui il mondo di Aristotele è un mondo attrazione anteriore come lo definito cioè abbiamo la prevalenza della causa finale del telos rispetto alla causa efficiente fermo pensando che il divenire è un gioco armonico organizzato di causa efficiente e causa finale di materia e forma di potenza in atto bene la prossima reazione la dedicheremo allo studio della teologia cioè a illustrare le caratteristiche che ha la divinità per Aristotele caratteristiche che poi ritroviamo anche ritrovate anche per esempio nella concezione di San Tommaso d'Aquino che è ripresa riprodotta da Dante Alighieri nella divina commedia nella scorsa lezione abbiamo studiato i concetti di atto e potenza abbiamo visto come per spiegare il divenire Aristotele introduce due concetti che sono riferiti all'essere quindi il divenire sarebbe passaggio da uno stato di essere in potenza ad uno stato di essere in atto dunque il divenire è oggetto di scienza può diventare oggetto di scienza in quanto se ne possono studiare le fasi di trasformazione nonché la logica di trasformazione da uno stato di potenza di potenzialità che è potenzialità formale ovvero di diventare qualche cosa di ben determinato un to de ti qualcosa che è qualcosa di sostanzialmente determinato all'attualità della stessa trasformazione quindi il divenire ha questo tipo di logica che è logica suscettibile di scienza l'argomento che studiamo oggi è un argomento apparentemente molto complesso e apparentemente scollegato dal concetto precedente mentre in realtà nella visione di Aristotele è perfettamente collegato stiamo sempre parlando di metafisica e abbiamo detto qualche lezione fa come la metafisica sia scienza dell'essere in quanto essere nonché scienza delle cause prime meglio scienza della causa prima e la causa prima è per l'appunto il divino dunque la metafisica è studio del divino in quanto tale è una forma di teologia cioè di logos di discorso scientifico intorno al divino intorno alla divinità e come si collega il discorso intorno al divino con il concetto del divenire apparentemente antitetico ma abbiamo visto antitetico comunque nella concezione di Platonica abbiamo visto come in Aristotele tutto il cosmo tutta la natura sia sostanzialmente integrata e dunque è proprio dal divenire dall'evidenza del divenire che dobbiamo prendere le mosse per arrivare a definire l'essenza di Dio abbiamo visto come il divenire si giustifica si comprende come passaggio dalla potenza all'atto e il passaggio dalla potenza all'atto è passaggio da un quid più evidente di materialità perché la materia è simbolo stesso della potenza verso successivi stati in cui la materia si formalizza sempre di più cioè assume delle caratteristiche sempre meglio definite quindi è passaggio da questa potenzialità latente a situazioni formalmente definite quindi a situazioni tendenzialmente più stabili e per l'appunto queste situazioni più stabili queste formalmente più definite sono situazioni attuali di atto di attualizzazione delle potenzialità dunque ai due estremi della catena troviamo da una parte la potenzialità pura cioè la materia bruta per così dire dall'altra parte troviamo la forma assoluta o meglio l'atto puro ed è esattamente questa la definizione o una delle definizioni che Aristotele darà del divino di Dio atto puro cioè il punto di arrivo di un processo quello del divenire di cui Dio l'atto puro rappresenta la causa finale per eccellenza dunque la causa prima abbiamo detto come in Aristotele lo abbiamo detto nella scorsa lezione la causa finale cioè il finalismo prevalga sulla causa meccanica cioè la visione di Aristotele è una visione teleologica dove nella parola teleologica abbiamo il termine telos che in greco vuol dire fine quindi è un discorso intorno ai fini in questo caso è il discorso intorno al fine ultimo cioè Dio cioè Dio è ciò verso cui tende tutto il divenire tutto il movimento delle cose naturali ecco che abbiamo una sorta di naturale per virgolette trapasso della physis della fisica in ciò che è metafisico cioè che è al di là della fisica ovvero Dio al di là della fisica perché è il punto d'arrivo del movimento in quanto tale è immobile l'altra definizione che vedremo un pochino Aristotele da di Dio è per l'appunto motore immobile ma insomma iniziamo a ragionare a seguire il ragionamento di Aristotele dopodiché leggeremo e commenteremo un paio dei passi della metafisica di Aristotele il primo in cui si dà la definizione di motore immobile il secondo in cui si dà la definizione di pensiero di pensiero noesis noesios prova dell'esistenza di Dio è quella che viene dalla cinematica cioè dall'idea stessa di divenire la cinematica è la parte della fisica la branca della fisica che studia cinesis cioè che studia il movimento l'evidenza del divenire è collegata con l'evidenza del movimento il divenire è movimento movimento nel tempo movimento nello spazio traslazione nello spazio mutamento in generale il movimento è inteso come trasformazione dalla possibilità verso la forma verso stati stati ulteriori di attualità stati ulteriori di attualità suscettibili di ulteriori perfezionamenti man mano che diciamo finché non si esaurisca la parte potenziale a beneficio di quella puramente formale tutto ciò che in modo è necessario che sia mosso da qualche altra cosa evidentemente così come per il principio di inezia il movimento di un oggetto si trasmette ma questa è una logica diciamo che si basa sulla causa efficiente al movimento di un altro oggetto cioè il movimento dell'oggetto A quando viene scagliato diciamo da un soggetto mettiamo che l'oggetto A sia una palla di biliardo la causa del movimento della palla di biliardo A è il colpo che viene impresso con la stecca dal giocatore che imprime una certa energia cinematica alla palla A che a sua volta quando la palla A dovesse colpire la palla B si trasmette alla palla B qui la causa è una causa efficiente è una causa che si trova prima del movimento del singolo oggetto cioè prima del movimento della palla A abbiamo il colpo dato dalla stecca del giocatore prima del movimento della palla B abbiamo il movimento della palla A che poi urta la palla B evidentemente tutto ciò che è in moto è necessario che sia mosso da qualche altra cosa quindi naturalmente abbiamo una causa cioè il movimento è generato da una causa ora le cause l'abbiamo visto sono due sostanzialmente due in Aristotele abbiamo visto l'altra volta la dottrina delle quattro cause parliamo delle cause del movimento fondamentalmente abbiamo la causa efficiente quella che viene prima del movimento stesso e poi la causa finale quella verso cui tende il movimento che orienta il movimento e allora Dio rappresenterebbe la causa finale ultima ciò a cui tende tutto il movimento della natura quindi adesso non dobbiamo più ragionare in piccolo prima ho fatto un esempio in piccolo quello delle palle di biliardo e ho parlato fondamentalmente di causa efficiente ora ragioniamo in termini generale quindi parliamo immaginiamo l'intera natura come qualcosa che è perennemente in movimento e immaginiamo che la causa fondamentale di tale movimento non sta prima della natura nel senso non parte per così dire dal basso ma tende verso l'alto un alto in senso metafisico in senso metaforico questo alto è la causa finale la forma pura la realizzazione assoluta cioè per l'appunto Dio quindi è un movimento come dicevo la scorsa volta a trazione anteriore ora perché è necessario un motore immobile una causa del movimento che a sua volta non sia in movimento beh perché il ragionamento ad infinitum condurrebbe inevitabilmente ad una sorta di contraddizione cioè se io sposto la causa da A a B da B a C da C a D e così in un gioco di specchi all'infinito la causa tende a sfuggirmi cioè non riuscirò mai a determinarla quindi risalendo di causa in causa dalle cause minori dalle cause del mondo fisico sempre più sua le cause sempre più generali devo arrivare ad un punto ad un elemento che è causa a sua volta incausata cioè risalendo lungo la scala della catena effetto come possiamo vedere in questo schema immaginiamoci una scala una sorta di stairway to heaven una scala che va verso il cielo il cielo è il luogo di Dio metaforicamente anzi anche realmente nella visione di Dante Alighieri per esempio che poi è quella della scolastica di Tommaso come vi ho detto sostanzialmente abbiamo il passaggio dalla fisica terrestre al regno dei vari cieli sono sette cieli ogni cielo corrisponde mosso da un'intelligenza planetaria che vanno dalla luna il sole eccetera in ultimo c'è lo sfondo che è il cielo delle stelle fisse e oltre questo c'è il divino stesso Dio che nella visione di Dante è il Dio cristiano evidentemente il Dio cristiano non corrisponde al Dio di Aristotele poi marcheremo le differenze ma insomma il ragionamento è quello che è riprodotto qui cioè se partiamo dalle realtà più basse cioè quelle in cui l'aspetto materiale quindi quello potenziale è più significativo abbiamo un passaggio continuo dalla potenza all'atto che a sua volta è atto parziale quindi che conserva altra potenzialità che deve attuarsi in un ulteriore stadio in un ulteriore stadio ancora e così via fino ad arrivare ad un punto d'arrivo che è la causa finale suprema come possiamo vedere nello schema che è un atto primo a sua volta non soggetto a mutamento quindi gli effetti sostanzialmente giustificano la catena degli effetti giustificano la causa prima la causa incausata la causa che a sua volta non è effetto di un'altra causa pena per l'appunto se non dovessimo concludere il ragionamento in questa maniera un rimandare ad infinitum all'infinito quindi la catena del ragionamento non si interromperebbe mai e non riusciremmo a identificare una causa prima una causa significativa del movimento quindi come dire il movimento sarebbe incausato e crollerebbe tutto il sistema tutta l'architettura della visione aristotelica nonché la stessa possibilità che si dia una scienza in generale quindi punto d'arrivo del divenire in questa stairway to heaven in questa scala che sale verso il cielo è il motore immobile o atto puro o forma pura o sostanza incorporea perché motore immobile lo abbiamo specificato perché atto puro abbiamo detto che il divenire si spiega in termini di passaggio progressivo dalla potenza all'atto quindi il punto d'arrivo di questo movimento la causa finale ultima non può che essere un atto puro ma se è un atto puro deve essere assolutamente privo di qualsivoglia potenzialità siccome la potenza è associata alla materia l'atto puro è forma pura nonché sostanza incorporea perché sostanza incorporea abbiamo detto che sostanza è il termine che si riferisce a tutte le cose che esistono evidentemente le sostanze con le quali entriamo in contatto tutti i giorni sono sostanze corporee quindi sono dotate di qualità formali più o meno spiccate come nel caso dell'uomo o meno spiccate o nel caso degli animali inferiori per così dire ma tutte quante dotate di una forma accanto ad una corporeità ad una materialità più o meno significativa noi ci troviamo nel regno del mutamento che è il regno terrestre per così dire la sostanza perfetta l'atto puro non può che essere priva di materia cioè priva di qualsiasi traccia di potenzialità ecco perché Dio è concepito da Aristotele come intelligenza pura e capite anche iniziate anche a capire per quale motivo questa teoria di Aristotele anche se va ripeto contestualizzata all'interno del pensiero greco si presta comunque all'essere utilizzata all'essere riformulata rivisitata in termini di teologia cristiana quindi come muove chi è Dio rivediamo un attimo questa questa concezione ne abbiamo già parlato a sto tempo nel modulo che abbiamo dedicato ad Eros alle varie forme di amore alle varie concezioni di amore Dio dunque non è causa efficiente ma è causa finale quindi motore a trazione anteriore ovvero è oggetto d'amore che vuol dire causa finale Dio è assolutamente perfetto come lo ha concepito Platone quindi non ha bisogno di alcunché non ha nessun bisogno dunque non ha nessun desiderio dunque non ha alcuna necessità di muoversi vi ricordate perché il filosofo è in movimento tra la terra tra il cielo per così dire tra l'ignoranza e la sapienza beh perché evidentemente il filosofo è contraddistinto dal desiderio di conoscere è filo amante filos di Sofia della sapienza il Dio evidentemente è sapiente dunque non prova alcun desiderio non ha alcuna in sé non ha alcuna traccia di imperfezione cioè non ha alcuna mancanza alcun desiderio da soddisfare ecco perché si limita ad essere e in questo è trainante trascinatore si limita ad essere oggetto d'amore quindi come dire tutte le cose che esistono a cominciare da quelle dotate di una più spiccata materialità tendono indubitabilmente tendono per ragioni leggi fisiche per la struttura stessa dell'universo ad andare verso Dio da qui il movimento quindi il divenire il movimento si spiega come movimento incessante delle cose delle sostanze da uno stato di maggiore imperfezione ad uno stato di maggiore perfezione quindi un tendere verso Dio quindi Dio muove rimanendo fermo limitandosi a essere oggetto del desiderio punto d'arrivo meta e così via quindi qui si parla di forza calamitante è una sorta di calamita ecco se vi piace di più la metafora della calamita possiamo utilizzare anche qui quindi i due poli perché una sorta di dualismo rimane nella visione aristotelica così come la visione platonica era alimentata da un dualismo tra la materia tra il mondo il mondo materiale ancora mi ricordate il mondo delle idee mito del demiurgo lo stesso in qualche maniera i due poli positivo e negativo diamiamoli così rimangono anche nella concezione di Aristotele anche se poi la causa ultima la causa prima rimane sempre Dio quindi è il polo formale l'atto puro e così via ma anche il punto di partenza è importante la materia perché se non ci fosse materia se non ci fosse potenzialità non ci sarebbe questo anelito nel possedere le forme questo desiderio di essere informata sono due principi i due eterni principi pitagorici del maschile e del femminile il femminile nella visione pitagorica era concepito come il il ventre diciamo il luogo ecco cora significa questo il luogo che aspetta il dato formale che proviene dal maschio fecondatore per così dire sappiamo che in realtà le cose non stanno così ma insomma utilizziamo questi due concetti in termini metaforici dunque l'utero della donna fornirebbe diciamo la materia prima che aspetta di essere informata di ricevere la forma dal seme mascolino per così dire ecco che i due protagonisti dell'universo ecco in questa metafora che abbiamo utilizzato sono da una parte la forma pura l'atto puro quindi il divino e dall'altra la materia pura quindi l'universo caratterizzato da questo sforzo da questo desiderio incessante verso il ricevere la forma non è Dio che ordina il mondo ma è il mondo che si auto-ordina e si auto-determina tendendo verso Dio tendere verso Dio vuol dire assurre progressivamente forme diverse quindi si tratta di un processo eterno che da ciò che non è formale da ciò che non è formato cioè ciò che è sprovvisto di causa formale tende verso una forma sempre più perfetta per questo Dio è perfetto e essendo perfetto gode della vita migliore possibile immaginabile che è quella dell'intelligenza cioè del pensiero di pensiero cioè l'oggetto del pensiero di Dio è l'essenza stessa di Dio Dio pensa a se stesso essendo l'intelligenza perfetta anche l'oggetto del suo pensiero non può che essere perfetto ecco che il gesto del pensiero di Dio è un gesto per così dire riflessivo è la vita più eccellente possibile e la vita del saggio aristotelico il famoso biostretikos di cui dicevo già nelle prime lezioni è tendenzialmente vivere ad immagine e somiglianza per quanto è possibile in un uomo all'immagine e somiglianza di Dio concludiamo questa lezione leggendo e commentando velocemente due passi tratti dalla metafisica di Aristotele in cui per l'appunto si dà la definizione di Dio come motore immobile e come intelligenza di intelligenza poiché si è sopradetto che le sostanze sono tre due fisiche ed una immobile ebbene dobbiamo parlare di questa e dobbiamo dimostrare che necessariamente esiste una sostanza eterna ed immobile quindi prima aveva parlato delle sostanze fisiche ne aveva parlato diciamo nella fisica per così dire adesso inizia a parlare della sostanza la metafisica cioè della sostanza immobile le due sostanze fisiche sono quelle composte e i numeri come entità intermedie le sostanze infatti hanno priorità rispetto a tutti gli altri modi di essere e se fossero tutte corruttibili allora sarebbe corruttibile tutto quanto esiste ma è impossibile che il movimento si generi o si corrompa perché esso è sempre stato ne è possibile che si generi o si corrompa il tempo perché non potrebbero esserci il prima e il poi se non esistesse il tempo dunque anche il movimento è continuo come il tempo infatti il tempo o è la stessa cosa che il movimento o una caratteristica del medesimo e non c'è altro movimento continuo se non quello locale anzi di questo continuo è solo effettivamente quello circolare allora che cos'è che dimostra l'esistenza del motore immobile cioè della causa prima beh è lo stesso divenire cioè se non ci fosse una causa prima non ci sarebbe il divenire in quanto tale e abbiamo detto che il divenire è un'evidenza primaria il concetto del divenire rimanda evidentemente al concetto di tempo cioè è lo stesso tempo è la stessa temporalità che rimanda ad una dimensione per così dire sovratemporale così come il divenire il mutamento costante rimanda ad una dimensione immutabile immobile se poi esistesse un principio motore ed efficiente ma che non fosse in atto non ci sarebbe movimento infatti è possibile che ciò che ha potenza non passi all'atto l'atto viene prima della potenza dicevamo la scorsa volta quindi il famoso dilemma se viene prima l'uovo come potenza o la gallina come atto Aristotele lo risolve in favore della gallina viene prima la gallina l'atto e poi viene la potenza dunque una potenza in sé potrebbe non diventare atto potrebbe non trasformarsi in atto quindi l'atto precede la potenza ancora non basta neppure che essa sia in atto se la sua sostanza implica potenza infatti in tal caso potrebbe non esserci un movimento eterno perché è impossibile che ciò che è in potenza non passi all'atto è dunque necessario che ci sia un principio la cui sostanza sia l'atto stesso atto puro pertanto è anche necessario che queste sostanze siano scevere cioè assolutamente prive di materia perché devono essere eterne semmai esiste qualcosa di eterno dunque devono essere atto puro questa è un'altra definizione che dà Aristotele di Dio atto puro quindi il movimento eterno rimanda all'atto puro al principio puro che è Dio come la potenza rimanda effettivamente all'atto quindi una potenza che sia priva di una prospettiva di attualizzazione quindi una prospettiva formale non necessariamente innescherebbe il movimento è necessario quindi un punto di riferimento formale attuale affinché il movimento si inneschi quindi lo stesso divenire dimostra l'esistenza di questo primo principio è evidente dunque da quello che è stato detto sin qui che esiste una sostanza immobile eterna e separata dalle cose sensibili e altro rispetto alle cose sensibili cioè è trascendente rispetto alle cose sensibili e risulta pure che questa sostanza non può avere alcuna grandezza ma che è senza parte ed indivisibile è un tutt'uno quindi capite che la definizione di Aristotele è conforme in qualche maniera alla visione teologica cristiana quindi Dio è altro rispetto alle cose sensibili è trascendente è eterno evidentemente quindi esiste in una dimensione ulteriore rispetto a quella del tempo ma è questa dimensione ulteriore atemporale che giustifica come causa prima l'esistenza stessa del tempo ed è senza parti e indivisibile ovvero ha le stesse caratteristiche dell'idea platonica o dell'essere parmenitero Dio come pensiero di pensiero vediamo questa seconda definizione per quanto per quanto concerne l'intelligenza sorgono alcune difficoltà e sapare infatti la più divina delle cose che come tali a noi si manifestano ma il comprendere quale sia la sua condizione per essere tale presenta alcune difficoltà l'intelligenza è indubbiamente la cosa più divina che ci sia questo marca la superiorità dell'uomo e in particolare dell'uomo che usa l'intelligenza per questo le virtù dianoetiche sono superiori alle virtù ediche infatti se non pensasse nulla non potrebbe essere cosa divina ma si troverebbe nella stessa condizione di chi dorme cioè se l'intelligenza fosse solo potenziale ma non diventasse attuale evidentemente non sarebbe cosa divina sarebbe imperfetta come dire l'intelligenza è intelligenza potenziale intelligenza passiva cioè io la possibilità di pensare a qualcosa quella facoltà del pensare per così dire poi c'è il pensiero in atto e il pensiero in atto è sempre pensiero di qualche cosa in particolare dico che sto pensando quando sto pensando a qualcosa rinché quel quid che è l'oggetto il contenuto del mio pensiero non si staglia all'orizzonte non è effettivamente presente non posso dire di stare pensando ma allo stesso tempo non posso dire di essere privo della facoltà di pensare è come se dormissi e se pensa ma questo suo pensare dipende da qualcosa di superiore a lei ciò che costituisce la sua sostanza non sarà l'atto del pensare ma la potenza e non potrà essere la sostanza di eccellente dal pensare deriva infatti il suo pregio allora se dal pensare deriva il suo pregio allora la caratteristica del pensare cioè la causa del pensare non può essere ulteriore non può essere superiore deve essere propria caratteristica peculiare caratteristica propria della stessa attività di questa sostanza cioè se i pensieri a Dio venissero da sostanze ulteriori se il pensiero a Dio gli oggetti del pensiero dell'intelligenza divina venissero forniti da una qualche altra entità evidentemente Dio non sarebbe il più perfetto degli esseri ci sarebbe qualcosa di ulteriore di più perfetto di Dio che lo imbocca dei suoi pensieri per così dire inoltre sia nell'ipotesi che la sua sostanza sia la capacità di intendere sia nell'ipotesi che la sua sostanza sia l'atto di intendere che cosa pensa o pensa se è medesima questa sostanza oppure qualcosa di diverso e se pensa qualcosa di diverso o pensa sempre la medesima cosa a qualcosa sempre diverso ma è o non è cosa ben differente il pensare ciò che è bello oppure una qualsiasi cosa come dire è la stessa cosa pensare la realtà suprema il bello in sé il bene in sé piuttosto che pensare qualche altra cosa che cosa pensa Dio pensa al gossip di che cosa si può interessare Dio di fake news vada sì la risposta è il pensiero di Dio sarà il pensiero più significativo più elevato che si possa immaginare il più perfetto più formalmente conchiuso del resto Dio è atto puro e dunque o non è assurdo che essa pensi certune cose beh sì evidentemente è assurdo è una domanda retorica è pertanto evidente che essa pensa ciò che è più divino e più degno di onore perché l'oggetto del suo pensare non muta il mutamento infatti è sempre verso il peggio e questo mutamento costituisce pur sempre una forma di movimento quindi non è che Dio muta continuamente l'oggetto del pensare una volta che ha trovato che ha stabilito che si è stabilito qual è l'oggetto del pensiero più perfetto che si possa immaginare Dio non cambia oggetto di pensiero insomma quando abbiamo ciascuno di noi ha messo che sia possibile ha messo le mani sull'oggetto precipico del suo desiderio non torna indietro ad oggetti minori una volta che ha conquistato questa vita ora stiamo parlando dell'essere perfetto stiamo parlando di Dio quindi Dio pensa come oggetto di pensiero una cosa più perfetta che ci sia e non è questa cosa non è soggetta al mutamento altrimenti non sarebbe la cosa più perfetta che esiste è così come l'intelligenza umana l'intelligenza almeno che non pensa nei composti si comporta in qualche momento infatti essa non ha il suo bene in questa o quella parte ma ha il suo bene supremo in ciò che è un tutto indivisibile il quale è qualcosa di diverso dalle parti ebbene in questo stesso modo si comporta anche l'intelligenza divina pensando se medesima per tutta l'eternità l'unità il singolo è superiore al composto è superiore al molteplice è la stessa caratteristica che hanno le idee platoniche cioè pensare a tante cose belle è un'attività per così dire inferiore formalmente meno icca meno perfetta del pensare la bellezza in sé e il concetto di bellezza in sé questo sta dicendo tra parentesi Aristotele sostanzialmente quindi pensare il bene supremo significa pensare l'idea stessa del bene non pensare cose composte quindi cose che sono buone simbolo cose che sono buone alla stessa maniera questo sarebbe questo sarebbe il massimo dell'attività di pensiero umana quindi il biosteoretico alla stessa maniera Dio anche se i termini vanno invertiti è l'uomo ad imitazione di Dio non Dio ad imitazione dell'uomo vada sì comunque alla stessa maniera continuando nella metafora Dio pensa la cosa più perfetta che ci sia e qual è la cosa più perfetta che ci sia? se stesso quindi l'atto del pensiero di Dio è un atto per così dire riflessivo in cui soggetto pensante e oggetto pensato soggetto conoscente e oggetto conosciuto coincide e con questa con questa affermazione con questa lettura terminiamo la parte dedicata alla teologia la prossima volta ci occuperemo della logica aristotelica oggi tracciamo un quadro della logica aristotelica innanzitutto la logica non si può considerare una scienza a sé stante con un oggetto ben definito vi spiego se parliamo di fisica parliamo della scienza che ha come oggetto lo studio della physis cioè della natura in generale se parliamo di biologia intendiamo la scienza che studia il bios cioè la vita in tutte le sue manifestazioni dunque queste due scienze che abbiamo preso ad esempio hanno un ambito ristretto ristretto rispetto al tutto naturalmente il tema della natura è estremamente ampio così come il tema della vita è estremamente ampio ma vada a sé che rispetto al tutto si tratta sempre di parti quindi di aree specifiche del sapere la logica studia il logos ovvero quella parolina logia che nel comporre le parole in greco e anche in italiano nonché in tutte le altre lingue europee si aggiunge al termine della della parola stessa la prima parte della parola è rappresentata dall'oggetto della scienza cioè dall'oggetto intorno a cui verte l'analisi scientifica cioè il discorso il logos il ragionamento così la biologia è il logos il ragionamento che verte intorno a bios alla vita dunque quando parliamo di logica non parliamo di un ambito a sé stante il bios piuttosto che la physis piuttosto che l'ethos il costume l'etica parliamo del pensiero in generale cioè delle regole che fanno funzionare il pensiero e il linguaggio umano la sfera logica cioè la sfera del pensiero e la sfera del linguaggio formano un tutt'uno piuttosto organico la distinzione tra pensiero pensato e pensiero espresso in termini orali o in termini iscritti è una distinzione piuttosto labile nel senso che noi ci esprimiamo oralmente ci esprimiamo per iscritto alla maniera in cui pensiamo dunque pensieri ben organizzati a livello noetico corrispondono ad espressioni altrettanto ben organizzate in termini di retorici insomma di esposizione orale o in termini di organizzazione del discorso scritto questo è il motivo per cui il termine logos in greco lo si può tradurre effettivamente in tante maniere diverse è un lemma decisamente polisemantico cioè con tanti significati diversi termine logica beninteso non è d'iconio aristotelico non lo ritroviamo nelle opere aristoteliche ma entrerà diciamo in uso successivamente quasi sicuramente ad opera di una scuola posteriore quella dello stoicismo ma entrerà poi in uso corrente e verrà applicato a posteriori anche alle opere aristoteliche ha una storia per alcuni versi simile a quella del termine metafisica di cui abbiamo già detto l'oggetto di ricerca quindi l'ambito del discorso logico della logica è il procedimento dimostrativo cioè l'organizzazione di proposizioni tra di loro collegate a te a dimostrare una determinata tesi e a dimostrarla da un punto di vista scientifico ovvero il logos è il discorso quindi è lo strumento che viene adoperato in tutti i diversi ambiti biologico fisico botanico zoologico eccetera eccetera per produrre dei ragionamenti che abbiano un valore scientifico cioè che abbiano un valore stringente deduttivo chiaro e distinto allora in ogni ambito un discorso scientifico si distingue per le sue caratteristiche logiche cioè per la sua capacità di dimostrare in maniera ferrea per così dire un determinato argomento questo è il motivo esempio per cui l'apprendimento delle regole logiche del linguaggio della logica linguistica e soprattutto della logica matematica è propedeutico quindi anticipa e fondamentale fonda qualsivoglia discorso scientifico dunque conoscere bene il linguaggio della matematica nonché la cosiddetta analisi logica è fondamentale per qualsiasi disciplina si intenderà poi approfondire o sviluppare negli studi universitari negli studi successivi ecco perché al liceo e al ginnasio si insiste molto sulla materia che chiamiamo analisi logica e il termine analisi logica invece è propriamente aristotelico ci sono delle opere di Aristotele che si intitolano analitici primi analitici secondi in cui sostanzialmente Aristotele studia la logica anche se il termine logica ripeto non è di conio aristotelico non lo ritroviamo nelle opere aristoteliche che vuol dire analisi analisi logica infatti è il nome che diamo a questo tipo di disciplina a questo tipo di approccio vuol dire capacità di sciogliere sciogliere un discorso complesso nei suoi elementi quindi risoluzione del ragionamento nei suoi termini costitutivi l'analisi logica assomiglia assomiglia come procedimento all'analisi matematica che consiste appunto nello scioglimento di una proposizione complessa in termini matematici nei suoi elementi essenziali nella stessa maniera l'analisi linguistica consiste nello scioglimento e quindi nella risoluzione di serie di proposizioni più o meno complesse dal significato più o meno complesso nei loro elementi fondanti nei loro elementi semplici questo significa analizzare sciogliere risolvere comprendere distinguere è un esercizio lo capite bene utile e propedeutico quindi fondamentale per tutte le discipline l'altro termine che utilizziamo che si si utilizza a proposito della filosofia aristotelica anche questo è un termine posteriore in realtà è organon che vuol dire strumento è un termine che viene poi coniato utilizzato soprattutto nel medioevo a proposito della ripresa della filosofia aristotelica di cui abbiamo detto perché organo perché strumento perché imparare la logica imparare l'analisi logica è lo strumento fondamentale che serve per discutere qualsivoglia questione quindi per poter per poter risolvere questo o quel problema settoriale in questa o in quell'area scientifica del bovino a possedere la capacità logica che rapporto c'è tra la logica e la metafisica è lo stesso rapporto di cui abbiamo detto tra la sfera cosiddetta ontologica che è la sfera dell'essere cioè la sfera della realtà quella di cui si occupa primieramente la metafisica l'essere in quanto essere rispetto rispetto alla cosiddetta sfera logico linguistica cioè quella del linguaggio e del pensiero che servono a descrivere la realtà a rapportarsi alla realtà per la filosofia e la filosofia antica si parla di realismo museologico termine che abbiamo già incontrato realismo viene dal latino res che vuol dire cosa dunque è la capacità per così dire di riprodurre le cose che compongono la realtà gli enti che compongono la realtà in maniera assolutamente esatta distinta chiara dunque il realismo ognosologico significa che il linguaggio e il pensiero se correttamente usati e questo è appunto ciò che si apprende a fare con l'analisi logica se correttamente usati ci danno un'immagine fedele veritiera esatta della realtà ecco perché imparare l'analisi logica l'arte del ragionamento scientifico del ragionamento dimostrativo è fondamentale per avere una visione oggettiva della realtà comunque la si metta a scarsi mezzi di tipo linguistico e logico argomentativo corrisponde una scarsa capacità di rappresentarsi la realtà di rapportarsi con la realtà problema fondamentale ieri come oggi vi è più oggi il presente è quello che ci interessa e allora le scarse capacità logico linguistiche che molte persone manifestano si parla infatti di analfabetismo di ritorno producono nel complesso una scarsa capacità di conoscere di penetrare la realtà quindi un essere maggiormente esposti a quelle fecliose a quelle notizie false a quelle immagini della realtà distorte che popolano per così dire il mondo estremamente complesso dei mass media ecco perché studiare la logica è assolutamente importante assolutamente fondamentale nella visione di aristotele il discorso sulla realtà in sé quindi sulla metafisica e sulla logica lo abbiamo già visto con la definizione del principio di contraddizione si sviluppano in maniera contemporanea crescono organicamente l'uno sull'altro sostanzialmente sono indistinti ecco perché si parla effettivamente di indistinzione della sfera logica e della sfera linguistica nel caso di Parmède tale indistinzione era in certa qual maniera ingenua non lo è in Aristotele il quale invece determina esattamente i due ambiti pur procedendo il loro studio in maniera contemporanea in maniera parallela che cos'è un concetto tutti quanti all'elementare abbiamo studiato si usava già alcuni decenni fa quindi immagino che si usi ancora oggi la teoria degli insiemi ebbè la teoria degli insiemi ci insegna per così dire l'arte del ragionamento e uno dei presupposti dell'arte del ragionamento è il passaggio da concetti di ambito più ristretto di ambito più specifico la cosiddetta specie a concetti di ambito più ampio il cosiddetto genere allora il genere è il concetto più universale la specie è il concetto meno universale non so per esempio l'ordine dei numeri naturali comprende anche i numeri le frazioni quindi quello è il genere e la specie è il numero la frazione quindi il numero che non corrisponde all'unità perfetta oppure come nell'esempio nella diapositiva il quadrilatero è il discorso della razionalità in senso ampio lato il poligono ovvero la figura che ha più angoli questo è il poligono è genere rispetto alla specie quadrilatero il quadrilatero sta alla definizione razionale come specie rispetto a un altro genere che è quello di animale animale è un concetto più ampio esistono animali che sono razionali anzi l'animale razionale per eccellenza è l'uomo e animali che evidentemente non sono razionali quindi nel genere più ampio di animale si comprende la specie razionale così come nel genere più ampio di poligono si comprende anche la figura di quadrilatero ma non sono più allora quindi con il genere definiamo un concetto che è più comprensivo cioè più ampio ma contiene un minor numero di caratteristiche riferibile a un maggior numero di individui quindi se io definisco il termine animale supponiamo indico intendo una creatura animata che si muove a differenza di un vegetale quindi che è dotata di vita ma definisco questa caratteristica generale che si riferisce a tante specie diverse l'animale è la mosca tanto quanto il bue tanto quanto il pesce e così via quindi è un contenuto minimo di caratteristiche la pura semplice mobilità per così dire l'essere animato rispetto però ad una ampiezza di significati estremamente ampio quindi il concetto di specie invece ho il discorso opposto quindi la specie contiene un maggior numero di caratteristiche sono appunto più specifiche più peculiari più determinate che però si riferiscono a un minor numero di individui se io parlo di animale che vola volante per così dire evidentemente sto il fatto di volare è comunque un concetto decisamente ampio ma lascia fuori tante specie animali che non volano sono terrestri oppure che luotano nei mari e dunque non sono volanti ma includerò dunque gli uccelli ma anche gli insetti per esempio che sono volanti quindi è un concetto per così dire intermedio quando invece vado a definire delle caratteristiche estremamente specifiche andrò a definire le caratteristiche di questa o quella specie animale per esempio il leone che rientra in una categoria più ampia in un genere più ampio che è quello dei felini che a sua volta rientra in un genere ancora più ampio che è quello dei mammiferi che a sua volta rientra in un genere ancora più ampio degli animali e così via vabbè questa repositiva chiarisce ancora meglio il concetto di genere di specie per cui l'omino con i capelli rossi ha delle caratteristiche specifiche uniche rispetto agli altri omini che hanno le stesse caratteristiche ma capelli di colore diverso quindi il colore rosso dei capelli diventa la caratteristica specifica di quel sotto insieme di omini per così via le proposizioni in effetti studiare analisi logica dalle elementari significa dedicarsi in primo luogo abbiamo l'analisi grammaticale quindi delle parti di un discorso poi abbiamo l'analisi logica l'analisi delle proposizioni quindi che ci consente di distinguere i vari termini le varie parti del discorso il soggetto dal predicato dal complemento oggetto poi si passa a discutere sulla cosiddetta analisi del periodo analisi del periodo ovvero i periodi sono delle determinazioni che contengono più proposizioni l'arte del ragionare significa sostanzialmente l'arte di connettere con dei messi logici chiari efficaci una proposizione con un'altra un ragionamento è un discorso che prevede più proposizioni che devono essere esatte coerenti al loro interno e poi devono essere collegate in maniera appropriata l'una all'altra a formare appunto un discorso che abbia un valore dimostrativo cioè un valore scientifico altrimenti non devono discorsi insignificanti poco sensati o puramente retorici quindi la proposizione è un enunciato dichiarativo apofantico o assertivo apofantico viene dal greco significa sostanzialmente la stessa cosa dichiarativo o assertivo si tratta appunto delle proposizioni espressione verbale dei giudizi cioè degli atti mentali con cui uniamo o disuniamo concetti in base alla struttura soggetto predicato quindi che cos'è una proposizione è l'espressione verbale la tradizione in parole di un atto mentale l'atto mentale è un giudizio qualsiasi proposizione corrisponde effettivamente ad un atto mentale cioè ad un giudizio che io esprimo su questo o quella cosa oppure l'espressione piove esprime un giudizio in questo caso sul tempo meteorologico oppure questo quadro è particolarmente bello esprime un giudizio di tipo estetico e così via i giudizi sono sempre composti dall'unione di un soggetto ad un predicato ci sono quattro tipi di proposizioni quelle affermative e quelle negative affermative vuol dire che io attribuisco con questo atto mentale un predicato ad un determinato soggetto negative e il contrario cioè che io nego il rapporto tra quel predicato e quel soggetto la rosa è rossa la rosa non è rossa per quanto riguarda l'estensione del concetto abbiamo giudizi dunque proposizioni universali e giudizi proposizioni particolari di cui la sottospecie sono le proposizioni singolari che cosa significa beh ci sono delle caratteristiche che riguardano tutta una specie di creature per esempio uomini tutti gli uomini sono ovviamente animali razionali altrimenti non sono uomini sono qualche tipo altro tipo di animale giudizi universali dunque tutti gli uomini sono bipedi per esempio giudizi particolari alcuni uomini sono europei evidentemente ci sono altri uomini che provengono da altri continenti per esempio dall'Africa piuttosto che dall'Asia dunque il collegamento tra il termine uomo e il termine asiatico il termine europeo il termine africano è un collegamento di tipo particolare cioè riguarda una parte dell'umanità un sottoinsieme dell'umanità singolari quando sto attribuendo quel giudizio a quella singola persona lì che io conosco particolarmente bene attenzione a non confondersi perché facilmente si passa il pregiudizio a volte deriva dallo storpiare diciamo dal trascurare il rapporto tra giudizi universali e giudizi particolari o addirittura singolari siccome le esperienze che facciamo sono in linea di massima esperienze particolari oppure addirittura esperienze singolari tendiamo ad applicare all'intero genere di concetti di cose giudizi che magari abbiamo ricavato da una singola esperienza dunque se quel giorno d'estate piove non significa che tutta l'estate pioverà oppure se viaggiando in quel determinato paese mi capita una disavventura legata al furto di un oggetto per me utile o per me prezioso non significa che tutte le persone che abitano in quella città o in quel luogo siano necessariamente dei ladri anzi direi che è abbastanza improbabile ma a volte tendiamo a fare così ecco perché è importante studiare la logica che rapporto c'è tra questo genere di proposizioni qui la faccenda apparentemente si complica quindi analizziamo questo quadrato degli opposti in maniera un po' più puntuale allora abbiamo quattro differenti tipologie di proposizioni che derivano dalla composizione di quei giudizi che dicevamo prima cioè le proposizioni sono universali o particolari sono o affermative o negative finché è tutto chiaro abbiamo quindi quattro tipi di proposizioni le proposizioni universali affermative le proposizioni universali negative le proposizioni particolari affermative e quelle particolari negative la proposizione universale affermativa tutti gli uomini sono bianchi è una proposizione evidentemente errata perché non fotografa la realtà logicamente è corretta apparentemente è corretta io posso dire che tutti gli uomini sono bianchi non sto commettendo un errore linguistico collegamento esatto sto commettendo però un errore se parto da questo giudizio non tenendo conto della realtà evidentemente ci sono anche uomini dalla pelle più scura comunque con varie gradazioni di colore della pelle il giudizio opposto è il giudizio contrario è nessun uomo è bianco e la affermazione la proposizione particolare affermativa sempre rimanendo a questo esempio è alcuni uomini sono bianchi la particolare negativa alcuni uomini non sono bianchi e allora tra la proposizione universale affermativa e la proposizione universale negativa abbiamo rapporto di contrarietà ovvero io posso affermare sia l'una che l'altra sia l'una che l'altra e devo attendere la verifica dalla realtà dall'un studio della realtà dunque affermo che tutti gli uomini sono bianchi vi faccio un giro nel mondo per così dire e a livello empirico esperienziale scopro che no non è vero ci sono anche degli uomini neri quindi l'affermazione che tutti gli uomini sono bianchi è un'affermazione che si rivelerà falsa ma anche l'affermazione che nessun uomo è bianco alla luce della mia ricerca della mia indagine si rivelerà naturalmente falsa di fatto le due affermazioni sono contrarie che non possono essere vere entrambe contemporaneamente e lo stesso vale nel rapporto nella parte inferiore del cosiddetto quadrato degli opposti tra particolare affermativa e particolare negativa che si definiscono tra di loro come subcontrarie cioè il rapporto che intercorre tra la particolare affermativa e la particolare negativa è quella di subcontrarietà alcuni uomini sono bianchi alcuni uomini non sono bianchi subalterne invece sono le proposizioni il rapporto che c'è tra la proposizione universale affermativa e la particolare affermativa che vuol dire che se tutti gli uomini sono bianchi evidentemente è vera anche la proposizione che alcuni uomini sono bianchi così come subalterna è la proposizione alcuni uomini sono bianchi rispetto al concetto più ampio che nessun uomo è bianco contraddittoria invece lungo la diagonale del quadrato sono la proposizione universale affermativa con la proposizione particolare negativa cioè indipendentemente dal confronto con la realtà cioè dall'andare a individuare effettivamente il colore della pelle degli uomini e dal verificare che non è affatto vero che tutti gli uomini sono bianchi io posso già dire che la particolare negativa è in contraddizione con l'universale affermativa questo però è una questione squisitamente logica cioè se tutti gli uomini sono bianchi è impossibile che alcuni uomini non siano bianchi e dovrò poi appurare se effettivamente è vera la proposizione universale affermativa però posso già dire che la particolare negativa entra in contraddizione con l'universale affermativa e viceversa se è vero che alcuni uomini non sono bianchi e in questo caso è vero che alcuni uomini non sono bianchi perché giro e vedo gli uomini neri per così dire allora la proposizione tutti gli uomini sono bianchi sarà da escludere in quanto contraddittoria quindi posso già dire che di per sé è falsa e contraddittoria lo stesso vale nel rapporto tra l'universale negativa nessun uomo è bianco e il fatto che alcuni uomini sono bianchi infatti la particolare affermativa anche in questo caso è esatta cioè è vero che alcuni uomini sono bianchi e l'affermazione che nessun uomo è bianco entra immediatamente in contraddizione quindi si esclude immediatamente con l'affermazione che alcuni uomini sono bianchi quindi il concetto di contraddittorietà è diverso dal concetto di contrarietà due elementi contrari possono sussistere contemporaneamente sussistere in due diversi aspetti della realtà evidentemente ma non possono sussistere invece due proposizioni contraddittorie una viene esclusa se è vera l'una è falsa l'altra e viceversa come dicevano i medievali terzium non dato non si dà una terza possibilità e insomma è il sistema delle risposte chiuse con le due uniche caselle di vero e falso se la proposizione è vera non può essere falsa se è falsa non può essere vera questa diapositiva ripetiamo quello che abbiamo detto vale la pena ripeterlo visto che Siracca nel discorso può suonare ostico per qualcuno le contrarie sono quantitativamente identiche ma qualitativamente diverse che vuol dire quantitativamente identiche vuol dire che tutti gli uomini sono bianchi e nessun uomo è bianco sono due affermazioni universali quindi in termini di quantità di soggetti che vengono chiamati in causa abbiamo un'equivalenza si chiamano in causa tutti i soggetti uomini nel primo caso tutti i soggetti uomini nel secondo caso nel secondo caso per negare nessun uomo corrisponde a tutti gli uomini qualitativamente diverse perché nel primo caso si afferma un predicato quindi si afferma la congiunzione tra quel determinato predicato la bianchezza e quel determinato soggetto uomini nel secondo caso invece si nega due contrarie non possono essere entrambe veri ma possono essere anche entrambe false infatti in quel caso lì sono entrambe false nessun uomo sia bianco che tutti gli uomini siano bianchi è effettivamente un esempio chiaro del caso che entrambe sono false se il predicato in questo caso è accidentale perché se il predicato è accidentale beh se io uso un predicato sostanziale ovvero congiungo il termine uomo con un aggettivo che indica una caratteristica specifica sostanziale dell'essere umano ovvero la razionalità o la socivolezza sempre seguendo l'esempio di Aristotele ebbene una delle due proposizioni è necessariamente falsa tutti gli uomini sono razionali nessun uomo è razionale la seconda proposizione è decisamente falsa se invece io collego il termine uomo ad un attributo o un altro termine un attributo accidentale cioè ad una caratteristica che non merisce alla sostanza in sé ma che può accadere a quella determinata sostanza per esempio il colore della pelle non è determinante per indicare la natura umana è un fattore accidentale un fattore casuale che intercorre per esempio a definire il colore della pelle l'aspetto esteriore di un uomo ma anche quello di un animale dotato di belliccia bianca l'albinismo non è un fatto che riguarda solo la specie umana riguarda moltissime altre specie animali allora proposizioni invece contraddittorie sono diverse dal punto di vista quantitativo ma quantitativo e qualitativo quindi una è necessariamente vera l'altra è necessariamente falsa quindi sono diverse sia quantitativamente sia qualitativamente è l'incrocio per diagonale nessun uomo è bianco alcuni uomini sono bianchi quindi diversi qualitativamente l'essere bianco e non essere bianco e diversi anche quantitativamente tutti gli uomini non sono bianchi da una parte e lì invece si parla di alcuni uomini che sono bianchi le subcontrarie sono qualitativamente identiche ma quantitativamente diverse e possono essere anche in questo caso entrambe vere le subalterne invece hanno un rapporto di rimendenza della particolare verso l'universale quindi si distinguono solo per una visione quantitativa se tutti gli uomini sono bianchi sarà vero anche che alcuni uomini sono bianchi evidentemente vediamo il modo delle proposizioni perché abbiamo definito quindi le proposizioni in termini qualitativi e in termini quantitativi adesso vediamo le modalità noi possiamo formulare tre generi di proposizioni la prima è una semplice asserzione a e b la seconda indica il concetto di possibilità è possibile che a sia b il terzo tipo di proposizione invece indica un nesso assolutamente necessario ineludibile a è necessario che sia b la verità o la falsità c'è solo quando ci sono delle proposizioni dei giudizi che combinano concetti cioè io non posso dire che quello determinato atto linguistico corrisponda abbia forza di verità o di falsità corrisponda a qualcosa di atturabile in termini di vero o di falso se non si tratta di un giudizio compiuto cioè che collega un soggetto ad un predicato di cioè che può essere verificato quindi un atto linguistico per essere in primo luogo logicamente sostenibile per poi poter essere verificato in termini empirici in termini sperimentali per così dire di fatto una proposizione deve essere formulata e deve avere un senso compiuto cioè deve collegare un soggetto a con un predicato b pena l'impossibilità di dirsi vera o falsa la verità è solo nel pensiero oppure nel discorso la misura della verità è l'essere o la cosa quindi una proposizione è vera o falsa soltanto se il nesso nel discorso quindi nell'atto mentale poi nell'atto linguistico il nesso è corretto e come faccio a stabilire la correttezza di questo nesso ebbene dal fatto che rifletta un dato di realtà quindi la misura della verità il concetto di verità in greco aletzeia consiste nel fotografare nel verificare la corrispondenza tra l'atto mentale l'atto linguistico quindi la proposizione formulata è la realtà in sé e per sé quindi verità significa congiungere ciò che nella realtà è congiunto e separare ciò che nella realtà invece è disgiunto il falso e l'opposto quindi la pietra di paragone è sempre la realtà in sé l'essere in quanto tale ecco perché logica e metafisica l'abbiamo detto sono strettamente collegati negli analitici primi Aristotele studia il sillogismo che vuol dire sillogismo il termine sillogismo cun logos è un logos quindi un discorso collegato insieme quindi un sillogismo sono più proposizioni nella parte specie tre proposizioni collegate da nissi logici assolutamente necessari quindi ragionare effettivamente consiste nel passare da proposizioni a proposizioni che hanno dei nissi chiari e distinti nissi in questo caso di causa ed effetto il ragionamento vuol dire appunto rispettare questa conseguenzialità altrimenti formulerò delle proposizioni che prima ancora di essere false perché una proposizione soltanto dopo la verifica si dichiarerà falsa o vera si corre il rischio di formulare delle proposizioni che sono semplicemente dei non-sense come direbbero gli inglesi cioè delle affermazioni assolutamente insensate il ragionamento per eccellenza il sillogismo consta di due premesse una premessa cosiddetta maggiore e una premessa minore e di una conclusione è l'esempio classico ogni animale è mortale e questa è la premessa maggiore il concetto di mortalità qui definito estremo maggiore si collega con il termine medio che è l'animale nella premessa minore ho ancora il termine medio che è il nesso e il connettivo tra la proposizione la prima proposizione e la seconda proposizione e un altro termine ogni uomo che è diverso dal concetto di mortale altrimenti ripeterei due proposizioni in maniera poco significativa quindi abbiamo il termine animale e il termine medio il termine mortale è la variante che troviamo nella premessa maggiore il termine uomo è la variante che troviamo nella premessa minore si chiama appunto estremo minore nella figura del silocismo nella conclusione ricombino l'estremo maggiore con l'estremo minore grazie al termine medio quindi incrocio in questo senso e avrò la proposizione che ogni uomo effettivamente è mortale se ogni animale è mortale e l'uomo è effettivamente un animale dunque ogni uomo può essere definito animale evidentemente ogni uomo sarà mortale il termine mortale qui l'attributo mortale è un attributo di tipo sostanziale è un attributo di tipo accidentale cioè non si animali che non siano mortali e comprese nella stessa natura dell'animale e dunque nell'essere umano come sottospecie di animale il fatto di essere mortale quindi maggiore o minore hanno a che fare con l'estensione del concetto il concetto di animale è più esteso del concetto di uomo quindi se dovessimo tracciare ecco un insieme l'insieme degli animali è più ampio dell'insieme uomini l'insieme umanità che rappresenterebbe un sotto insieme dell'insieme più ampio di animale le caratteristiche specifiche al silogismo sono questo carattere mediato che il giuto ruota intorno al termine medio come dicevamo e la sua assoluta necessità quindi il ragionamento silogistico corrisponde ad una deduzione perché deduzione perché si passa da un concetto più ampio in questo caso l'animalità ad un concetto più ristretto più specifico in questo caso l'umanità che è compreso nel concetto procedetto e questa è la prima figura sono tre figure diverse di silogismo questa è la prima figura quella più semplice più immediata quindi abbiamo un medio soggetto maggiore e un predicato minore e qui ecco in questa diapositiva troviamo quel discorso che dicevamo prima quindi il rapporto che c'è tra insiemi più ampi insieme della mortalità insieme intermedio il termine animale in questo caso è l'insieme più ristretto che è quello di uomo di umanità la seconda figura del silogismo è così composta ad esempio che si fa qui nessuna pietra è animale ogni uomo è animale e dunque evidentemente nessun uomo è pietra qui il termine medio sta nella seconda posizione la terza figura il medio invece è soggetto in entrambe le premesse quindi nella seconda figura il medio è in entrambe le premesse predicato nella terza figura il medio il termine medio è soggetto in ambe due le premesse mentre nella prima nella prima figura come abbiamo visto nella precedente diapositiva i termini si incrociano per così dire ogni uomo è ragionevole ogni uomo è animale e dunque evidentemente qualche animale sarà ragionevole nella fattispecie l'animale è uomo e qui sotto troviamo lo schema delle tre figure ovvero il termine medio incrociato è indicato con la m in verde nella prima figura il termine medio che si trova nella posizione predicativa quindi in seconda posizione nella seconda figura e il termine medio che invece si trova dalla parte del soggetto in entrambe le premesse sia quella minore che quella maggiore negli analisi di 10 secondi si studia il sillogismo in termini problematici perché le premesse rappresentano un problema il sillogismo può essere corretto dal punto di vista formale indubbiamente per esempio era corretto quel sillogismo che abbiamo visto prima quello sul fatto che tutti gli uomini sono bianchi e se tutti gli uomini sono bianchi e Marco è un uomo concluderemo che Marco è bianco ma siccome la premessa maggiore è errata nel senso che connette una caratteristica la bianchezza il colore della pelle ad un concetto generale uomo in maniera improvvida in maniera non conforme alla realtà quindi non posso la mia proposizione non ha forza di riduzione nel senso che Marco potrebbe essere tranquillamente nero e non bianco quindi un sillogismo può essere corretto dal punto di vista formale e quel sillogismo che ho appena finito di dire che effettivamente dal punto di vista formale è corretto ma può condurre a conclusioni false se le premesse sono false e come faccio a determinare la falsità della premessa beh dalla corrispondenza o meno alla realtà ogni animale è immortale ogni uomo è animale ogni uomo è immortale è evidentemente un sillogismo errato quindi è un ragionamento formalmente corretto ma di fatto errato e dunque è necessario che le premesse siano corrette cioè siano conformi alla realtà il sillogismo è corretto è vero dunque è scientifico a forza di scienza è dimostrativo apodittico quando parte da premesse vere prime immediate e sono più note della conclusione anteriori a essa e causa di essa quindi il sillogismo serve in questi casi qua per partire da premesse ampie generali basate su un legame di necessità tra per definire il collegamento tra un predicato e un sostantivo un soggetto e un predicato e mi servono per chiarire delle delle conclusioni che sono più ristrette quanto a significato per dedurre il caso particolare dal caso più generale quando questo collegamento non sia effettivamente immediato quindi premesse prime sarebbero gli assiomi cioè le proposizioni vere in base all'intuizione e gli assiomi che per esempio troviamo in geometria o in matematica quindi la logica dei numeri naturali o per esempio nella geometria euclidea la nozione di punto in diretta o la definizione di triangolo ebbene si tratta di verità date di certezze date per via intuitiva e a partire da queste premesse si articolano i tre principi di cui abbiamo già detto ma insomma ripetita Juvent il principio di non contraddizione ovvero che a non può essere contemporaneamente per lo stesso rispetto non a una delle due posizioni esclude l'altra il concetto di identità per cui ogni cosa ogni oggetto è identico a se stesso a è identico ad a e il cosiddetto concetto del terzo escluso quel terzium non dato cioè una proposizione che stabilisce un nesso tra a e b può essere o vera o falsa a è b o a non è b non si dà una terza possibilità se una delle due proposizioni è vera l'altra deve essere necessariamente falsa si tratta evidentemente dei principi logici più generali e occorrono poi dei principi propri delle singole discipline quindi le regole logiche in generale non appartengono proprio teoricamente a questa o a quella disciplina in particolare ma sono le regole che determinano il discorso scientifico più generale di cui dunque deve tener conto tanto il biologo quanto il fisico quanto il medico il geologo e così via quindi poi vanno chiarite le premesse le premesse scientifiche all'interno delle singole discipline restringendo il campo delle stesse definire significa dunque usare genere e differenza specifica cioè una nota peculiare quindi quando si chiede una definizione si parte da un concetto più ampio e lo si definisce cioè lo si restringe con un attributo quindi collegando un concetto che è più ristretto le definizioni sono quelle che troviamo per capirci sul vocabolario sui dizionari le definizioni si ottengono per induzione partendo dal particolare all'universale l'induzione è l'opposto della deduzione la deduzione magia all'universale al generale l'induzione invece dal particolare all'universale e consiste appunto nella constatazione di dati di fatto non tutti giocché non tutti assurgono alla necessità dell'universalità alcuni dati di fatto evidentemente il collegamento tra il termine A e il termine B è vero in alcuni casi questo dipende dall'osservazione che si fa in questa o in quella disciplina ma non è necessariamente vero in tutti i casi le definizioni derivano dall'intelletto e dalla sua capacità di intuizione razionale è lo stesso discorso che abbiamo visto in Platone nel caso di Tutore riguardava il mondo delle idee qui riguarda il mondo tu cura la realtà tu cura la realtà in sé per sé abbiamo visto come nell'ambito della metafisica aristotelica il concetto l'igualismo quella distinzione tra piano delle idee e piano della realtà materiale che invece abbiamo trovato in Platone la concezione di Cristotele abbiamo detto una concezione immanentistica tuttavia ecco essa non può prescindere dall'esperienza quindi l'esperienza è assolutamente fondamentale quindi non c'è solo lo strumento della deduzione della deduzione logica che è valido quando si conoscono le premesse universali le premesse generali ma è altrettanto utile lo strumento dell'induzione quindi partire dal basso dal particolare per andare verso l'universale e poi fare il cammino inverso dall'universale scendere verso il particolare ovvero le stesse regole della dialettica platonica ma declinate in maniera diversa la funzione del ragionamento quindi dal particolare verso l'universale induzione e dall'universale verso il particolare vale anche per il discepolo di Platone c'è per il storico l'esperienza quindi da sola però non basta ha solo un valore sussidiario e preparatorio poiché essa mette in moto la capacità dell'intuizione razionale o noetica cioè del pensiero in us il pensiero quindi l'esperienza è utile è utile fare esperienza evidentemente l'esperienza non è onnicomprensiva non posso fare esperienza di tutto l'esperienza è sempre la constellazione del dato particolare quindi ha un valore come dire sussidiario e preparatorio è utile per favorire poi l'intuizione quindi da una serie di eventi da una serie di fatti questa è la caratteristica dello scienziato del genio quindi da uno esperimento a due esperimenti a un'osservazione di uno due tre fatti arriva a formulare una teoria generale che poi naturalmente dovrà essere verificata ma insomma in questo consiste l'intuizione in questo bruciare le tappe in questa capacità di passare dal particolare all'universale che si osserva che gli animali muoiono e questa è l'esperienza universale per lo più si comprende che la mortalità è parte essenziale dell'animalità l'universale sempre in questo caso si formula quindi una definizione tutti gli animali sono mortali che sarà poi la premessa di un silogitimo che io non osservo non sono in grado di osservare che tutti gli animali muoiono osservo entro in contatto con la morte con la morte di un singolo individuo cioè di un singolo animale o di una singola creatura umana e l'intuizione mi consente di estendere il concetto della mortalità alla stela più ampia degli animali e degli esseri viventi evidentemente dopodiché posso formulare appunto la definizione generale che diventa premessa di un silogitimo premessa maggiore di un silogitimo ovvero che tutti gli animali sono mortali quindi che cos'è la scienza episteme per Aristotele così come per Platone è la conoscenza dell'essenza la definizione dell'essenza l'essenza sarebbe la forma cioè i dati sostanziali quello che fa essere quella cosa quello che è ecco l'essenza di quella cosa che è fondato questo sapere dell'essenza su un atto di intuizione intellettuale che opera a stretto contatto con l'esperienza quindi l'esperienza nella visione scientifica di Aristotele è altrettanto importante tanto quanto è importante nella scienza contemporanea ecco che la visione di Aristotele getta le basi di quella che è la scienza moderna e poi la scienza contemporanea che sarà ridefinita rimodulata in maniera diversa ma insomma le basi dei procedimenti conoscitivi cioè le basi dell'organo dello strumento della logica sono quelle aristoteliche né più né meno quindi l'esperienza è importante assolutamente importante è la base dall'esperienza poi c'è il salto dell'intuizione è ancora più importante definire quindi partendo da questa scala di cui l'esperienza rappresenta il piolo più basso è definire i termini generali perché poi si può fare il cammino inverso quindi scendere dalla scala dal più general dall'universale verso il particolare attraverso appunto il sillogismo che cos'è la dialettica della dialettica Aristotele parla in un'altra opera topici topos che vuol dire luogo in greco la dialettica a differenza della scienza e qui la contrapposizione con Platone a livello lessicale si fa decisamente più significativa perché per Platone se vi ricordate la dialettica è la scienza è a tutti gli effetti scienza è la capacità di collegare in maniera veritiera le idee stabilendo in essi che poi effettivamente troviamo nella realtà ma la realtà in sé per sé per Platone consisteva nel mondo delle idee ecco la differenza con Aristotele Aristotele è in questo mondo qui quindi nel mondo della natura che va ad individuare lo scienziato aristotelico facendo esperienza anche sul campo che va a individuare la veridicità di questi messi logici per così dire ecco per Aristotele quindi termine dialettica si riferisce all'arte del probabile di dire il probabile quindi ha a che fare diciamo confina con la retorica quindi nella dialettica si usano si definiscono i principi probabili ovvero accettabili a tutti o ai competenti agli addetti ai lavori in questo in quell'ambito e tra questi o ai più o a quelli più noti e illustri quando uno fa un discorso retorico afferma delle nozioni delle cose peraltro discutibili probabili non assolutamente apodittiche dimostrative lo fa riferendosi diciamo per esempio al discorso dell'accettabilità ai termini sociali se io vado a fare un discorso in una cultura diversa dalla mia che so per esempio presso quella cultura mangiare carne di di mucca è peccato gravissimo beh evidentemente mi guarderò dal fare determinate asserzioni per non spiacere ai più evidentemente o a quelli più significativi più prestigiosi tra i miei ascoltatori l'arte della retorica per saper formulare un discorso che però non ha basi esattamente scientifiche è quella che Aristotele studia nei topic e che definisce dialettica e con questa diapositiva abbiamo sostanzialmente terminato la parte della logica nella prossima lezione tratteremo dell'etica quindi della scienza della prassi per così dire dell'arte del comportamento del pensare e definire che cosa è bene e che cosa è male cosa significa occuparsi di etica in filosofia l'etica è una scienza pratica analizziamo le parole etica viene da ethos che vuol dire costume abitudine comportamento corrisponde al latino mos da cui deriva il termine analogo per significato morale perché è una scienza pratica perché indaga la prassi il comportamento ovvero indaga quale debba essere il corretto comportamento umano l'agire corretto in vista del telos del fine della vita umana il fine della vita umana è la felicità in greco eudaimonia il buon daimon il buon demone per così dire che nella visione di Aristotele consiste lo avrete capito perché ne parliamo da un bel po' di tempo nel raggiungimento pieno del proprio fine e il fine della vita umana è iscritto nella stessa natura umana così come il fine di ciascuna sostanza è iscritto nella natura di ciascuna sostanza il fine dell'aquila sarà quello di cacciare come rapace di volare in alto nei cieli di realizzare appieno la propria natura di aquila e così il fine del leone sarà quello di un felino di un cacciatore terrestre di un cacciatore che si muove nella savana e dunque ogni essere vivente ogni creatura esistente in natura ha un suo telos un suo fine da raggiungere e sarà tanto più felice quanto più si avvicinerà al raggiungimento pieno di questo fine dunque nella visione di Aristotele il termine felicità eudaimonia che corrisponde al bene sommo cioè al massimo bene che si può raggiungere nel corso della propria esistenza consiste nel dispiegamento totipotente per così dire del dispiegamento al massimo grado delle potenzialità delle attitudini che sono iscritte potenzialmente in ciascun essere umano tali attitudini sono per alcuni versi generiche generali cioè tipiche dell'umano in quanto tale per esempio l'umano in quanto tale l'essere umano in quanto tale è caratterizzato dalla componente del logos cioè dalla cosiddetta anima razionale in realtà l'anima dell'uomo come vedremo poi accennando a qualche elemento di psicologia l'anima dell'uomo è fatta in maniera concentrica al suo interno contiene sia l'aspetto vegetativo che condividiamo con le piante sia l'aspetto istintuale animale che condividiamo per l'appunto con gli altri animali e in ultimo l'aspetto razionale quello che ci fa essere dei logicon zone degli animali pensanti pensanti nel senso di animali capaci di conoscenza e capaci di produrre atti linguistici perché logos è pensiero ragione ma è anche linguaggio dire conoscere queste attitudini sono comuni ad ogni essere umano ognuno di noi ha però delle caratteristiche diverse ha una storia diversa una autobiografia diversa ha delle potenzialità delle attitudini più o meno spiccate che nel corso della sua esistenza deve mettere a buon fine deve tradurre in pratica deve realizzare cioè far passare dallo stato di mera potenzialità cioè di attitudine allo stato di atto ovvero di facoltà tutta attuata tutta dispiegata facciamo degli esempi concreti l'attitudine a suonare musica a produrre musica è un'attitudine che può essere più o meno spiccata più o meno presente in ciascuno di noi non per questo tutti noi diventeremo dei grandi musicisti anzi pochissimi diventeranno dei grandi musicisti numero più ampio potranno diventare dei buoni musicisti o dei musicisti mediocre molti diventeranno dei musicisti musicisti così con doti poco spiccate musicisti per passione personale per hobby molti matureranno un certo orecchio musicale ma moltissime persone non faranno un uso significativo della propria attitudine alla musica allora ognuno di noi personalmente ha delle attitudini queste attitudini sono comuni a gran parte dell'umanità l'attitudine fondamentale è quella alla conoscenza che è per così dire un'attitudine una potenzialità trasversale perché riguarda tutte le altre attitudini quella musicale richiede delle conoscenze quella atletica fisica richiede evidentemente delle conoscenze a maggior ragione quella della ricerca scientifica richiede delle conoscenze di altro genere insomma tutto il mondo delle professioni quelle che noi chiamiamo professioni si basa su delle attitudini su delle potenzialità che ciascuno di noi deve scoprire conoscere di cui deve diventare consapevole e che deve per così dire sviluppare per poterle poi tradurre in atto atto che sarà tanto più valido tanto più significativo quanto più sarà perfetto quanto più sarà virtuoso allora capite che la nozione di felicità di Aristotele parte da questo presupposto ed è perfettamente conseguenziale al discorso metafisico e logico che abbiamo svolto sin qui ovvero passaggio dalla potenza all'atto realizzazione del telos del fine allora vedete che la concezione etica di Aristotele non ha nulla di moralistico nel senso cristiano o delle religioni rivelate in tali visioni etiche o morali l'uomo sarà tanto più virtuoso quanto più il suo comportamento sarà conforme a delle norme dettate da questo o da quel profeta da questa o da quella divinità e scritte nel libro la Bibbia il Corano i Vangeli e così via dunque la felicità che poi in genere è felicità che si realizza non in questo mondo ma nell'altro mondo è il prodotto di un comportamento conforme al volere di Dio alla legge di Dio nella visione aristotelica che è la visione tipicamente greca manca il comandamento eteronomo cioè quello gestito nomos il nomos la regola che ci proviene da un'altra eteros da un'altra voce da un'altra autorità che è quella divina qui la misura del corretto comportamento la cui realizzazione è tutta terrestre e in questa vita qui dunque è immanente è immanente ebbene il criterio la pietra di paragone è la physis è la natura ovvero è la realtà delle cose così come sono nella fattispecie la realtà effettiva della natura umana declinata secondo persona secondo ciascun individuo c'è una categoria generale dicevo prima ci sono delle attitudini generali delle potenzialità che tutti quanti noi in quanto esseri umani possediamo in maniera diversa con gradi diversi poi ognuno di noi realizza o prova a realizzare realizzare quindi trasformare dalla potenza all'atto tali attitudini in fatti concreti e allora in che cosa consisterà torniamo all'esempio di prima la piena realizzazione del di quell'attitudine musicale di cui dicevamo bene il grande musicista il grande violinista avrà realizzato la sua attitudine musicale in maniera ricca significativa felice quando riuscirà a suonare Mozart piuttosto che Brahms in maniera più o meno perfetta quindi una grande eccellente esibizione musicale è il segno è l'atto di una attitudine che attraverso la prassi attraverso l'allenamento si è concretizzata in quella opera lì opera che è il suonare il violino e il produrre un qualcosa di bello di armonioso di ricco e di assolutamente fine a se stesso perché le cose belle della vita le cose belle della vita sono quelle ci insegna Aristotele che valgono in sé e per sé non che sono strumento per altro ma che valgono in sé per sé dunque quelle esperienze che facciamo perché meritano di essere fatte in sé per sé perché ne portiamo scritte dentro per così dire le potenzialità di fondo perché ci permettono di realizzarci come esseri umani nel qui e nell'ora in questa vita qui la felicità non è domani non è nel mondo dietro il mondo non è nel ciclo di trasmigrazione delle anime che richiedono cicli e perfezionamenti ulteriori vedi la teoria pitagorica quella platonica ma è in questa vita qui vita che è propria del nostro essere mortali del nostro essere per la morte allora c'è un termine e il termine è il limite entro il quale all'interno del quale va realizzato al massimo grado il telos cioè il fine dunque le attitudini che abbiamo in potenza sin da piccoli da giovani da giovanissimi dobbiamo farle maturare dobbiamo tirarle fuori dobbiamo renderle utili a noi stessi e agli altri in questa maniera realizzeremo appieno la nostra natura e saremo felici ecco il termine felicità che ripeto non è la felicità come la si intende in maniera generica no? una vita felice è una vita morale intesa alla maniera per così dire cristiana qui la felicità vero l'etica eudaimonistica l'etica che mira alla felicità deriva dalla piena realizzazione delle proprie potenzialità interiori e dunque dal compiere cose egregie come dire l'esibizione di quel violinista è stata particolarmente felice alla mano felice tutto quello che tocca diventa oro metafora per dire uno che ha il pallino del commercio per esempio quindi l'azione felice è l'azione efficace significativa così come la virtù non è il rispettare questo o quel dogma non fare sesso prima del matrimonio una volta si diceva così di una donna virtuosa virtuoso è il violinista torniamo all'esempio di prima che sa suonare in maniera egregia infatti si parla nell'ambito dell'arte di virtuosismo ecco questo termine virtuosismo è conforme alla visione etica di aristotele per il resto la visione etica di aristotele è sostanzialmente la visione da cui prende spunto l'etica occidentale e l'opera fondamentale che aristotele dedica all'etica che ci è rimasta l'etica annicomaco è uno dei libri di aristotele che ha avuto più successo più fortuna nei secoli anzi nei due millenni e mezzo successivi pensate che nella divina commedia nell'inferno virgilio che accompagna dante rivolge a dante queste parole vi dice a proposito dell'etica di aristotele la tua etica l'etica annicomaco se lo fa dire dante da virgilio a confermare che dante ha particolarmente a cuore l'etica di aristotele l'etica di aristotele è stata poi ampiamente rivisitata riscoperta nel corso del ventesimo secolo e ha oggi un'importanza fondamentale oggi nel ventunesimo secolo perché l'etica aristotelica così come l'etica della Grecia antica della grecità le etiche anzi lo decliniamo al plurale hanno questa virtù questa caratteristica cioè quella di poter essere utilizzate a prescindere dalla confessione religiosa sono assolutamente aconfessionali sono assolutamente laiche e sono assolutamente filosofiche nel senso che sono aperte alla discussione alla riflessione sono adattabili all'uomo in carne ed ossa ed è esattamente l'uomo in carne ed ossa che ha in mente Aristotele ecco perché la sua etica è un'etica particolarmente flessibile particolarmente umana ha tante sfumature di colori diversi perché diversi sono gli esseri umani e perché ciascuno in sé contiene tante potenzialità diverse tanti aspetti della vita diversi ovvero per vivere una vita felice e per realizzare appieno la arete la virtù arete la radice ar da cui ariston il meglio la cosa migliore da cui anche aristocratico ar questa radice che indica l'eccellenza l'eccellenza nella prassi l'essere eccellente nel comportamento nella visione del cleos dell'eroe greco l'aristeia l'ariston come atto eccellente è la piena la piena espansione e realizzazione delle proprie virtù guerriere quindi aristos è chille come incarnazione del guerriero perfetto questo rispecchia quella etica allora l'eccellenza è qualcosa che si può declinare in tante maniere diverse e che anche elementi diversi aristotele parlerà per esempio dell'etica nicomaco che per inciso opera particolarmente ben scritta e gradevole anche dal punto di vista letterario perché si presenta come una serie di consigli che il padre dà al figlio aristotele a nicomaco al figlio nicomaco gli dice ho detto tante cose interessanti o meno interessanti ti voglio lasciare un'eredità che non è fatta di un gruzzolo di denaro è fatta di consigli pratici su come ben vivere perché hai solo questa vita qui poi devi morire e dunque devi vivere bene qui ed ora questo è la massima la più grande eredità che un padre può lasciare a un figlio che la generazione precedente può lasciare alla generazione successiva la capacità di saper vivere la capacità di saper lottare per la piena realizzazione di se stessi cioè per la felicità come opera assolutamente fine a se stessa e quindi l'eccellenza nella visione di aristotele è dicevo a tante sfumature di grigio diverse quindi una vita felice è una vita in cui anche la ricchezza i beni materiali hanno parte perché la ricchezza non è assolutamente fine a se stessa ma una situazione economica tranquilla consente comunque di ben vivere ci vuole anche quella e ci vuole anche la salute è assolutamente importante per i greci poi è anche importante l'aspetto fisico kalos kai agatos kalos è la bellezza un certo aspetto gradevole che si accompagna alla bontà al buon carattere c'è la virtù intesa come capacità di realizzare le proprie attitudini le proprie potenzialità ma per una buona vita è importantissimo per l'uomo greco l'aspetto politico c'è quello della comunità della polis che non è la politica come la intendiamo noi oggi è il partecipare attivamente alla vita della comunità di cui si si fa parte e ci si sente parte perché ci si realizza in quella comunità si è utile agli altri nella misura in cui si è utile a se stessi e viceversa si è utile a se stessi perché si riesce a essere utili agli altri ci si sente utili agli altri questo è fondamentale se è un uomo togliete se è un uomo giovane vecchio adulto togliete la dignità del lavoro intesa come missione come capacità come sapersi utile agli altri vi avete tolto l'anima in un certo senso e questa è la dimensione politica del politicon zone se raggiungete questa dimensione e vi realizzate in questo senso avete realizzato una parte significativa delle vostre attitudini delle vostre potenzialità come esseri umani e poi c'è anche la fortuna anche la buona sorte in effetti anche nel termine eudaimon eudaimonia è implicita la buona sorte perché molte cose non dipendono da noi la salute non dipende da noi o dipende solo in minima parte da noi secondo la visione di Aristotele gli incontri a volte sono casuali e poi c'è l'altro elemento fondamentale di cui abbiamo già parlato che è filia l'amicizia senza amicizia senza condivisione senza capacità di condividere le cose belle per noi insieme agli altri quindi trovare qualcuno con cui condividere quello che per noi è veramente bello significativo che sia l'atto sportivo in una squadra di calcio o il suonare musica in una band se non riusciamo a condividere questo dono con gli altri comunque sia la nostra attitudine la nostra potenzialità rimane per così dire dimezzata meno significativa meno ricca meno espansiva ecco che l'etica è in un certo senso una categoria della politica rientra a pieno titolo nella politica cioè in quella essenza di politicon di animale politico che contraddistingue secondo Aristotele l'essere umano quindi vedete quante sfumature di colori diversi vedete quant'è umana l'etica di Aristotele e quanto è laicamente adattabile nonostante tutte le differenze del caso è adattabile alla vita contemporanea c'è una differenza fondamentale dico e poi andiamo avanti la differenza fondamentale è che la visione classica quella di Greci è basata su un criterio che è quello della realtà della physis verso il quale l'uomo è libero nella misura in cui si adatta nella misura in cui si armonizza l'idea è quella di armonizzarsi con la natura cioè di armonizzarsi con la realtà cioè di sentirsi parte della realtà così come ci si sente parte della comunità politica purtroppo la visione di oggi la visione contemporanea è viziata da un pregiudizio da una visione diversa da una concezione del mondo diversa che è quella della realizzazione dell'umano contro in contrapposizione alla natura e la logica del dominio sulla natura quella della tecnica della tecnica nel senso baconiano moderno del termine l'uomo che deve padroneggiare cioè tenere sottomessa la natura da qui le aberrazioni la visione climatica per esempio anche quella che stiamo vivendo della pandemia entro certi limiti ecco per un greco invece la adesione alla natura l'armonizzazione della natura è fondamentale così come il buon medico è colui che esercita la tecne l'arte della medicina che ha come oggetto non solo il comportamento del medico ma poi ha come oggetto la salute è una tecnica poietica oltre che pratica è poietica perché genera poiesis produce qualcosa di ulteriore in questo caso cosa di ulteriore rispetto all'agire del medico è la salute del paziente cioè il telos in ultima istanza è fuori dalla gente d'accordo? cioè la salute del paziente così come il telos dell'arte poietica della pittura sta in ultima istanza fuori eh? dal pittore che produce quel quadro ovvero il quadro stesso d'accordo? allora la medicina nel mondo greco non consiste nello stravolgere la natura ma nell'assecondare la natura nel ripristinare la natura la malattia viene considerata una alterazione una disarmonia dell'equilibrio naturale e il medico ha il compito di riequilibrare tale squilibrio allora una tecnica concepita in questa maniera vi rendete conto è abbastanza diversa o molto diversa in alcuni casi dalla tecnica intesa come strumento di dominio della natura allora l'uomo è libero nella misura in cui è padrone e capace con il razziocino di scegliersi i mezzi più appropriati per realizzare delle attitudini delle potenzialità dicevo prima che sono iscritte nella sua natura kata fucin sono secondo natura le virtù si distinguono in due grandi ambiti quelle etiche e quelle diano etiche vediamo un attimo il significato di etica lo abbiamo già detto etos è il costume l'abitudine il comportamento concreto diano etiche il termine viene da diano ya diano yae l'intelletto l'intelligenza allora le virtù etiche sono quelle che si coltivano nella vita di tutti i giorni si coltivano soprattutto da giovani l'abito del saper stare a tavola del saper mangiare in maniera corretta l'abito del saper camminare o dello stare seduti in maniera corretta l'abito del saper comunicare in maniera socialmente corretta con l'adulto piuttosto che con il coetaneo rispettando delle regole non scritte talvolta anche scritte allora questi abiti quelli che noi chiamiamo la buona educazione una persona ben educata è una persona in parte consapevole comunque in grado di comportarsi in una maniera giusta nelle diverse situazioni questo non significa avere un'intelligenza specifica in questa o in quella disciplina né approfondire questa o quella visione delle cose questa o quella attitudine conoscitiva ma significa sapere stare al mondo in maniera più o meno consapevole allora l'etica quelle che sono le virtù etiche si esplicano si esercitano attraverso il dominio per così dire della ragione del buonsenso la fronesis la saggezza la capacità di stare al mondo su quelli che sono gli impulsi sensibili sugli istinti e questa è la differenza specifica dell'uomo da altri animali gli altri animali sono semplicemente istintuali quindi agiscono come comanda loro l'istinto dunque non sono liberi di scegliere i mezzi più appropriati per il raggiungimento del fine o lo raggiungono o lo raggiungono secondo le loro prerogative naturali l'uomo invece è in grado di mediare di trattenersi sul limitare dell'impulso cioè di obbedire pienamente all'impulso allo scatto d'ira posso obbedire allo scatto d'ira lasciarmi trasportare via allo scatto d'ira e esplodere dai racondo e peggiorare la mia situazione o fare il male oppure posso sopprimere del tutto l'ira che invece ha una funzione positiva in taluni casi bisogna gestirla bisogna imparare a ben usare questa o quella passione questa o quell'istinto vedremo poi come si declinano le virtù etiche le virtù piano etiche invece riguardano la parte specificamente intellettiva nazionale e il suo esercizio le virtù etiche le virtù etiche di Aristotele sono quelle che vengono sintetizzate con il termine giusto mezzo giusto mezzo è la formula magica dell'etica classica declinata in tante maniere diverse sin dall'etica delfica per così dire conosci te stesso conosci il limite il limite questo è il mezzo è l'equilibrio tra opposti a me due viziosi perché viziosi perché ci mettono in cattiva luce con Dio perché facciamo peccato no no la logica è sempre qui è terrena perché ci procurano situazioni negative ci fanno stare male qui ed ora producono dei cattivi comportamenti cioè ci allontanano dal telos dalla piena realizzazione di noi stessi ecco perché sono comportamenti viziosi una postura viziosa nello stare seduto ti fa venire la scoliosi non ti fa andare all'inferno ti fa venire la scoliosi e dunque il corretto ethos il corretto costume la corretta postura produce degli effetti tangibili in questa vita qua una schiena ben diritta un portamento ben diritto che non saranno la felicità somma ma comunque sono un ingrediente direbbe Aristotele della felicità pensate ad essere degli storpi comunque a soffrire di scoliosi particolarmente accentuati allora in medio stat virtus dice per esempio Orazio la virtù virtus la rete sta nella medietà nel giusto mezzo nel giusto equilibrio aurea mediocritas questo per usare le formule latine quella greca dice non mediocritas ma metriotes il metron è la misura catà metron fai ogni cosa secondo misura e la misura è quella physis che dicevamo prima e dunque il coraggio che cos'è è la via media è la via mediana tra la viltà e la codardia da una parte e la temerarietà dall'altra il temerario lo sbruffone quello che non ha paura di nulla dice non ha paura di nulla si espone inutilmente ai pericoli durante una campagna militare non è una persona coraggiosa perché non ha idea non sa in che cosa consiste qui il sapere la nozione del conoscere la nozione del conoscere qui si esplica come scienza del temibile del non temibile cioè il sapere che cosa effettivamente occorre temere e che cosa non occorre temere quindi avere una nozione chiara della realtà l'ansia lo stato d'ansia parliamo della paura lo stato d'ansia ingiustificata è un difetto direbbe Aristote e deriva da un difetto di conoscenza perché tu temi in maniera esagerata ciò che non è da temere non che non è da rispettare o che non è da considerare con il giusto con il dovuto rispetto ma che tu temi eccessivamente lo carichi gli significati che vanno oltre realisticamente oltre il fatto di sé e d'altra parte la temerarietà la sicumera l'eccessiva sicurezza in sé produce altri danni senso opposto è così la temperanza è la via di mezzo tra l'intemperanza e l'insensibilità la frigidezza per così dire e quindi il bere e il mangiare il bere il giusto bicchiere di vino rosso direbbero i medici allora quel bicchiere quella dose è piacevole e anche entro certi limiti salutare il bere troppo e qui dipende poi dalla singola persona per qualcuno il bere troppo vuol dire cedere mezzo bicchiere per qualcuno vuol dire andare oltre il bicchiere ma ognuno di noi ha un corpo diverso il corpo dell'atleta è diverso da quello dello studioso più o meno attaccato alla scrivania perché ha esigenze nutritive energetiche diverse anche quindi va declinato rimodulato a seconda dei casi la temperanza sta nel sapere contenersi senza farsi mancare nulla senza astenersi del tutto dalle cose belle della vita perché le cose belle della vita sono quelle che concorrono alla felicità quindi all'analizzazione di quella eudaemonia di cui dicevamo prima e così la liberalità via di mezzo tra avarizia e prodigalità la magnanimità giusta via di mezzo tra vanità l'essere vanesi e l'umiltà la mansuitudine come elemento a mezza strada tra l'irascibilità e l'indolenza dall'esempio che facendo prima la virtù etica per eccellenza è la giustizia quindi la giustizia è una sorta di genere all'interno del quale si possono iscrivere le diverse specie che vuol dire giustizia è conformità alle leggi e qui le leggi sono le leggi della natura in primis del macrocosmo che poi diventano se formulate in maniera equilibrata anche le leggi del microcosmo politico della polis o anche della oichia della oiconomia la legge della casa quindi della corretta gestione della casa della famiglia dal più grande al più piccolo dal macrocosmo al microcosmo allora la giustizia è la via di mezzo l'abbiamo già visto parlando degli epiturei scusate dei pitagorici e di platone per esempio abbiamo due tipi di giustizia la giustizia distributiva che presiede la distribuzione del denaro per esempio degli onori a dividersi all'interno di una comunità per esempio della comunità ma possiamo fare anche l'esempio della famiglia quindi vengono distribuiti secondo i meriti la cosiddetta meritocrazia la giustizia distributiva non vuol dire dare a tutti quanti la stessa cosa ma vuol dire dare a ciascuno in proporzione al suo merito o meglio a come ha realizzato la propria attitudine in questo o in quell'ambito perché vive e dire non abbiamo tutti le stesse per fortuna non abbiamo tutti le stesse attitudini sviluppate alla stessa maniera nello stesso grado meno male meno male perché abbiamo bisogno della diversità la diversità è ricchezza perché se tutti fossero i medici mancherebbero gli ingegneri se tutti facessero gli ingegneri mancherebbero gli operai se tutti facessero gli operai mancherebbero gli insegnanti eccetera eccetera dunque a ciascuno il suo secondo i meriti poi c'è la giustizia commutativa che presiede i contratti ed è correttiva poiché mira a pareggiare i vantaggi e i disvantaggi tra i due contraenti e quindi questa mira sostanzialmente all'uguarianza a pareggiare ed è anche questa norma politica norma di giustizia politica oltre che di giustizia relazionale per così dire no ovvero se tizio ha commesso un crimine e la gravità del crimine è valutabile in cinque anni di carcere ma ci sono poi delle attenuanti generiche che posso far valere o specifiche che posso far valere in quel caso allora lì debbo sostanzialmente misurare misurare la giusta pena da infliggere al reo quindi non cinque anni ma quattro perché ci sono queste attenuanti oppure ecco in un contratto di tipo commerciale la giustizia commutativa prevede che il prezzo per esempio di vendita di quell'immobile sia coerente sia conforme sia proporzionato all'immobile stesso al valore dell'immobile stesso e dunque studiessa si fonda lo avrete capito il diritto privato la nozione di diritto privato quindi chi di voi studerà giurisprudenza all'università sappia che così come ha incontrato Aristotele nell'analisi logica già lo conosce così come l'ha incontrato nell'informatica perché l'informatica si basa sulla logica fondamentale quindi già lo conosce così come l'ha incontrato nella capacità espositiva nella retorica l'ha incontrato nella pratica svolta a scuola in maniera più o meno consapevole in tutti questi anni lo incontrerà anche a proposito del diritto lo studierà in filosofia del diritto e poi l'equità che è la correzione della legge secondo il diritto naturale perché sì c'è un diritto positivo che è quello del nomos della legge degli uomini della polis ma c'è anche un altro diritto come ci insegna l'antico nevisofople un diritto che è iscritto per così dire nel bios nella natura umana eh un diritto non scritto quello che muove per esempio Antigone la pietà che prova Antigone nei confronti del fratello morto lo porta la porta a dare sepoltura al fratello morto incorrendo nel nella condanna di Eteocle dello zio Eteocle era il fratello evidentemente creonte che la condanna a sua volta di una morte terribile il dramma qui è la contrapposizione tra il nomos interiore la legge dell'umanità per così dire e del divino e la legge scritta negli uomini quindi l'equità sta nel correggere la legge degli uomini a seconda del diritto naturale poi ci sono le virtù dianoetiche sono cinque vediamole una per una arte in greco tecne che è la capacità accompagnata da ragione di produrre un qualche oggetto quindi la tecne si esercita in tante maniere diverse allora per arte vedete che il termine greco qui è un termine medio ha un significato uno spettro dei significati più ampio il termine arte in italiano lo intuiamo dal latino arts ma l'arte indica le cosiddette belle arti indicano la pittura la scultura quindi qualcosa di piacevole che è assolutamente fondamentale poi ci sono le tecniche le tecniche però ecco il termine ritorna per esempio nel concetto di artigianato l'artigiano è un tecnico in un certo senso ecco in greco il termine tecne comprende sia diciamo i mestieri tecnici per così dire quindi saper operare trasformando la materia sia la produzione di opere belle quindi sia una poesis volta all'utile per così dire quindi volta a un prodotto tecnicamente utile sia una poesis prodotta a ciò che più che è massimamente utile che è soprattutto utile cioè il bello perché perché è fine a se stesso perché mentre le altre cose servono a sono strumenti per quindi sono utili il bello non è strumento di niente è esperienza che vale la pena vivere in sé per sé come l'amore come l'essenza della vita stessa la saggezza fronesis è la capacità accompagnata sempre da ragione e la consapevolezza questo è l'elemento distintivo delle virtù dianoetiche basate sulla dianoia cioè sull'intelligenza è la capacità di agire convenientemente nei confronti dei beni umani cioè di sapersi condurre nella vita è la capacità pratica per eccellenza il saper vivere il saper stare al mondo il sapersi orientare nel quotidiano il saper compiere le scelte quelle più difficili anche quelle più minute quelle più semplici eh quelle apparentemente più semplici o più banali del quotidiano fronesis poi c'è l'us l'intelligenza e la scienza che sono collegate insieme che sommate insieme danno la sapienza l'intelligenza è l'us eh è la capacità di intuire di cogliere i primi principi di tutte le scienze quelli che non si possono dimostrare per deduzione ma che vanno visti vanno visti oida ho visto so cioè vanno intuiti cioè per esempio gli assiomi i postulati i principi primi della gioveria della matematica che non si deducono si vedono si conoscono direttamente per intuizione questo è il nus la capacità di penetrare di vedere oida ho visto poi c'è la scienza episteme eh che è la capacità razionale di delurre dei principi le conseguenze cioè di produrre quei sillogismi di cui dicevamo nella scorsa lezione allora l'intelligenza il nus è la capacità di cogliere eh per intuito la caratteristica specifica di questo di quella sostanza l'uomo è un animale gli animali sono creature mortali l'uomo è mortale allora l'animalità dell'uomo non è qualcosa che io posso dimostrare a posteriori è qualcosa che devo intuire per così dire la scienza invece è la capacità di ridurre quindi di operare dei ragionamenti sillogistici è la capacità diciamo scientifico dimostrativa per così dire in ultimo c'è la sapienza la sapienza è sofia in greco sofia è la congiunzione del corretto nus della potenza episteme quindi conosce i principi primi e le dimostrazioni e studia arriva alle più alte realtà ovvero alle cause prime ovvero al divino a dio autore immobile pensiero di pensiero dunque le virtù dianoetiche rappresentano le virtù più tipiche più sostanziali dell'uomo e dunque sono quelle in grado di procurare il massimo della felicità l'ariston la più perfetta felicità e la più perfetta felicità dunque consiste in un certo senso nel bios theoreticos cioè in una vita dedicata alla sapienza dedicata allo studio per risolvere dedicata alla filosofia se la caratteristica principe dell'uomo consiste nel logos e nell'intelligenza l'esercizio puro e semplice fine a se stesso dell'intelligenza gli procurerà il massimo piacere la massima felicità la massima realizzazione quindi una vita teoretica vissuta con gli amici eh in figlia per così dire è in un certo senso l'ideale di vita aristotelica aristotelica fermo restando che ripeto Aristotele è molto più umano molto più concreto di quello che si pensi è il bios theoreticosso di cui parla Aristotele è il bios theoreticosso il nuovo greco non è la vita contemplativa del monaco medievale o dell'ostilita che sta in cima alla colonna o dell'anacoreta che si va macerando nelle penitenze per avvicinarsi a Dio è la vita di un essere umano incarnato in carne ed ossa corporeo molto corporeo politico che vive in comunità e che fa della filia cioè della mutua relazione con altri uomini mutua relazione basata su logos l'essenza del suo vivere un vivere dedicato in questo caso allo studio alla teoria alla conoscenza al piacere di conoscere in sé persone in questo l'uomo si avvicina al divino che cos'è il divino? se non pensiero di pensiero cosa c'è di più perfetto? il Dio lo abbiamo detto ha come oggetto di pensiero se stesso cioè la propria assenza la propria natura e così il sapiente colui quale beh non pensa a se stesso perché è assolutamente autosufficiente ma pensa alla realtà rispecchia la realtà si avvicina in qualche maniera al pensiero del divino all'attività più perfetta che ci sia e con questo abbiamo diciamo chiuso l'argomento etica nella prossima lezione affronteremo l'ultimo argomento quello della fisica insieme quello della psicologia la fisica in Aristotele rappresenta la seconda scienza teoretica seconda perché studia il mondo naturale la physis che è un mondo derivato dalla causa prima la causa prima è ciò di cui si occupa la metafisica lo abbiamo già studiato la causa prima è il dio in Aristotele dunque abbiamo detto come la metafisica sia anche una forma di teologia la fisica studia le cause seconde è indubbiamente una scienza teoretica perché si occupa di descrivere la realtà in questo caso la realtà della physis cioè della natura ovvero di tutte quelle cose cause seconde e cose causate effetti dunque che sono caratterizzate dal movimento abbiamo visto come la caratteristica fondamentale del dio aristotelico una delle caratteristiche fondamentali fosse proprio l'immobilità immobilità è sinonimo di perfezione ovvero ciò che è perfetto il dio non è portato a muoversi in nessuna direzione perché il movimento indica il cambiamento e il cambiamento è sinonimo a sua volta di imperfezione cioè di tendere verso qualcosa ovvero avere la necessità di colmare una lacuna di soddisfare un bisogno ma ciò che è perfetto è del tutto in atto dunque non ha alcun bisogno da soddisfare alcun desiderio da soddisfare pertanto è immobile ovvero atto puro le sostanze che esistono in natura invece non sono atti puri cioè hanno in sé una certa dose più o meno rilevante di potenzialità che debbono tendenzialmente tradurre in atto questa è la logica del movimento quindi tutte le sostanze che sono caratterizzate dal movimento sono caratterizzate da dal possedere una certa quantità di potenzialità che deve essere tradotta in atto è la stessa visione che abbiamo per esempio studiato a proposito dell'eros platonico ovvero eros è ciò che mi spinge a colmare un bisogno a desiderare il dio che è perfettamente sapiente non ha nulla da desiderare è assolutamente soddisfatto in sé e per sé dunque è caratteristica dell'uomo il desiderare o comunque delle sostanze intermedie il movimento nella visione fisica di Aristotele si distingue in quattro modalità diverse c'è il movimento sostanziale ovvero quello che produce generazione e corruzione qui per movimento si intende il divenire il trasformarsi il diventare altro ovvero il passaggio da un certo essere in potenza a un certo essere in atto allora il fatto che tutte le cose viventi tutte le cose presenti in natura siano soggette a nascita e a morte e ovvero al fenomeno di generazione e al fenomeno di corruzione indica la loro potenzialità a trasformarsi le sostanze che esistono in natura evidentemente esistono ma sono soggette al divenire quindi esistono a tempo determinato a differenza del motore immobile del divino la cui dimensione è quella dell'eternità e anche a differenza delle sostanze celesti ovvero i sette pianeti che ruotano intorno alla terra i sette cieli che ruotano intorno alla terra in realtà i pianeti planetes in greco vuol dire il vagante ciò che si muove ciò che si sposta nello spazio e si contrappone il planetes il concetto di planetes si contrappone alle stelle fisse alle stelle fisse dunque nella visione di aristotele che poi verrà ripresa successivamente nel medioevo per esempio la troviamo ben rappresentata con alcune piccole modifiche nella visione del cosmo dantesco quello presente nella divina commedia dante a sua volta come abbiamo detto a suo tempo lo riprende dalla tomistica di sant'ommaso sant'ommaso lo ricordiamo per l'ennesima volta è il filosofo dominicano che traduce aristotele e dunque anche la fisica aristotelica in termini cristiani in termini accettabili per il cristianesimo medievale e a sua volta dante alighieri legge tommaso e quindi utilizza la visione tomistica nel suo poema nel suo massimo poema la divina commedia che tutti conosciamo allora stavo dicendo i cieli sono caratterizzati da un certo qual movimento che è quello circolare intorno alla terra movimento circolare che contraddistingue i cosiddetti planetai i pianeti gli erranti gli errabondi per così dire dietro sullo sfondo c'è il cielo delle stelle fisse la cui fissità la cui immobilità che però ritorna a seconda della stagione dell'anno quindi ha una sua ciclicità l'immobilità delle stelle fisse è prologo all'immobilità ulteriore del motore immobile che è il divino che rappresenta il divino quindi oltre il cielo delle stelle fisse si staglia si colloca per così dire il divino e lo stesso più o meno nella visione di Dante allora tutte le cose che esistono sotto il cielo sotto il primo cielo che è il cielo della luna quindi tutte le cose tutte le sostanze sublunari quindi che appartengono alla sfera terrestre la terra è posizionata al centro dell'universo aristotelico intorno alla terra ruotano fissati su delle sfere concentriche i planetai i sette terrabondi che sono i cinque pianeti allora visibili ad occhio nudo più il sole e la luna il primo cielo è la luna la luna effettivamente a occhio nudo è l'astro che appare più vicino alla terra e dunque tutte le cose tutte le sostanze che si trovano al di sotto del cielo della luna quindi le sostanze sublunare stavo dicendo sono soggette alla generazione e alla corruzione nascono e muoiono invece le sostanze iperlunari per così dire quindi a partire dal primo cielo quello della luna a salire fino al cielo delle stelle delle stelle fisse sono caratterizzate sì da un movimento però un movimento perfetto per così dire cioè il movimento circolare che è la forma di movimento che più si avvicina in un certo senso alla perfezione dell'immobilità che compete soltanto al motore immobile cioè addio allora i cieli sono caratterizzati al movimento circolare intorno al centro del mondo e il centro del mondo è la terra il centro della terra è quindi il baricentro dell'intero universo nel cielo sublunare ci sono le sostanze seconde che sono caratterizzate da generazione e corruzione quindi nascono e muoiono quindi sono soggette al divenire a un movimento che riguarda il loro essere sostanziali la loro essenza poi c'è un tipo di movimento qualitativo ovvero l'alterazione delle qualità qualità che si perfezionano o si sminuiscono a seconda delle evenienze naturalmente io per esempio posso avere delle qualità intellettive se sono un essere umano cioè delle attitudini delle potenzialità che col passare del tempo e con l'allenamento ne parlavamo a proposito dell'etica vado a sviluppare vado a migliorare e quindi ho un'alterazione ho un cambiamento quindi un movimento un divenire in termini qualitativi e evidentemente anche la qualità delle mie attitudini intellettuali può col passare del tempo con la senescenza può evidentemente sfumare diminuire indebolirsi il terzo modo di intendere il movimento dunque il divenire è il movimento in senso quantitativo e qui è decisamente semplice aumento o diminuzione l'aumento o la diminuzione caratterizzano tutte le sostanze parliamo sempre stiamo sempre parlando del cosiddetto mondo sublunare d'accordo non so esempio banalissimo che mi viene in mente è la diminuzione la diminuzione dei capelli fino a diventare calvo in un uomo per esempio l'accrescimento l'aumento è quello della crescita per esempio il prender peso nel senso dello svilupparsi delle ossa dei muscoli in un giovane che si sta sviluppando e che è in piena fase di crescita per così dire ma insomma la categoria della quantità la si può declinare in tantissimi altri modi poi c'è il movimento vero e proprio insomma quello che noi intendiamo con movimento cioè il movimento locale che è sempre una forma di divenire è uno spostamento quindi quello locale è il movimento che avviene sempre nel mondo sublunare in maniera rettilinea da qui tutte le sostanze soggette a generazione e corruzione quindi quelle presenti nel mondo sublunare si muovono localmente per traslazione mentre tutte le sostanze iperlunari per così dire quelle che appartengono ai cieli si muovono in maniera circolare e il movimento circolare lo abbiamo già detto è più vicino alla perfezione dell'immobilità del movimento traslatorio il movimento traslatorio lo si può intendere a seconda degli elementi di cui stiamo parlando o verso l'alto quindi dal centro del mondo verso l'alto o dall'alto verso il centro del mondo verso il basso in che senso quindi si tratta di un movimento traslatorio dal basso verso l'alto salire in un certo senso oppure uno scendere dall'alto verso il basso in che senso Aristotele individua quattro elementi che poi sono i quattro elementi della tradizione filosofica antica di cui avevano già parlato i prisocratici ovvero acqua aria terra e fuoco allora ciascuno di questi quattro elementi di cui sono fatte tutte le sostanze sublunari quindi anche il nostro corpo evidentemente il nostro corpo di uomini il corpo degli animali le piante i minerali eccetera eccetera tutte le cose composte da questi quattro elementi sono soggette a un movimento più o meno traslatorio e allora ogni elemento ha per così dire un suo luogo naturale questo è diciamo la spiegazione che dà Aristotele del movimento il luogo naturale della terra e dell'acqua è verso il basso dunque se io prendo una pietra e la getto giù da una scarpata questa pietra tenderà a rotolare finché non incontra un ostacolo e tendenzialmente la vediamo muoversi dall'alto verso il basso verso un ipotetico centro della terra noi oggi definiamo questo movimento con l'idea con il concetto di forza di gravità quindi diciamo che la pietra rotola giù si muove attratta dal centro della terra dal centro del pianeta è una questione di masse una massa più grande la terra il pianeta terra attrae a sé masse più meno consistenti la stessa luna è in orbita intorno alla terra per via di questa forza di attrazione che poi è una forza di attrazione reciproca ma per arrivare a queste idee dobbiamo dovremmo arrivare a Newton molti molti secoli dopo quasi duemila anni dopo Aristotele torniamo ad Aristotele quindi la pietra si muove verso il basso per questo motivo il luogo naturale dell'acqua è sempre verso il basso ma è al di sopra della pietra cioè della terra è facile anche qui osservare il motivo per cui Aristotele empiricamente da buono scienziato empirico quale lui era anche aveva maturato questa idea il letto del fiume è che cosa è il manto terroso pietroso sul quale scorre il fiume le acque del fiume sul quale le acque del fiume scorrono anche qui dall'alto della sorgente che sta in genere cima a una montagna verso il basso fino a sfociare nel mare allora l'acqua va verso il basso ma è un basso meno basso scusate il gioco di parole della terra l'aria e il fuoco invece sono elementi che tendono verso l'alto per ragioni anche qui abbastanza evidenti se proviamo ad accendere con un accendino con un fiammifero accendere un fuoco notiamo che la fiamma si dirige immediatamente verso l'alto lo stesso dicasi per una candela la fiamma della candela punta verso l'alto e in effetti gli astri ci appaiono infuocati dunque il luogo naturale del fuoco è l'alto sotto il fuoco per così dire invece troviamo il luogo naturale dell'aria l'aria si colloca al di sopra dell'acqua che a sua volta è al di sopra della terra ancora più su c'è il luogo naturale del fuoco quindi ciascun elemento liberato da ostacoli tende ad andare o verso l'alto nel caso dell'aria e del fuoco o verso il basso nel caso dell'acqua e della terra aristotele ammette anche il cosiddetto quinto elemento il quinto elemento incorruttibile incorruttibile viene chiamato etere e di etere sono composti i cieli ovvero quella parte del cosmo che non è soggetta a generazione e corruzione quindi i mondi iperlunari superlunari per così dire dunque ho cambiato diapositiva ma ho anticipato il contenuto di questa diapositiva quindi quattro elementi adesso lo possiamo vedere nell'immagine fuoco e l'aria come elementi che tendono verso l'alto quindi la sfera del fuoco è quella immediatamente sotto la sfera del primo cielo quello della luna quindi il fuoco fa sempre parte del mondo sublunare poi abbiamo la sfera dell'aria poi quella dell'acqua e infine quella della terra che caratterizzano in arancione l'universo il mondo sublunare mentre il mondo sopra lunare è caratterizzato dall'elemento che abbiamo definito etere che Aristotele chiama etere che è assolutamente incorruttibile quindi non è soggetto alla generazione e alla corruzione i cieli evidentemente sono eternamente identici a se stessi l'universo per Aristotele è perfetto unico finito ed eterno non manca assolutamente di nulla assomiglia a che cosa? beh in un certo senso assomiglia alla ben rotonda sfera di Parmenide se visto dall'esterno dall'interno evidentemente la visione di Aristotele è ben diversa la ben rotonda sfera di Parmenide era omogenea in ogni suo punto ed era assolutamente come dire intangibile non si declinava in tante maniere diverse non ammetteva il movimento al suo interno ma se la vediamo dall'esterno quindi se vediamo l'universo come un tutt'uno esso appare perfetto come la ben rotonda sfera di Parmenide unico c'è un solo universo ce ne possono essere due evidentemente il concetto di multiverso in effetti è tipico del novecento cioè del ventesimo secolo quindi dobbiamo passare ancora paricchi secoli ma oggi è stato elaborato in termini matematici il concetto di multiverso quindi un un cosmo per così dire che non ha un solo verso universo significa questo una sola dimensione ma ha più dimensioni no? quindi un universo ha più dimensioni allora nel caso di di Aristotele e del mondo greco in generale perfezione significa finitezza nello spazio per così dire e nel tempo poi vedremo in maniera più puntuale i concetti di spazio e di tempo ma qui lo spazio e il tempo non sono concetti ulteriori rispetto alla natura rispetto al tutto sono concetti che noi utilizziamo per comprendere per descrivere il tutto ma non sono altro rispetto al tutto e anche qui possiamo applicare il ragionamento parmenideo se lo spazio o il tempo o lo spazio e il tempo fossero altro altro rispetto al tutto che è il cosmo beh semplicemente sarebbero non essere non si dà qualcosa di ulteriore rispetto al tutto rispetto al tutto è concepibile soltanto la parte allora se l'universo è il tutto e questo tutto appare assolutamente perfetto e dunque immutabile unico finito ed eterno non si danno altre dimensioni dunque altri concetti come lo spazio e il tempo che siano ulteriori rispetto al tutto allora nella visione greca lo abbiamo già detto ciò che è perfetto e l'universo è perfetto perché in ultima istanza a fungere da cappello per così dire da un tappo della pentola di questo universo assolutamente perfetto è il motore immobile cioè il divino che mette il punto ad un discorso ad un logos per così dire assolutamente perfetto assolutamente armonioso assolutamente equilibrato non manca di nulla altrimenti non sarebbe atto puro e abbiamo detto come il dio è il punto d'arrivo del movimento assolutamente perfetto quindi tendenzialmente perfetto nelle singole sostanze ma in ultima istanza se lo vediamo come un tutto perfetto in sé e per sé dunque la perfezione non ammette l'infinitezza perché il concetto di infinito corrisponde o assomiglia in realtà al concetto di indefinito e l'indefinitezza reca con sé la imperfezione e se una cosa è imperfetta è indefinita e quindi tendenzialmente anche infinita e questa idea contraddice con la perfezione dell'universo aristotelico del motore immobile o della ben rotonda sfera di Parmenide di cui ci siamo serviti in questo caso come metafora per articolare il nostro ragionamento e veniamo adesso appunto ai due concetti di spazio e di tempo Aristotele ritiene che in natura non può esistere lo spazio vuoto quindi lo spazio non è un concetto non è una dimensione ulteriore rispetto al tutto cioè alla natura ogni corpo ha un suo luogo naturale e il luogo è sempre luogo di qualcosa che vuol dire che lo spazio per così dire è una categoria che inerisce direttamente a un corpo un corpo in sé per sé occupa uno spazio ma nell'occupare uno spazio non ricorre per così dire ad una ad un qualcosa di ulteriore cioè lo spazio come vuotezza semplicemente nella visione aristotelica non si dà l'universo è un tutto pieno è un tutto pieno di cose di sostanze di enti e quindi noi utilizziamo il termine spazio per indicare in termini provvisori il luogo di qualcosa cioè il corpo in sé per sé quindi diciamo che quell'oggetto occupa quello spazio ma perché partiamo dall'oggetto se non ci fosse l'oggetto non ci sarebbe nemmeno la nozione di spazio da qui Aristotele nega lo spazio come che nos come vuoto e dunque nega uno dei presupposti fondamentali della fisica atomistica la fisica atomistica in due parole è caratterizzata dal dall'essere ovvero gli atomi che hanno le stesse caratteristiche dell'essere per me in idea ma per così dire è sbriciolato se mi passate l'immagine in una molteplicità infinita di particelle di atomi che a loro volta mantengono le caratteristiche dell'essere per me idea cioè sono incorruttibili indistruttibili eterni eccetera eccetera il movimento degli atomi è però giustificato è permesso e consentito dallo spazio inteso come vuoto come mancanza come non essere se non ci fosse il vuoto gli atomi non potrebbero muoversi allora affermare lo spazio vuoto come alternativa alla pienezza rappresentata dagli agglomerati di atomi che sono le cose nella visione atomistica prevede questa sorta di dualismo essere non essere atomo come pienezza del materiale versus o che richiama in maniera complementare l'assenza la vuotezza intesa come spazio ecco in aristotele i due concetti sono fusi insieme quindi non si distinguono l'oggetto esiste e nel fatto che l'oggetto esista chiama in causa anche genere anche la nozione di spazio che però non è qualcosa di separato rispetto all'oggetto stesso dunque in conclusione non esiste né il vuoto intracosmico il vuoto intracosmico è il vuoto che caratterizza questo cosmo qui l'unico cosmo quindi il mondo in cui ci troviamo noi non esistono altri mondi evidentemente esiste questo mondo qui inteso come tutto quindi tra oggetto e oggetto se avete degli oggetti a portata di mano intendiamo esattamente quelli non esiste spazio vuoto è una sorta di horror vacui di paura della vuotezza che ritroviamo anche come espressione dell'arte medievale l'horror vacui in effetti se agitiamo le mani in quello che consideriamo uno spazio vuoto apparentemente vuoto beh agitando la mano incontriamo un minimo di resistenza che è quella dell'aria come dire gli effetti di vuotezza qui intorno non ce n'è perché tutti gli spazi sono occupati da una qualche materia da una qualche sostanza l'aria si colloca più in alto rispetto all'acqua e alla terra come abbiamo visto e quindi occupa uno spazio o meglio con la sua presenza genera lo spazio quindi non c'è uno spazio predeterminato che a un certo punto viene occupato dall'aria l'aria esiste così come il fuoco così come la terra così come tutte le sostanze esiste ab eterno esiste da sempre esisterà per sempre esisterà da sempre e per sempre con quelle caratteristiche dunque generando per così dire quello spazio che però non è preesistente e non è altro rispetto all'oggetto stesso spero di essermi spiegato non è esattamente un concetto immediato ma come non esiste lo spazio inteso in termini intracosmici non esiste nemmeno lo spazio extracosmico e qui forse paradossalmente il concetto è un po' più semplice che vuol dire lo spazio extracosmico beh se immaginiamo l'universo come un tutt'uno in movimento in continua espansione oggi questa è una visione no visione che l'astrofisica ci ha confermato nel corso del ventesimo secolo no da Einstein in poi beh l'universo è in continua espansione e anche i concetti di spazio e tempo sono concetti relativi in Einstein per alcuni versi sembra quasi paradossale ma in effetti è così assomigliano nel loro essere relativi allo spazio tempo assolutamente relativi del tutto relativi fino quasi a tendere a non esistere a non esistere come dati ontologici esistono come coscienza del singolo individuo il tempo cioè consapevolezza del divenire e come presenza del singolo oggetto lo spazio ma insomma tornando al discorso di Einstein no spazio e tempo quindi sono relativi l'universo appare come un tutt'uno che è continuamente in espansione ma man mano che si espande non va a occupare uno spazio predeterminato uno spazio extracosmico ancora non invaso per così dire dall'energia e dalla materia ma è questo espandersi di energia e materia che di fatto genera spazio non so se mi sono spiegato e genera anche tempo cioè al di fuori dell'universo non c'è né spazio né tempo quindi non esiste nulla non esiste un vuoto extracosmico non esiste un luogo dove l'universo si estenda dunque tutte le cose per concludere sono nello spazio evidentemente ma non sono per così dire comprese in un vuoto inteso come universo che prescinde dalle cose stesse dallo spazio stesso quindi se dovessimo uscire con l'immaginazione dall'universo diciamo dalla terra abbandonare sempre con l'immaginazione viaggiare con la fantasia usciamo dal mondo sub lunare e attraversiamo tutti i cieli come fa Dante quando dall'inferno passa alla montagna del purgatorio per poi andare in paradiso si muove anche in uno spazio metaforico dal centro della terra che è il luogo dove si trova l'inferno scala la montagna del purgatorio e poi di cielo in cielo si arrampica per così dire si eleva verso il motore immobile Dio che dal punto di vista cristiano è inteso come amore che tutto muove sia come causa finale che anche qui come causa creatrice quindi anche come causa efficiente questa è la differenza fondamentale che abbiamo già detto tra la divinità cristiana e la divinità greca o la divinità aristotelica in particolare allora ammettiamo che Dante sia salito fino all'ultimo cielo e abbia avuto la facoltà molto particolare di sporgersi al di fuori del cielo quindi al punto di vista del Dio in qualche maniera beh che cosa avrebbe visto avrebbe visto un tutt'uno chiuso torniamo all'immagine della bella tonda stela parmenidea del tutto immobile perfetto in ogni parte del tutto concluso ma lo avrebbe visto non come oggetto una boccia di biliardo per così dire collocato all'interno di un immenso spazio vuoto avrebbe visto solo l'oggetto in sé per sé non ci sarebbe stato alcun vuoto questo è il motivo per cui il mondo la terra ma è l'universo in sé per sé sono immobili dove dovrebbero muoversi se non esiste uno spazio ulteriore rispetto all'universo stesso in quale direzione ci si può muovere soltanto se si ammette la vuotezza quindi lo spazio vuoto come fa per esempio Democrito con la teoria degli atomi che poi sarà ripresa anche da Epicuro e poi in qualche maniera alla fine trionferà indubbiamente il modello di universo aristotelico che avrà poi una lunga vita una grandissima fortuna considerate che il modello di universo aristotelico quindi la fisica aristotelica rimarrà per così dire con molti aggiustamenti è a dir la verità ma insomma rimarrà il suo impianto fondamentale in vigore fino alla rivoluzione scientifica quella seicentesca insomma fine 500 inizio 600 che nasce si sviluppa in prima battuta come rivoluzione astronomica ma poi il modello aristotelico durerà sopravviverà la stessa rivoluzione per così dire il modello odierno è figlio di quella rivoluzione ma lo abbiamo visto a proposito di Einstein conserva ancora degli elementi filosofici di Aristotele quindi vediamo la definizione di tempo e di spazio il tempo è legato al divenire poiché è la misura del divenire delle cose secondo un prima e secondo un poi cioè se non ci fosse il divenire se non ci fosse il movimento non ci sarebbe nemmeno il tempo che non è quindi una costante indipendente dal movimento delle cose è semplicemente la misura delle cose ma la misura delle cose ovvero il misurare delle cose presuppone una mente che sia in grado di misurare questa è la condizione imprescindibile del tempo quindi il tempo trova la propria formulazione nell'anima cioè si dà il tempo dal punto di vista del soggetto conoscente è l'uomo che misura il tempo è una dimensione soggettiva soggettiva nel senso che riguarda il soggetto conoscente ma non è del tutto relativa perché questa dimensione soggettiva serve a darsi conto a misurare qualcosa di oggettivo ovvero il cambiamento il mutamento lo spostamento il mondo in sé per sé è del tutto eterno quindi non c'è un tempo ulteriore essendo del tutto eterno non ha nemmeno senso parlare di cosmogonia Platone aveva elaborato una sua cosmogonia lo abbiamo visto con il mito del Demiulgo di cui parla nel Timeo e questa cosmogonia prevedeva una preesistenza di una cosiddetta Cora ovvero uno spazio vuoto riempito da materia materia bruta per così dire e il mondo delle idee dualisticamente separato da questa materia ma unito da questo grande mediatore che è l'artigiano divino il Demiulgo che ha gli occhi fissi nel mondo delle idee e che grazie a questi modelli eterni forgia plasma la materia bruta creando gli oggetti quindi trasferendo la forma ideale nella materia bruta della Cora e creando gli oggetti naturali per così dire quindi questo prevede questa mediazione tra il mondo delle idee e il mondo terrestre quindi il dualismo platonico ha bisogno di questa mediazione quindi ha bisogno di una cosmogonia cioè di una giustificazione il mondo di Aristotele invece non ha bisogno di alcuna giustificazione è assolutamente eterno concluso in se stesso esiste da sempre esisterà per sempre non ha storia è parte integrante della fisica aristotelica anche la teoria dell'anima quindi la psicologia nonché la gnosiologia quindi la psicologia è la scienza la disciplina che studia l'anima la psichi la gnosiologia l'abbiamo già definito questo concetto è la scienza che studia il funzionamento della conoscenza gnosis cioè le modalità di conoscenza da parte del soggetto conoscente degli oggetti conosciuti cioè come funziona l'approccio tra la psiche e l'anima dell'uomo la sensibilità dell'uomo e gli oggetti che entrano in contatto con la stessa quindi il cosiddetto fenomeno della conoscenza quindi capite come psicologia e gnosiologia siano strettamente intrecciate strettamente interrellate tra di loro l'anima per Aristotele e a differenza di Platone è incorporata nella materia forma della materia atto rispetto alla potenzialità della materia che costituisce il corpo il corpo il corpo in sé per sé è materia dunque potenza ad essere animata ad essere vita l'anima è l'attualità ovvero quella che Aristotele definisce l'entelechia ovvero l'atto primo di un corpo che ha la vita soltanto in potenza il corpo è potenzialità la vita l'anima è l'attualizzazione l'attuazione di tale potenzialità ricordatevi che il concetto di essere in potenza di essere in atto questa coppia di concetti è funzionale alla comprensione di tutte le branche della filosofia aristotelica dell'enciclopedia delle scienze aristoteliche quindi è veramente il concetto che fa da light motive da fil rouge a filo rosso che lega insieme tutte le varie branche del sapere aristotelico o la chiave di lettura comune chiamatela come mi pare quindi l'anima è integrata nel corpo è un tutt'uno con il corpo un'altra definizione che da aristotel è su in olon un tutt'uno l'abbiamo già studiato quindi l'uomo è un tutt'uno su in olon di psiche e di somma di anima e corpo differenza significativa sia rispetto alla visione del maestro Platone che di anima aveva parlato nel senso orfico pitagorico l'anima come entità assolutamente separata dal corpo immortale eterna che va incontro a tutta una serie di vicende mitiche o meno ma insomma l'anima come principio immortale è slegata dal corpo si incarna può incarnarsi ma tende sostanzialmente almeno l'anima del sapiente o quella degli dei a disincarnarsi perché la sua vera natura è altra è il suo luogo di provenienza è l'iperuraneo è quel mondo delle idee che è slegato per così dire è altro rispetto alla terra non è esatto dire slegato è altro rispetto alla terra ma ha un legame piuttosto significativo legame piuttosto significativo che Platone in tutte le maniere si sforza di giustificare in particolare nelle opere della vecchiaia come abbiamo visto allora quindi il modello aristotelico è invece un modello immanente l'anima è nel corpo è qui sulla terra è un tutt'uno con il corpo ed è rispetto al corpo però l'atto la forma quindi differenza significativa con Platone da una parte ma anche differenza significativa con il modello psicologico democriteo quello materialista per cui l'anima era considerata una forma del corpo sostanzialmente l'anima è materiale è fatta di materia come il corpo quindi è fatta di atomi atomi che hanno caratteristiche diverse nel senso sono atomi particolarmente sottili atomi caldi il respiro è caldo è un'osservazione abbastanza semplice il corpo morto si raffredda l'anima e invece il calore sono segni della vita dunque l'anima che cos'è? l'anima è un grumo un flusso per così dire di atomi caldi e particolarmente sottili particolarmente ergeriche pervade tutto il corpo e la morte quella che noi chiamiamo morte non è altro che il dissolversi lo slegarsi della consistenza dell'unitarietà di questi atomi più sottili rispetto agli atomi più pesanti che formano i muscoli le ossa e così via quindi la morte è disgregazione mentre l'aggregazione è sinonimo di vita ecco qui che cosa abbiamo? abbiamo il ricondurre il ricondurre la sostanza dell'anima a qualcosa di assolutamente compatibile con il corpo è una variante del corpo è corpo mentre in platone abbiamo un dualismo assoluto ecco Aristotele afferma in ambito psicologico una posizione ulteriore una terza posizione per così dire che è più integrata di tipo potremmo dire noi oggi organicistico rispetto a quello mistico di Platone e a quello invece materialistico di Democriti tre sono le funzioni dell'anima ma qui ci aiuta anche ricordare la psicologia platonica anche Platone aveva parlato di tre parti dell'anima la bigalata che è tripartita ricordate il cavallo bianco e il cavallo nero e l'auriga e l'auriga che rappresenta la parte razionale quella che qui nella diapositiva che rappresenta la visione psicologica di Aristotele è indicata con intellettiva poi c'è il cavallo bianco che è l'anima per così dire sensitiva qui più o meno non c'è una corrispondenza assoluta ma insomma rappresenterebbe per Platone il thorax cioè la sede del coraggio e dei sentimenti più elevati poi c'è l'anima quella che presiede le funzioni neurovegetative diremmo noi oggi il cavallo nero per così dire allora l'anima vegetativa presiede alla nutrizione e alla riproduzione quindi qui la possediamo in comune con gli animali e con i vegetali con gli stessi vegetali che sono comunque delle creature vive quindi sono animate in un certo senso perché? perché si nutrono evidentemente si riproducono una caratteristica fondamentale della vita è proprio la riproduzione poi c'è l'anima sensitiva che contraddistingue anche gli animali quindi che noi abbiamo in comune anche con gli animali che presiede alla sensibilità al movimento ovvero gli animali si nutrono e si riproducono ma a differenza delle piante che sono fisse le piante in genere non camminano gli animali invece si muovono cioè per provvedere a nutrizione e riproduzione debbano muoversi quindi hanno una sensibilità diversa e poi c'è in ultima istanza caratteristica questa specifica dell'essere umano l'anima intellettiva quella che presiede alle facoltà conoscitive superiori quindi l'intelligenza del mondo la comprensione del mondo la capacità di elaborare attraverso prima l'immaginazione poi l'intelletto di elaborare dei concetti astratti quindi di conoscere intellettualmente il mondo ecco l'anima dell'uomo è un tutt'uno integrato che comprende in sé anche la parte vegetativa così come la parte sensitiva quindi non si tratta di tre funzioni staccate di tre anime staccate si tratta di un tutt'uno organico come funziona la conoscenza quindi adesso parliamo di gnosiologia allora qui la visione di Aristotele è di tipo empirico in un certo senso abbiamo visto come l'empiria cioè l'esperienza fosse importante anche per Platone ma era comunque subordinata alla conoscenza delle idee a che serviva l'esperienza beh serviva a stimolare a stimolare le idee già presenti nell'anima del soggetto conoscente le idee sono innate sono innate perché l'anima del soggetto conoscente le ha contemplate nel mondo iperuranio cadendo sulla terra per così dire le ha dimenticate in un certo senso ho bevuto l'acqua Lete l'acqua del fiume Lete del Lanzano della dimenticanza e l'empiria l'esperienza degli oggetti che assomigliano alle idee consente al soggetto conoscente di ricordare infatti la conoscenza del Platone è ricordo Ramnesi di ricordare le idee che sono per l'appunto innate Aristotele invece ha una prospettiva squisitamente empirica interessante è una visione anche qui integrata eccessiva parte empirica e quella intellettiva però il punto di partenza è proprio la sensibilità all'empiria ovvero quello che conosciamo lo conosciamo attraverso i cinque sensi la vista l'udito l'olfatto eccetera più il cosiddetto senso comune il sesto senso che non è quello delle donne ma è quello che hanno tutti gli esseri umani che è una sorta di somma dei cinque sensi il sapere di stare al mondo l'equilibrio in un certo senso quella che si chiama sinestesia sin sanomai estesis da qui anche estetica è la sinestesia il sesto senso cioè quello che unisce insieme prende insieme i vari sensi le varie modalità di sensibilità allora anche qui usiamo la formula atto potenza passaggio dall'atto alla potenza in effetti le nostre orecchie per così dire sono in potenza adatte ad ascoltare un suono di fatto quando sentiamo un suono abbiamo in atto il suono che diventa qualcosa che l'orecchio percepisce ma l'orecchio non percepisce il suono finché il suono stesso non si manifesta quindi in un certo senso prendiamo coscienza di avere un orecchio quando percepiamo un suono il suono è l'atto che perfeziona la potenzialità ad ascoltare dell'orecchio ma il suono a sua volta dipende dal movimento di un oggetto esterno oggi parleremmo di onde sonore che colpiscono il timpano eccetera l'immaginazione ecco l'immaginazione è una facoltà dell'anima della mente che serve a produrre evocare combinare immagini prodotte dalla sensibilità prima facciamo l'esperienza attraverso i sensi i sensi per così dire vengono impressionati rimangono delle impressioni vengono impressionati dai dati sensibili dagli oggetti esterni e lasciano delle tracce scrivono delle mappe sensibili nella nostra immaginazione l'immaginazione è quella che ci consente di pensare di appunto di avere a che fare con le immagini ma immaginazione è la traduzione latina di un'altra facoltà in greco si dice fantasia mentre in italiano utilizziamo sia fantasia che immaginazione e quindi i fantasmata i fantasmata sono le immagini in italiano immagine deriva dal latino imago fantasma poi noi intendiamo con fantasma un'altra cosa ma insomma in greco i fantasmata sono le creazioni della fantasia sono le produzioni della fantasia cioè gli atti immaginativi ovvero quegli atti con cui noi ricreiamo vediamo nella nostra mente quegli oggetti sensibili che in quel momento però non sono più presenti ai nostri sensi quindi ricordiamo che ne so il volto di una persona ricordiamo il gesto di una persona il tono di voce il colore del cielo eccetera eccetera in ultima istanza a chiudere diciamo il processo conoscitivo quindi siamo partiti dalla sensibilità siamo passati per l'immaginazione arriviamo all'intelletto che cos'è l'intelletto che funziona all'intelletto beh alla funzione dell'anima razionale di Platone cioè astrae tira fuori astrarre significa questo la forma intellegibile dalle dalle immagini sensibili che sono state ricavate prima dai sensi e poi dall'immaginazione cioè tira fuori l'idea il concetto che dunque lo vedete in Aristotele ha una sua valenza conoscitiva cioè noi conosciamo le idee conosciamo le forme le immagini delle cose ma questo non significa che le cose e che le immagini delle cose che le idee abbiano una loro consistenza ontologica separata dalle cose stesse l'idea rientra nel processo conoscitivo ma riguarda soltanto la sfera gnosiologica linguistica non la sfera ontologica in sé o meglio anche quella ontologica ma nel senso che le forme sono un tutt'uno con gli oggetti del conosciuti la forma del cane è un tutt'uno con quel cane lì in particolare che io percepisco attraverso i cinque sensi sento abbaiare vedo sconinzolare vedo muoversi quando non è presente in quel momento me lo posso immaginare lo rievoco la memoria per così dire ma poi posso in ultima istanza attraverso l'intelletto ricavarmi l'idea di cane attraverso un processo di astrazione idea di cane che poi non è applicabile solo a quel cane lì in particolare ma è applicabile a tutti i cani o a tanti cani diversi e l'intelletto fa dell'uomo appunto un animale razionale i cani il cane di prima o gli altri animali non hanno la facoltà intellettiva ora per quanto riguarda l'intelletto e concludiamo qui il nostro discorso anche qui al suo interno per così dire Aristotele utilizza ancora una volta il concetto rideclina per l'ennesima volta la chiave di lettura del passaggio dalla potenza all'atto nello schema precedente c'è una gerarchia la gerarchia è sempre potenza atto potenza atto potenza atto dalla sensibilità all'immaginazione fino all'intelletto a sua volta l'intelletto che è quello che produce per astrazione i concetti le idee si divide in intelletto passivo e intelletto attivo allora vediamo questa mappa in maniera puntuale il concetto esiste nella realtà sensibile solo a livello potenziale quindi ancora non è in atto c'è bisogno dell'intelletto per tradurlo in atto cioè la forma cane esiste in potenza nel cane quando io percepisco il cane quel cane lì potrei non è detto che lo faccia potrei astrarre da quelle impressioni sensibili l'idea di cane per far sì che l'idea di cane si formi nella mia mente è necessario passare dalla potenzialità già presente nel sensibile all'attualità all'attualità e in questo consiste la conoscenza l'attualità si dà nell'intelletto ma l'intelletto quello che è presente nella mente di ciascuno di noi quindi il singolo individuo è una sorta di tabula rasa cioè è una sorta di schermo ecco immaginatevelo così è una sorta di schermo sul quale viene proiettata l'idea l'immagine la forma astratta di quella cosa lì che abbiamo percepito attraverso i sensi che poi abbiamo rielaborato attraverso l'immaginazione ma per scrivere su questo foglio bianco o per proiettare su questo schermo bianco l'immagine di cane cioè la forma cane l'idea cane c'è bisogno di un meccanismo ulteriore che non appartiene al singolo individuo cioè il singolo individuo ha in sé lo schermo ma chi proietta il film per così dire o la mano di colui che scrive di quella funzione che scrive che va a digitare sulla tabula rasa sul foglio bianco per usare l'altra metafora è collettiva è ulteriore non è individualizzata è individualizzato il foglio ma non è individualizzata la mano quindi l'intelletto attivo che è in grado di attuare le potenzialità dell'intelletto potenziale è staccato è ulteriore Aristotele dice è separato è impassibile non è commisto e ha tutte le caratteristiche della divinità cioè non muore immortale eterno e così via e qui rimane aperto un problema che Aristotele non chiarisce a meno nelle sue opere non ne parla ma poi sarà sentito in maniera particolare dagli studiosi di Aristotele nel medioevo prima dai filosofi arabi da Verroè in particolare che dedicherà delle pagine importanti sul tema del rapporto tra intelletto attivo e intelletto passivo e poi da Tommaso e dalla scolastica cristiana che associeranno in qualche maniera l'intelletto attivo aristotelico alla mano di Dio ecco all'intervento divino ecco quindi poi sono possibili soluzioni più o meno laiche o più o meno diciamo religiose in ultima istanza se le cose stanno così e le cose stanno così come le abbiamo descritte stando le opere di Aristotele per Aristotele non ha senso parlare di immortalità dell'anima nel senso che l'anima individuale muore con il corpo è una funzione collegata con il corpo è altra rispetto al corpo probabilmente ma è un tutt'uno con il corpo quindi è organicamente presente con il corpo si dà con il corpo un po' lo stesso concetto che vede lo spazio integrato nell'oggetto come fai a distinguere l'oggetto dallo spazio come fai a distinguere il suono dalla capacità di percepire il suono attraverso le orecchie si danno in maniera sinergica sincronica per così dire allora l'anima in questo senso la mia anima la tua anima cioè l'anima individuale è mortale finisce con il corpo le sostanze sono soggette a generazione e corruzione quello che non è mortale che dura in eterno è l'intelletto attivo che però è super individuale cioè non appartiene a questo o a quel soggetto non è l'anima di Platone che mantiene una sua individualità anche nel mondo iperuranico è un concetto per così dire collettivo e questo poi prevederà una serie questa visione aristotelica mal si concilia per alcuni versi con la visione cristiana dell'importanza della persona del concetto di persona a cui si collega l'anima individuale dunque sarà in qualche maniera rivisitato riformulato secondo le categorie del cristianesimo e con questa battuta ci fermiamo un po'